Diamo inizio al Consiglio Comunale, buonasera a tutti, passo la parola al segretario per l'appello. Ok, ci siamo. Buonasera a tutti. Pugnaloni Simone. Presente. Campanari Giorgio. Presente. Paolella Frida. Non funziona l'audio. Sì, sì, infatti. Eccomi, ci sono, presente. Ok, Gallina, Fiorini, Diego. Presente. Canapa, Matteo. Presente. Presente. Luna, Massimo. Presente. Invernizzi, Filippo. Non funziona l'audio. Ecco, adesso sì, presente. Ok, Maggiori Renata. Maggiori Renata. Eccomi, adesso. Gombi Cecilia. Video non ce l'ho però. Un attimo segretario che li devo attivare uno per uno, eh. Presente. Feliciani Michele. Presente. Vignoni Daniele. Vignoni assente. Assente Vignoni. Allora, assente. Ricci Ruben. Lo vedo e non lo sento. Ok. Spilli Tommaso. Lo vedo. Presente. Ok. Brandoni Giorgio Maria. Presente. Ok. Rossi Filippo. Presente. Palazzini Graziano. Palazzini non c'è, collegato. È assente. Simoncini Stefano. Presente. Bordoni Monica. Non sento l'audio. Presente, no, non era attivo l'audio, ok. Adesso si è riattivato. Presente. Benissimo, Antonelli Sandro. Prima l'ho visto, eccolo là. Presente, presente. Ok, Bottegoni Lorenzo. Assente. Assente. Ara Comadi uguale. Donia Caterina. Presente. Ginnetti Achille. Presente. Alessandrini Passarini e Alberto Maria. Presente. Quattro assenti, ventuno presenti, la seduta è valida, cedo la parola al presidente. Grazie segretario. Iniziamo il consiglio comunale con il punto numero uno all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Non ci sono comunicazioni. Ok. Grazie. Passiamo subito allora al punto numero due, che so che è la comunicazione, deliberazione, corte dei conti, sezione regionale di controllo per le marche, numero 84 del duemilaventuno. Questo punto è stato inserito all'ordine del giorno per informare il consiglio comunale della deliberazione dei conti in merito, della deliberazione della corte dei conti in merito al rendiconto duemiladiciotto. Tutti voi consiglieri l'avete nel portale e avete potuto vedere che non ci sono sanzioni, ma avete letto sia i rilievi da parte della corte dei conti, sia le raccomandazioni che fa al comune di Osimo. Bene, adesso passiamo al punto numero tre, all'ordine del giorno, che sono le interrogazioni, interpellanze e emozioni. La prima interrogazione è del consigliere Achille Ginnetti, in ordine ad adeguamento del regolamento edilizio comunale al decreto legislativo 48 del duemilaventi sulla prestazione ed efficienza energetica. Consigliere, vado a leggere l'interrogazione e poi passo la parola al sindaco per la risposta. Il consigliere comunale Achille Ginnetti interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per conoscere se sia stato predisposto o si stia predisponendo, seppur oltre i limiti di legge del nove dicembre duemilaventi, la modifica del regolamento edilizio comunale da sottoporre al consiglio comunale per l'adeguamento dello stesso al decreto legislativo numero quarantotto duemilaventi in materia di ricarica dei veicoli elettrici negli uffici. Prego sindaco, può rispondere. Sì, ringrazio il consigliere Achille Ginnetti per questa interrogazione. Come lui sa, noi stiamo come obiettivo di mandato, stiamo pensando alla nuova variante al piano regolatore. Non si sente? Mi sentite? Sì, la sentiamo sindaco, prego. Ecco, dicevo ringrazio il consigliere comunale Ginnetti per questa interrogazione perché noi siamo molto attenti sempre alle normative che di giorno in giorno vengono approvate e cerchiamo di stare al passo coi tempi. Ciò che il consigliere Ginnetti ci chiede fa parte di un progetto più importante che è quello di andare a pianificare il piano regolatore del futuro. Come scelta l'amministrazione sta pensando che invece di pensare solo al disegno del suolo, il piano regolatore si debba comporre di diversi strumenti di pianificazione, tra i quali il piano delle energie. Questo invito che fa il consigliere Ginnetti e che fa la legge dello Stato verrà preso in considerazione quando si parlerà di efficientamento energetico, di piano delle energie all'interno proprio dello strumento che poi è attuativo che è il regolamento di edilizio comunale. E ogni sette anni si aggiorna a seconda delle nuove normative che ci sono, quindi noi conosciamo il testo della legge che il consigliere Ginnetti ha proposto, però vorremmo fare un discorso, proporre al consiglio comunale un discorso molto più organico, nel senso che assieme al piano delle energie, il piano del verde, il piano della mobilità sostenibile, il piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche, tutti questi saranno strumenti che si legano in maniera indossolubile alla nuova pianificazione urbanistica al territorio. E quindi credo che risponderemo positivamente all'appello del gruppo Progetto Osimo, lo faremo però in un progetto più organico. Conosciamo, ci sono state anche delle buone pratiche nei centri commerciali perché l'installazione della colonia elettrica è in particolar modo rivolta alle strutture industriali, non residenziali, mentre per le strutture residenziali se ne richiede la predisposizione. Ecco, su questo ci sono delle buone pratiche iniziate sul territorio di Osimo, però vorremmo che siano proprio prescrizioni importanti che dona la nuova variante al piano regolatore per la città. Quindi la risposta è ci stiamo lavorando, abbiamo costituito un gruppo di lavoro e l'obiettivo dell'amministrazione è costruire il PRG del futuro, non solo con i cittadini, anche con le categorie produttive ed anche con le opposizioni minoranze attraverso la consulta e attraverso la commissione competente. Grazie. Grazie sindaco. Consigliere Ginnetti, prego. Un attimo, consigliere, non ha l'audio attivato. Ok, prego. Posso parlare? Ringrazio il sindaco per la risposta e per l'esposizione di questi progetti, del progetto del piano energetico, ma non vorrei che nell'immediato o nel breve termine fossero soltanto buone intenzioni, le quali, come ricordiamo, lastricano sentieri che non ci piace percorrere. Sta di fatto che la norma a cui faccio riferimento è una norma, è un decreto legislativo dello scorso giugno, il termine era previsto di 180 giorni per l'adeguamento dei regolamenti edilizi e riterrei per le norme tecniche d'attuazione. Credo che in questo Consiglio Comunale, che ormai frequento ininterrottamente da quasi vent'anni, sono avvenuti diverse volte, in diversi momenti, delle proposte di modifica del regolamento edilizio, anche per argomenti e per interventi di ben minore importata e importante. L'adeguamento di questi regolamenti edilizi credo che sia urgente, perché al di là di un piano generale sulla, diciamo, sull'energia, sul risparmio energetico, energie alternative, sulle quali si trova assolutamente d'accordo, come credo tutti quanti i consiglieri comunali, i gruppi presenti in Consiglio Comunale, e saremo disponibilissimi a dare per quanto possibile il nostro contributo. Però rimane attualmente l'impressione che siamo molto lontani da questo scenario, di uno scenario che ci indica che ancora Dossimo deve muovere i primi passi verso quello che è una mobilità alternativa, la mobilità elettrica, eccetera. Sicuramente è importante anche la promozione di una cultura del riuso, del riciclo, del risparmio delle materie prime, dell'acqua, dell'energia elettrica, del suono e tante cose, ma oltre a consegnare le scatole alle scuole elementari, che ripeto in quest'ottica va benissimo, credo che il Comune, l'amministrazione debba fare a breve anche degli interventi, ad esempio con l'installazione delle colonnine elettriche, ricordava il sindaco delle colonnine all'interno del parcheggio di Sicontè, ma ricordiamoci invece che quelle che sono installate all'interno del maxiparteggio comunque c'è l'obolo di due euro per andare a ricaricare, e questo sicuramente si somma al prezzo della ricarica. Poi c'è l'aspetto che ci sono anche delle cittadine e dei comuni a noi vicini, parlo di Castelfidardo, che ha sei ricariche con doppio allaccio, quindi dodici punti di allaccio per la ricarica di veicoli elettrici. A 10 sono dodici colonnine, sempre di N e l'X, che fanno 24 pure punti di ricarica, e addirittura ad Amandola, Amandola, che è una piccola cittadina di poco più di 3.000, un paesino di 3.000 abitanti, hanno addirittura 5 colonnine. Credo che, lo vediamo tutti i giorni da questa pubblicità televisiva, ormai l'investimento delle case automobilistiche, addirittura sulle auto full electric, sia una realtà. Credo che Osimo sia ancora molto indietro di aver capito le possibilità, di aver capito le opportunità e di aver compreso appieno quale dovrebbe essere un nuovo scenario per quanto riguarda, ad esempio, la mobilità elettrica. Abbiamo fatto anche un'altra, insieme al consigliere Alessandrini, abbiamo una mozione in proposito, che in questo momento appunto la mancanza di rendere prioritarie, al di là assolutamente dell'impegno per fare il piano energetico collegato al piano regolatore, alla revisione del piano regolatore, sicuramente è positivo, ma bisogna fin d'ora avvicinarsi, prendendo delle decisioni e promuovendo gli interventi che ci portino veramente verso un modo di vivere e un modo di spostarci completamente differente dall'attuale. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Ginnetti. Come sapete il principio dell'alternanza dei gruppi consigliari vale anche per le interrogazioni, quindi la prossima interrogazione è quella dei consiglieri comunali Simoncini e Bordoni, in ordine ad affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Allora, consigliere Simoncini, vado a leggere l'interrogazione. Si chiede di conoscere se detto studio comparativo è stato prodotto dall'ATA ed a chi è stato affidato. In caso di gara ad evidenza pubblica, che cosa avverrà dei dipendenti Astea settore igiene urbana e quali garanzie sindacali per la tutela dei diritti acquisiti? In caso di gara ad evidenza pubblica, cosa avverrà del personale amministrativo in carico al settore igiene urbana di Astea? Se l'isola ecologica ed il centro di smistamento rifiuti da raccolta differenziata e il centro del riuso manterranno le loro funzioni anche in caso di vittoria di un privato della gara d'ambito, a che punto sono le decisioni dell'Assemblea dei sindaci in materia di affidamento del servizio di raccolta rifiuti, il costo procapite per ogni cittadino del servizio di raccolta rifiuti nei comuni di Osimo, Senigallia, Iesi, Falconara Marittima, Camerano e Castelfidardo, il numero di addetti al servizio di raccolta rifiuti nei turbini, a tempo determinato e indeterminato, e personale amministrativi negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Prego Sindaco per la risposta alla parola. Eccomi, allora ringrazio i consiglieri Bordoni e Simoncini per poter fare un po' di chiarezza sulla questione rifiuti, che è una questione importante per tutti noi, a prescindere dalle appartenenze politiche, dalle posizioni della maggioranza e minoranza, c'è un punto fermo per tutti i sindaci della provincia di Ancona, l'affidamento in house. Siamo da tempo incontrandoci con tutti i sindaci di ogni estrazione politica per capire come arrivare all'affidamento in house. Intanto lo studio che è stato prodotto dall'Ata è stato commissionato da una società di consulenza che per oggetto sociale svolge questi compiti in giro per l'Italia, è una delle più qualificate. Ha eredato uno studio che ha portato a due obiettivi. L'Ata ha deliberato le forme di gestione dei rifiuti concordate con tutti i comuni, quindi le modalità di svolgimento del servizio in tutti i comuni, e ci siamo ritrovati poi alla fine d'accordo sulla corta differenziata e poi ha deliberato il piano economico finanziario con l'affidamento in house. I ricorsi che ci sono stati hanno decretato che intanto la nostra società Ecopan ha fatto tutto quello che doveva fare in maniera conforme alla legge e ha indicato una strada a viva servizio. Che cosa si è sviluppato in queste ultime? Nessuno perderà il posto di lavoro, i servizi e accessori non verranno smantellati, a che punto sono i sindaci con la decisione finale? Siamo al punto che abbiamo concordato un percorso che per i 28 comuni in cui non c'è un affidamento in house si va verso una deliberata che avvia il percorso di gara in generale, ma si sancirà nel deliberato che se dovesse pervenire una candidatura in house il percorso si stoppa e ci sarà l'affidamento in house della gestione dei rifiuti. Da chi verrà questa proposta? Il dibattito negli ultimi mesi ha portato ad un ragionamento che oltre ad Ecopan e viva servizi si è chiesto di far partecipare anche gli altri gestori pubblici che operano attualmente sul territorio della provincia d'Ancona. Abbiamo il CIS che copre la bassa e alta Vallesina e la società Iesi Servizi che pari grado ad Astea svolge il servizio su Iesi. Iesi Servizi ha dato la sua disponibilità e il CIS si ritroverà tra qualche giorno a decidere se partecipare attraverso il Viva Servizi o attraverso il CIS. Viva Servizi è la società che racchiude tutti i comuni potrebbe racchiudere tutti i comuni meno che i comuni a gestione Ecopan. Quindi ci siamo quasi. La proposta nei prossimi mesi arriverà solo che non potendo più prorogare dopo il 31 maggio le attuali gestioni parlo dei comuni non in house allora si deve fare un procedimento di avvio della gara avvio della gara significa una comunicazione che può essere fermata in ogni momento non vuol dire deliberare la gara però nel deliberato c'era scritto che qualora sopravvenisse una proposta di candidatura per l'affidamento in house si stoppa tutto e si delibera per l'affidamento in house quindi siamo in una fase diciamo positiva dopo una discussione importante tra i comuni dove non c'era un soggetto privato e dove scusa dove c'era un soggetto privato dove non c'era c'erano le gestioni di affidamento in house Osimo non ha problemi da questo punto di vista quindi Osimo ha deliberato è stato deliberato l'affidamento fino a che non ci sarà una gestione in house quindi prosegue tranquillamente però ci siamo detti con tutti i sindaci che entro l'anno ci dovrà essere la svolta dell'affidamento in house il costo di rifiuti pro capite diciamo il costo più alto perché qualcuno spingeva su Falconara per accelerare la gara o altra modalità perché il costo più alto lo abbiamo a Falconara Mariti ma non possiamo parificarlo a Camerano e Castelfidardo perché sono due comuni più piccoli di noi mentre su differentemente siamo in maniera quasi paritetica per quanto riguarda il costo pro capite quanto riguarda il numero di addetti al servizio di raccolta rifiuti a tempo determinato in determinato personale amministrativo diciamo che ha avuto un incremento importante tra il 2013 e il 2014 e poi per diversi pensionamenti vari un altro incremento importante c'è stato tra il 2000 nell'anno 2019 e primi mesi del 2020 in questo momento è in corso diciamo un nuovo concorso per operatori ecologici semplici e per autisti grazie sindaco consigliere Simoncini prego sì mi dichiaro completamente insoddisfatto della risposta perché intanto io volevo i dati relativi ai costi dei comuni a noi vicini e non è vero che Castelfidardo è un comune totalmente diverso per quanto riguarda il numero di abitanti per quanto riguarda la conformazione del territorio da Osimo perché si avvicina pur sempre a 20.000 abitanti e poi volevo il numero dei dipendenti cosa che il sindaco ovviamente ha glissato perché sa bene che c'è stato un macroscopico incremento di assunzioni ad Astea negli anni delle sue amministrazioni secondo me non io non starei così tranquillo se l'Ata fa una fa una norma anzi fa una deliberazione scusate me si sta staccando il tablet fa una deliberazione che dice facciamo la gara pubblica ma se viene una proposta in house vale la proposta in house quando si fa una gara pubblica la proposta in house può andare se solo se è migliorativa della proposta che è pervenuta tramite la gara e quindi in questo senso secondo me non va cioè non va bene una una deliberazione di questo tipo e soprattutto secondo me vista come è fatta la norma non starei così tranquillo sul fatto che l'in house possa essere applicato to cure soprattutto in un in un ambito scusate dove ci sono tantissime società che fanno la raccolta perché se avessimo un'unica società che fa la raccolta in tutti i comuni beh allora eh si si poteva anche fa si poteva anche pensare a una raccolta in house soprattutto se lo studio è prodotto dall'ata e questa cosa il sindaco non l'ha detta nella sua risposta se lo studio proposto è promosso dall'ata evidenziava che il servizio in house era più conveniente del eh del della gara della gara e siccome questo siccome questo non scusatemi ma c'ho il tablet che si sta scusatemi ma c'ho il tablet che si sta facendo le pizze e siccome questo dato noi non lo conosciamo e evidentemente non lo conosce nemmeno il sindaco perché non ce l'ha riportato e noi non possiamo stare così tranquilli perché laddove eh un soggetto terzo che voresse eh partecipare alla gara fa un ricorso e ehm dimostra che il la sua attività è più è economicamente più vantaggiosa rispetto a al conferimento in house ebbene quella 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 società secondo me che non sono un giurista ma quella società ha ottime probabilità di di vincere un ricorso al TAR ehm appunto perché è perché lo studio che l'ATA doveva predisporre deve dire se si va in house che quel servizio è migliorativo sia in termini qualitativi che quindi di servizio stesso che economici che ehm rispetto appunto a un servizio messo a gara per cui mh concludo eh che forse l'ho fatta anche troppo lunga che non sono soddisfatto di questa risposta uno per eh le ragioni di ottimismo rispetto a quanto sta mh deliberando l'ATA del sindaco perché io non sarei così tranquillo secondo perché eh ha omesso di dire ehm i dati che io ho chiesto estremamente precisi e puntuali e che di cui volevo la risposta grazie grazie a lei consigliere Simoncini la prossima interrogazione del consigliere Ginnetti è presente sì consigliere Ginnetti ok vado a leggere l'interrogazione il consigliere Ginnetti interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per conoscere innanzitutto l'oggetto è interrogazione sulla variante a nord il consigliere Ginnetti interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per conoscere quando verrà bandita la gara d'appalto per la progettazione delle due opere finanziate con i fondi ministeriali se tale progettazione può essere realizzata dai tecnici comunali se è presente in comune un progetto preliminare di una strada di collegamento tra via Ancona e via Sbrozzola e se il percorso corrisponde a quanto riportato nella variante al PRG 2005 tratteggio azzurro viabilità di previsione futura se si ritiene fattibile che al vincitore del bando per la progettazione delle due infrastrutture viarie possa venire chiesto come progetto migliorativo il progetto preliminare di tutta la variante a nord come più volte dichiarato dal sindaco se il percorso del tratto rotatorio a Coccinelle via Chiaravallese via Ancona della strada di bordo a nord corrisponde a quanto riportato nella variante al PRG 2005 tratteggio azzurro viabilità di previsione futura se il progetto della strada di bordo a nord dei primi anni 90 può essere ancora attuale e utile per la realizzazione di questo importante tratto di strada se non si ritiene prioritario condividere la progettazione preliminare dell'opera con la cittadinanza soprattutto per quanto riguarda il percorso l'impatto acustico la salvaguardia paesaggistica il rispetto ambientale e quanto altro se quest'opera strategica per la città possa essere effettivamente finanziata con i fondi del recovery fund come dichiarato dal sindaco entro quanto tempo il comune verrà in possesso del rilievo aereo fotogrammetrico propedeutico alla progettazione della strada di bordo e all'annunciata ulteriore variante al PRG prego sindaco può rispondere ringrazio il consigliere Ginetti per la possibilità che mi offre di rispondere a questa interrogazione intanto quando verrà bandita la gara d'appalto la gara d'appalto verrà bandita entro giugno ci stanno lavorando perché i 3 milioni e 100 che sono arrivati grazie al governo Ceriscioli sono stati già versati nelle casse comunali un anticipo del 10% proprio per fare la gara di progettazione è una gara complessa quindi rispondo anche alla seconda domanda non potevano essere interessati i tecnici comunali lei sa che stiamo lavorando per incrementare le risorse all'ufficio tecnico sono rimasti in pochi per fortuna sembra aver partecipato un buon numero di persone alle mobilità che abbiamo pubblicato per quanto riguarda il settore ufficio tecnico tra i quali diversi ingegneri quindi ci fa piacere il dirigente poi li selezionerà e quindi potremmo incrementare il numero di dipendenti però la progettazione era molto complessa una progettazione molto complessa perché perché ci sarà da chiedere un parere di esclusione dalla via un parere di VAS e quindi ci vogliono professionisti in grado di portare avanti tutte queste analisi se è presente in comune un progetto preliminare di una strada di collegamento da Biancone via Sbrozzola esiste una proposta dell'allora ingegner Mancini però non esiste il tracciato sul PRG abbiamo un tracciato tratteggiato cioè un'indicazione futura e quindi con chi vincerà la gara di progettazione ci offrirà il progetto ci darà titolo per andare in consiglio comunale per apporre sul PRG il tracciato se si ritiene fattibile è il vincitore del bando un progetto migliorativo come più volte dichiarato dal sindaco il sindaco che ha voglia di fare dichiara questo perché le gare di appalto si dividono in due o al massimo ribasso o economicamente più vantaggiose nelle gare economicamente più vantaggiose si può si possono richiedere delle proposte migliorativi e pertinenti che possano dare un punteggio a chi vince quindi ci sarà nell'offerta economicamente più vantaggiosa un doppio punteggio sia sull'offerta economica ribasso sia su un'opera migliorativa dalle opere migliorative si potrà io penso e spero che si potrà costruire un progetto di viabilità più importante quello sognato da tempo da questa amministrazione che credo progetto osimo condivida dalla variante a notte la domanda se il percorso del tratto rotatorio a Coccinelli che era presi di Ancona corrisponde a quanto riportava una variante al PRG 2005 non c'è nel PRG nell'adozione preliminare del 2005 nell'adozione definitiva del 2005 non c'è la variante a notte perché l'amministrazione delle liste civiche voleva una variante a sud e quindi il progetto preliminare che verrà sottoposto a via Vasse andrà poi in consiglio comunale proprio per evidenziare il tracciato della variante a nord il progetto degli anni 90 è un progetto cartaceo non più digitalizzato e quindi è una base di lavoro uno studio diciamo può essere l'aiuto ad uno studio più generale sulla viabilità che ci piace in questo caso piace a questa amministrazione e credo al gruppo Progetto Osimo può essere una base di partenza per diciamo studiare un po' il percorso oggi perché quella degli anni 90 che stava per essere finanziata dall'amministrazione Orzetti che sarebbe stata finanziata dall'ANAS era un'opera diciamo un po' più importante rispetto alla struttura su curve di livello e a raso che vogliamo noi ma era un progetto con galleria un progetto che allora si parlava di 65 70 miliardi di vecchie lire ovvero 35 milioni di euro di oggi un progetto molto grande molto importante sicuramente mi fa piacere dalla domanda quella più che viene dopo dice se questa opera può rientrare nel recovery fund ho scritto più volte al ministro Giovannini ho scritto alla presidenza del consiglio dei ministri ho interessato il presidente della regione Acquaroli se ci sarà la possibilità come enti sono ordinati di inserire questo progetto mi hanno detto di inviare questa proposta quindi quando ne avrò notizia non avrò problemi a comunicarla al consiglio comunale e a voi tutti quando dice giustamente il consigliere Ginnetti se non si ritiene prioritario condividere la progettazione preliminare con la cittadinanza è prioritario ed è fondamentale condividere il progetto con la cittadinanza ma dobbiamo avere prima una base di partenza elaborata con una gara la base di partenza che sarà il progetto che verrà discusso con la città ma sicuramente dovrà avere il nulla osta della provincia della regione nel rispetto del PPR di tutti i vincoli sovraordinati quindi l'aspetto paesaggistico ambientale verrà valutato quando avremo un progetto preliminare in mano a sottoporre all'ente all'ente provincia entro quanto tempo invece il comune verrà in possesso del rilevo aerofotogrammetrico ce l'abbiamo ce l'abbiamo avuto col finire dell'anno abbiamo a oggi un ortofoto GIS e CAD con curve di livello sulla base del quale cominceremo a lavorare per il nuovo per il nuovo PLG che abbiamo in mente con la collaborazione dell'università e a breve comunicheremo alla città il processo partecipativo che abbiamo in mente verso il nuovo piano regolatore per la città spero di essere stato esaustivo e credo di aver risposto a tutte le domande grazie grazie sindaco consigliere Ginnetti prego grazie grazie al sindaco da risposta sì il dia di massima è stato a risposta a tutti i quesiti che presentavamo nella interrogazione tra l'altro poi questa interrogazione cade oggi 10 maggio proprio all'indomani di una polemica che si è sviluppata con la minoranza delle liste civiche riguardo proprio a uno degli aspetti che riguarda l'interrogazione stessa ovvero la possibilità che con il finanziamento per le due opere finanziate con il finanziamento per le due opere che andranno realizzate collegate al miglioramento delle avviabilità tra Osimo e il territorio vicino per l'ospedale il nuovo ospedale di rete ovvero il collegamento tra via Dancona e via Sbrozzola e la redottoria alla fine della Sbrozzola quindi se con questi finanziamenti se questi finanziamenti potevano essere impiegati anche per la progettazione il sindaco ha risposto di sì le liste civiche ma quindi io appunto riposto quanto ho letto dicevano che questo non si può fare però credo che queste due opere finanziate credo che dovrebbero quanto prima essere portate a compimento sono raccordo sindaco che condivido anche la sua affermazione che il personale tecnico degli uffici sia abbastanza ridotto rispetto alla necessità però non credo che ci sia necessità di una qualità maggiore per redigere questi progetti chiedere la via la base e così via abbiamo tecnici molto qualificati e lo sappiamo benissimo per il resto credo che si debba comunque dare una risposta anche alla cittadinanza oltre che a chi essa la rappresenta in questo assiso in quest'ambito sulla possibilità o meno di realizzare questa grande infrastruttura che per il nostro gruppo per il nostro movimento la ritiene importante pur con delle riserve soprattutto da un punto di vista di tracciato come dell'attraversamento a raso delle pendenze eccessive però sicuramente è anche di un impatto ambientale che avrebbe mitigato il più possibile però non possiamo portare avanti soltanto le idee e farci articoli su articoli e comunicati stampa è stato un cavallo di battaglia della sua campagna elettorale ma anche prima si doveva nel se si ricorda bene nel piano triennale delle opere del 2020 se non erro era già presente un impegno per un progetto preliminare della strada di bordo oggi ci troviamo in questa fase certo c'è stato il covid ci sono state tante altre tanti altri imprevisti da un punto di vista politico economico finanziario però credo che le persone la cittadinanza che già vedono con un certo scetticismo questa opera abbia finalmente venga loro chiarito veramente le idee e se e quando quest'opera può realizzarsi perché l'opera è veramente strategica è importante è diversa dalla variante di bordo a sud prospettata con l'amministrazione latini che diciamo ha una sua valenza di collegamento tra quartieri ma sicuramente è una strada a minor scorrimento veloce per le numerose intersezioni che essa prevedeva a livello di progetto cosa che questa appunto che questa ipotesi di variante a nord non avrà quindi quello che c'è necessità è di avere idee tempi e scadenze il più possibile chiare e il più possibile veramente da rispettare nell'atto del prossimo futuro grazie grazie consigliere Ginnetti passiamo adesso alle mozioni ma aveva chiesto la parola alla consigliera Donia per caso consigliera Donia è presente sì sono presente prego mi hai chiesto la parola no io non ho non ho chiesto la parola ora mi sono assentata un attimo iniziamo con le emozioni consigliera Donia allora bene quindi all'ordine del giorno come prima mozione avevo la discussione del PEBA io adesso chiedo se è possibile invece anticipare la mozione che è al 3.10 che è quella per il sostegno alle imprese da parte del comune di Osimo la motivazione sta nel fatto che si tratta di conferire della liquidità alle imprese proprio in questo momento in cui diciamo potrebbero convertire questi loro crediti di imposta in denaro contante quindi potrebbe rappresentare un elemento di urgenza ecco grazie grazie consigliera Donia quindi per il principio della rotazione dei gruppi consigliari sarebbe toccato a lei discutere la mozione lei chiede al consiglio comunale di anticipare una sua mozione esattamente la 3.10 bene grazie adesso è chiaro e metto anzi il regolamento prevede che intervengano un consigliere a favore della proposta della consiglia Donia e un consigliere contro se volete prenotarvi consigliere Gallina Fiorini prego eccomi sì stavo attivando l'audio presidente ma io credo che se la cosa è consentita dal regolamento credo di sì perché l'articolo 47 del regolamento del consiglio comunale disciplina appunto lo svolgimento delle delle mozioni è vero che al comma uno leggo occorre rispettare l'ordine di protocollo poi però c'è un altro principio al comma due che è appunto il criterio dell'alternanza che verrebbe rispettato perché toccherebbe comunque alla consigliera Donia presentare una mozione per cui se insomma è legittimo dal punto di vista regolamentare io credo che si possa accogliere questa richiesta quindi personalmente sono paurevole grazie consigliere Gallina Fiorini è legittimo perché come ha detto lei per il principio dell'alternanza discutere dovevamo discutere la mozione della consigliera Donia e lei chiede di anticipare una sua stessa interrogazione non ci sono altre richieste di intervento quindi metto la richiesta d'anticipo della consigliera Donia ai voti prego prego segretario Pugnaloni favorevole all'anticipo scusi segretario un attimo chiedo a Bruno Severini se può attivare il microfono di tutti eh infatti perché se no fatto Campanari favorevole Paolella favorevole Flamini favorevole Gallina Gallina Fiorini favorevole Canapa favorevole Luna ma Luna favorevole Invernizi favorevole Maggiori Maggiori Renata segretario è arrivato il consigliere Vignoni la saltiamo per il momento Gobbi favorevole Feliciani favorevole Vignoni favorevole Ricci favorevole Spilli favorevole Brandoni favorevole Rossi favorevole eh Palazzini assente Simoncini astenuto Bordoni astenuta Antonelli astenuto eh andiamo a Donia favorevole Ginnetti favorevole Alessandrini eh astenuto quattro astenuti gli estanti favorevoli l'anticipo è autorizzato dal collegio grazie segretario il consiglio comunale quindi ha deciso di anticipare la mozione della consigliera Donia del presidente del consiglio comunale in ordine a sostegno alle imprese da parte del comune di Osimo prego consigliera può presentare la mozione grazie presidente il complesso panorama delle agevolazioni fiscali varate negli ultimi mesi per le imprese contiene anche opportunità di sostegno al sistema produttivo da parte degli enti locali come l'acquisto di crediti e detrazioni di imposta per le aziende uno dei principali problemi del credito di imposta è quello della sua trasformazione in pronta liquidità il comune può dare un grande aiuto ad imprese commercianti artigiani per risolvere questo problema e trasformare le agevolazioni covid-19 in denaro contante l'ente comunale può adottare misure a supporto delle categorie produttive attraverso l'acquisto di crediti di imposta ma anche delle detrazioni di imposta IRPF e IRES al valore nominale quindi senza i costi che le banche applicano alle imprese l'ente potrà facilmente e rapidamente compensare i crediti di imposta acquistati con la compensazione dei suoi debiti previdenziali e tributari verso l'erario solo per fare un esempio in materia di locazioni commerciali e affitti d'azienda sono stati diversi gli interventi che hanno introdotto tax credit per le imprese che hanno subito danni a causa del covid-19 facendo una brevissima carrellata sulle misure adottate per le attività commerciali ricordo che il decreto legge cura Italia ha introdotto il credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda trasformato dal decreto legge rilancio in un credito generalizzato e tornato ad essere con i decreti legge ristori ristori bis un credito d'imposta per le aziende penalizzate dalle misure per il contenimento della pandemia che hanno provocato la limitazione o la chiusura di diverse attività economiche nelle more anche la commissione europea ha autorizzato l'incremento del tax credit al 50% per l'affitto d'azienda delle strutture turistico-ricettive e l'estensione a giugno del credito di imposta generalizzato a luglio per le attività stagionali e fino a dicembre 2020 per le strutture turistico-ricettive una normativa complessa con la quale si è tentato di dare un ristoro alle attività economiche che hanno subito danni finanziari provocati dalle misure di contenimento dell'emergenza pandemica da covid-19 applicati nel corso dei mesi con l'articolato sistema di restrizioni che si sono rese necessarie in base alla gravità dell'emergenza orbene l'ente comunale può acquistare dalle aziende al valore nominale quindi senza costi i crediti di imposta e le detrazioni di imposta che le aziende stesse hanno maturato immettendo liquidità nel sistema produttivo il comune può altresì recuperare velocemente tali flussi finanziari compensando i crediti acquistati con i propri debiti previdenziali o tributari verso l'erario a stabilirlo è stata l'agenzia delle entrate con l'interpello e la risposta numero 420 del 2020 con la quale riscontrando un quesito in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta aspettanti sui canoni di locazione ha di fatto confermato che il comune può acquistare anche crediti di imposta di altri soggetti questa è la sintesi della risposta delle entrate nel presupposto che i crediti ceduti dall'istante dai beneficiari siano effettivamente aspettanti l'ente istante può compensare i crediti di imposta sopra i richiamati utilizzando il modello F24 ordinario gli enti comunali quali cessionari possono quindi portare in compensazione i crediti di imposta comunicati dalle imprese cedenti all'agenzia delle entrate l'operazione può avvenire attraverso la piattaforma cessione crediti dell'agenzia delle entrate con un'operazione di questo tipo il comune di Osimo potrebbe trasformare velocemente in liquidità le agivolazioni covid 19 alle categorie produttive senza costi che normalmente applicano le banche tanto premesso impegno il sindaco e l'aggiunta ad approfondire attraverso gli uffici competenti la possibilità di dare un supporto finanziario ad imprese commercianti agricoltori artigiani professionisti insomma tutte le categorie produttive attraverso l'acquisto di crediti di imposta e detrazioni di imposta in base alle risultanze dell'interpello e della risposta dell'agenzia delle entrate compatibilmente con la normativa in materia e di contabilità e bilancio dell'ente comunale grazie posso anche aggiungere che oltre all'interpello che ho nominato che era il 420 c'è anche un altro interpello che è il 389 del 2020 tramite il quale l'agenzia delle entrate proprio conferma cioè ammette la possibilità che un comune possa acquistare il credito di imposta sia sui canoni di locazione sul bonus affitti sull'adeguamento degli ambienti di lavoro sull'acquisto di beni strumentari sul recupero del patrimonio edilizio sull'efficienza energetica sul sistema bonus bonus facciate impianti fotovoltaici colonnine di ricarica poi il credito di sanificazione degli ambienti e credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ecco grazie grazie consigliere Adonia apriamo la discussione ha chiesto la parola il consigliere Simoncini prego grazie presidente io credo che il PD si dovrebbe vergognare di aver votato a favore dell'anticipo di questa mozione quando il precedente consiglio comunale mi ha costretto a stare in consiglio fino alle 3 facendomi rinunciare la mattina dopo per ovvi motivi ad una seduta di fisioterapia che avevo programmata alle 8 che non sono riuscito a fare perché appunto sono andato a dormire troppo tardi si dovrebbe vi dovreste vergognare perché siete veramente scandalosi usate il regolamento come vi pare lo stirate come la pelle di quelle cose solo e sempre contro le liste civiche solo e sempre contro di noi perché per gli altri gruppi di minoranza come in questo in questo caso o per altre ragioni di maggioranza come in altri casi allora tutto è ammesso tutto è legittimo vi dovreste vergognare sulla mozione voglio dire che io ritengo questa mozione e soprattutto la ottima illustrazione che la consigliera Donia ha fatto di questo punto lo ritengo estremamente qualificante per un ente comune che voglio ricordarlo per esperienza personale non per sentito dire non ha fatto grandi cose per l'emergenza covid anzi possiamo dire che a parte qualche mascherina a parte il regalo di qualche mascherina a parte qualcosina così veramente a spot pubblicitario il comune non ha fatto assolutamente niente per aiutare professionisti ho visto che la consigliera Donia nel dispositivo ha citato anche i professionisti tra le categorie produttive la ringrazio perché sono un libero professionista professionisti imprese non avete fatto nulla in un anno e tre mesi di covid e mi auguro che vogliate approvare questa mozione e così sfruttare delle occasioni che lo Stato vi dà per questi crediti di imposta vedete io nell'anno 2020 sul 2019 ho perso 33.000 euro di fatturato va bene sapete quanto mi è stato concesso dall'ultimo decreto ristori quello così tanto pomposamente eh annunciato dal governo Draghi da tutti i partiti che lo sostengono come eh come se avessero risolto i problemi delle categorie produttive dei professionisti 1647 euro di cui il 20% lo devo dare al al commercialista che giustamente mi ha fatto la pratica più la metà che mi va quasi la metà 40% che mi va via in tasse ecco il governo eh italiano come ha aiutato i professionisti incappati purtroppo come me nel guaio del covid che ancora non lavoro dopo un anno e tre mesi e fra qualche giorno mi devo ricoverare in ospedale di nuovo per due interventi chirurgici ecco ecco perché il comune deve deve intervenire ecco perché il comune si deve far carico ecco perché il comune deve investire cento duecentomila euro dei propri fondi a bilancio per aiutare le categorie produttive i ristoranti i i bar eh le i i professionisti che hanno avuto che che hanno avuto la malattia che non hanno potuto lavorare io penso che il comune di Osimo con questa mozione ha una una via d'uscita un diciamo un approvando questa mozione può diciamo cambiare eh il il volto del suo operato pro categorie produttive colpite colpite dal covid perché fino adesso non avete fatto nulla non avete fatto nulla ed era ora che ci fosse una proposta e sono contento che l'ha fatto collega di opposizione e una proposta seria ben motivata ben illustrata con tutti i riferimenti di legge che vi ha dato la consigliera Donia per fare qualche cosa di concreto a favore di chi ha sofferto questi quindici mesi di pandemia e che davvero a volte non ce l'ha fatta ad arrivare a fine del mese grazie grazie consigliere Simoncini lei frequenta il consiglio comunale da qualche anno e sa bene come funziona il regolamento quindi non è il presidente del consiglio comunale che l'ha fatta rimanere fino alle tre ma la sua proposta è stata bocciata dal consiglio comunale come appunto prevede il regolamento perché il consiglio comunale su queste proposte è sovrano in questo caso ha deciso di anticipare il punto della consigliera Donia prego consigliere Gallina Fiorini sì grazie presidente innanzitutto un chiarimento per quanto riguarda il regolamento non c'è nessuno stravolgimento di regolamento non c'è stato un anticipo di una mozione rispetto ad un'altra o di un punto all'ordine del giorno rispetto ad un altro credo che la cosa sia abbastanza chiara penso pensavo che l'avessero capito un po' tutti eh la mozione comunque della Donia una mozione della Donia sarebbe stata comunque discussa la Donia aveva diritto per il principio d'alternanza delle mozioni a discutere la propria mozione quindi non è che c'è stata è stata data precedenza alla mozione di un altro gruppo oppure un punto del giorno punto all'ordine del giorno che era successivo ed è stato scavalcato travolgendo l'ordine del giorno no semplicemente la Donia ha chiesto di poter discutere una propria mozione prima eh di altre che eh ha presentato per cui io credo che anzi no credo sono sicuro che non è stato stravolto il regolamento per cui la dichiarazione fatta è assolutamente eh falsa quindi la la restingo eh al mittente poi sono d'accordo con il consigliere Simoncini sul discorso del dei ristori e delle risorse date a categorie produttive attività produttive e anche ai professionisti ehm nonostante faccia parte di un partito che a livello nazionale ha sostenuto il governo sostiene l'attuale governo e credo che sia stato fatto in una fase molto delicata molto difficile per qualsiasi governo ci fosse all'epoca e il fatto che adesso quasi tutte le forze politiche sostengono quell'attuale eh indice anche di questa situazione secondo me però è del tutto evidente che le risorse che sono state messe in campo sono insufficienti sono insufficienti perché ci sono categorie che hanno subito dei danni economici estremamente rilevanti stiamo affrontando un'emergenza l'abbiamo affrontata dal punto di vista sanitario la stiamo affrontando l'affronteremo anche dal punto di vista economico ma io sono convinto che il comune di Osimo ha fatto il massimo e ha fatto tanto sulla base delle risorse di bilancio a distribuzione sono stati erogati contributi per l'affitto riduzione tari dei bandi anche a sostegno delle categorie produttive danneggiate dal covid in base al codice Ateco sono stati distribuiti eh buoni spesa alimentari ripeto in una situazione del genere sono stati gli enti locali i comuni che hanno eh gridato che hanno chiesto aiuto allo stato centrale non possiamo pensare che i problemi così rilevanti dal punto di vista economico possono essere risolti con ristori a pioggia erogati dai comuni che molto spesso sono tra coloro che hanno bisogno di sostegno e infatti hanno ricevuto dei sostegni il comune di Osimo ha impiegato notevoli risorse per eh dare una mano concreta è chiaro che non è stato risolto il problema perché un problema del genere deve essere affrontato a livello eh statale ma anche europeo e fortunatamente in questo periodo fortunatamente che siamo all'interno dell'Unione Europea non voglio immaginare cosa sarebbe successo se non fossimo stati all'interno dell'Unione Europea come qualche forza di governo nazionale voleva perché poi forse ha cambiato idea anzi sicuramente si è reso conto però tornando invece sul contenuto della mozione scusate se ho divagato io ritengo che eh sia eh interessante eh la consigliera Donia ce l'ha illustrata ci ha illustrato questa possibilità con eh grande competenza devo dire va approfondita chiaramente eh la materia va capito anche eh quali sono che ammontare di crediti di quale ammontare di crediti eh stiamo parlando quindi quale può essere effettivamente l'aiuto è chiaro che tecnicamente è una possibilità importantissima perché eh dà la possibilità di tradurre in immediata liquidità dei crediti che eh aziende danneggiate al covid e poi credo che chiaramente debbano dimostrare di aver subito una ingente diminuzione di fatturato eh è da capire non ho ben capito dall'intervento della Donia ma questo perché non sono riuscito a seguire benissimo se si tratta solamente di crediti eh per locazioni e per affitto d'azienda o se è stata estesa a seguito dell'interpello dell'agenzia dell'etate questa possibilità di eh cessione dei crediti anche diversi però apprezzo una cosa soprattutto della mozione della Donia e e cioè il dispositivo finale perché la persona competente come ritengo sia effettivamente impegna l'amministrazione a eh approfondire attraverso gli uffici competenti questa materia per capire poi tecnicamente cosa si può fare come si può fare e quindi io credo che proprio per come stava costruita anche la mozione oltre che per il contenuto sia una mozione che va nella giusta direzione e quindi personalmente mi trovo d'accordo grazie grazie consigliera Gallina Fiorini un attimo prima di continuare volevo fare una prova audio con la consigliera Maggiori perfetto mi senti? sì la sentiamo bene grazie ha chiesto la parola alla consigliera Bordoni prego consigliera Bordoni non la vediamo neanche in video andiamo avanti ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti prego grazie presidente mi intervengo brevemente per innanzitutto per esprimere una mia parere in merito a quanto sollevato dall'amico e collega Stefano Simoncini e dalla risposta anche del collega del collega Gallina Fiorini c'è poco da mettere in relazione le due i due i due avvenimenti nel primo il consiglio comunale ha votato contro nel secondo ha votato a favore cioè non è che se perché una mozione aspettava la donna la consigliere donna allora poteva anticiparlo oppure no è un'espressione di volontà con la quale non si è voluto rispondere affermativamente alla richiesta di un consigliere che per motivi oggettivi e per i quali gli facciamo anche tanti auguri per i prossimi appuntamenti di salute appunto aveva richiesto l'anticipo oggi la stessa una consigliera aveva richiesto l'anticipo di un punto all'ordine del giorno quindi non c'è differenza c'è differenza esclusivamente nel modo in cui si è espressa la maggioranza consigliare purtroppo mi sono l'altra volta la volta precedente mi sono collegato in ritardo quindi non ho potuto partecipare alla alla votazione ma ricordo che in genere quasi sempre quando l'amministrazione per per bocca tramite la maggioranza o anche la minoranza chiedeva o l'anticipo di un punto generalmente veniva sempre concesso comunque era così giusto una notazione che si basa anche su una su una serie di avvenimenti accaduti negli anni passati nelle epoche passate in merito alla mozione della consigliera Donia mi complimento anch'io sono andato a leggere l'interpello sotto gli occhi fatto nel diciamo a luglio la risposta no a settembre alla agenzia dell'entrata effettivamente come faceva rilevare il consigliere Gallina Fiorini ma anche la stessa consigliere Donia nella sua proposta tale interpello tale parere si riferisce appunto ai canoni di locazione ma credo che con un approfondimento della questione della materia si possa effettivamente estendere tale beneficio anche a tutta quella serie di attività imprenditoriali commerciali professionali eccetera che vengono che vengono elencate nel dispositivo tra l'altro sottolineiamo è un'operazione che non ha un costo ulteriore per quanto riguarda l'ente in quanto come è scritto bene l'ente acquista dall'azienda e dai professionisti il valore nominale del credito di imposta e delle detrazioni di imposta che praticamente in realtà poi non 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 versa praticamente le imposte previdenziali o vari tributi verso l'erario quindi è una compensazione per il comune a costo zero ma è veramente un grande aiuto per coloro che riceveranno speriamo questo tipo di intervento da parte del nostro ente comunale grazie grazie consigliere ginnetti grazie anche per il suo intervento competente in merito alla gestione del consiglio comunale delle richieste di anticipo ha chiesto la parola alla consigliera bordoni io voglio riprovare a dargliela ma ok riproviamo dopo intanto ho prenotato il consigliere luna il sindaco e il consigliere Antonelli prego consigliere luna grazie presidente anch'io faccio i complimenti alla consigliera Donia per la mozione è molto dettagliata quindi è una cosa molto molto intelligente però bisogna essere anche concreti quindi bisogna tanta concretezza io mi ritengo un uomo di sinistra liberale quindi io penso che il comune deve fare il comune le banche devono fare le banche e le imprese devono fare le imprese qui dice che in pratica il comune potrebbe prendere i crediti di imposta delle per quello che ho capito i crediti delle imprese cioè non so se tutti ci lamentiamo che il comune già è pieno di impegni sia per l'aspetto tecnico sia per gli uffici dei lavori pubblici dell'urbanistica anche quindi io penso anche la stessa cosa c'è una carenza di personale in tutti gli uffici quindi io penso che sì è tutto bello tutto legittimo però non possiamo fare dobbiamo essere concreti la concretezza è importante quindi cioè impegna già è bello che la consigliere Donia non ha detto ordina oppure impegna il sindaco a approfondire ma dopo l'approfondimento capiremo sicuramente che non c'è la possibilità non c'è la possibilità di fare questo bellissimo servizio quindi dobbiamo essere concreti e dire con tutta onestà che non c'è la possibilità ecco anch'io voterò a favore però dobbiamo essere concreti non è non è pensabile che il comune vada a fare cose anche se la legge lo dice che che incompede quindi io ritengo che ognuno deve fare la propria parte quindi il comune per me non deve andare a fare si deve si deve mettere al posto delle banche altra cosa il discorso di Simoncini che diceva che il comune non ha fatto niente sto leggendo qua c'è stato uno dei pochi comuni nei dintorni dell'Anconetano che c'è stato fatto un bando per contributi di imprese per la chiusura del covid centomila euro poi il sindaco dirà non so se è stato aumentato oppure c'è la previsione di dare ancora altri contributi messi a bilancio i contributi che in tutti i comuni che lo Stato ha dato per i buoni spesa il comune si è attivato con i servizi sociali in tante cose tipo per gli anziani che sono stati portati a fare il vaccino in Ancona cioè dobbiamo essere onesti Stefano non possiamo se vogliamo fare politica alzare la voce fare i belli dire sempre il contrario di quello che l'altra parte fa io a questo gioco non ci sto quindi che dire voterò a favore per l'impegno che la Donia ammette politicamente è importante però dobbiamo essere onesti con noi stessi che il comune non può fare questo servizio grazie grazie consigliere Luna riproviamo con la consigliera Bordoni niente sindaco prego anch'io mi associo al consigliere Ginetti per quanto riguarda la salute del collega Simoncini e delle sfide che lo attendono nei prossimi giorni come da lui annunciato perché la salute viene prima di tutto però politicamente lui da molti anni frequenta il dibattito cittadino e anche oltre insieme a me anche se siamo abbiamo un'età differente Massimo Luna ha ben elencato ciò che l'amministrazione ha fatto nel corso 2020 quindi fronteggiarsi tra maggioranza e minoranza ci sta però ci si fronteggia sui dati reali i 100.000 euro che diceva Massimo sono stati adeguati a 150 col finire dell'anno si è finanziato sul finire dell'anno anche le strutture extra alberghiere perché ce l'avevano chiesto con un accordo con la loro associazione i soldi destinati ai buoni spesa sono quasi 500.000 euro si è sostenuto lo sport fermo da troppo tempo si è sostenuto l'associazionismo culturale si sono donate risorse a tutte le associazioni di protezione civile che volontariamente hanno fatto un servizio di pronto farmaco pronto spesa quindi io dire che questa amministrazione non ha fatto nulla durante il covid mi dispiace un po' mi dispiace altresì che lo dice un professionista perché con il 110 saremo pure indietro come dice come ci ricorda spesso la lista diciamo progettuosi ma siamo un po' indietro con l'accessariati però vedo tanti professionisti colleghi di Stefano geometri ingegneri architetti che vengono in comune per le pratiche del 110 per il sisma bonus per il bonus facciate insomma l'edilizia è ripartita poi l'amministrazione comunale ha battuto gli oneri di urbanizzazione non ha pensato è andata sparata non ha pensato ai riflessi sul bilancio che potevano venire meno le risorse da oneri di urbanizzazione ma ha fatto un taglio addirittura ad esempio del 90% su chi vuole trasformare una casa colonica in civile abitazione prima le oneri erano 50.000 euro oggi ne paga 5.000 quindi di misure per rilanciare l'economia per rilanciare l'edilizia attorno all'edilizia lavorano tutti i professionisti in primis poi i fornitori e poi gli impiantisti e quindi non credo che siamo stati fermi abbiamo cercato di fare la nostra parte e di addirittura di elargire questo contributo di circa 350 euro circa adesso potrei sbagliarmi perché l'assessore Gloria si è impegnata fino all'ultimo giorno nell'ufficio di Fabio Luna per liquidare entro il 31-12 a tutti gli aderenti il contributo promesso per le attività produttive quindi dire che non abbiamo fatto niente un po' mi dispiace voterò favorevolmente alla mozione della dottoressa Donia che di numeri se ne intende anche per la professione che svolge è molto difficile applicare questo scambio sul credito d'imposta ci siamo informati perché noi di affitti attivi ne abbiamo pochi e pare che questa normativa abbia un riflesso su un credito d'imposta che possa riguardare i fitti in particolar modo quindi è più facile che l'amministrazione con l'avanzo di amministrazione vincolato che deriverà dal fondone dello Stato possa riproporre un fondo di sostegno alle attività economiche del nostro territorio ed è pur vero mi dimenticavo questo che nel 2020 l'amministrazione Pugnaloni non ha aumentato la Tari ha messo a bilancio oltre 400 mila euro per non aumentare di un euro la Tari in particolar modo guardando le attività economiche che erano state chiuse quindi dire che non abbiamo fatto niente è giusto che le opposizioni attacchino è giusto che le opposizioni critiche però mi piacerebbe un'opposizione che attacca e critica su dati reali se non avessimo messo neanche un euro per le attività brutte avevano ragione se non avessimo messo nemmeno un euro per non aumentare la Tari avevano ragione se non avessimo messo nemmeno un euro nel sociale avevano ragione era più facile dire magari quelle risorse potevano essere di più ma dire che non abbiamo fatto niente mi dispiace davvero è questo il ruolo che viene affidato loro di attaccarci vigilare ma anche costruire e criticare in maniera costruttiva questo era il ruolo che svolgevo con i miei colleghi del PD quando eravamo minoranza c'erano le stessi civiche al governo mi piacerebbe che alla stessa maniera lo facessero loro con noi proposte serie costruttive applicabili non dicendo sempre che non abbiamo fatto nulla perché non risponde al vero grazie grazie sindaco consigliere Antonelli prego grazie presidente allora innanzitutto voglio stigmatizzare quello che ha già questa sera rappresentato il consigliere Simoncini perché effettivamente al di là della procedura al di là del regolamento che sarà stato pure rispettato però un dato è evidente da un punto di vista umano questo consiglio sia la volta scorsa che questa volta ha dimostrato un'assoluta mancanza di e presa di posizione quindi la prima cosa che mi sento di dire anche in linea con quello che ha già detto il consigliere Gimetti è che il consiglio comunale al di là di tutto poteva benissimo la volta precedente anticipare un punto considerando la situazione in cui si è trovato il consigliere Simoncini che per quanto sia un consigliere di opposizione è comunque una persona come siamo tutti noi e quindi questo senso questa umanità che più volte sta dimostrando di non neanche conoscere è veramente squalificante per un organo come questo per cui stendo un velo pitoso su questo argomento e vado avanti per quanto riguarda la mozione la mozione credo che sia assolutamente una mozione pertinente per cui ringrazio la consigliera Donia che l'ha presentata e credo anche che il comune possa prenderla in considerazione perché sarà pure difficile ottenere questa e mettere in pratica questa possibilità però la stessa procedura del credito d'imposta la stessa procedura diciamo che sta dietro a tutto questo meccanismo di incentivazione che il governo ha messo in piedi è molto complessa è molto difficile ma essendo una procedura che comunque permette di rilanciare il paese che permette di dare respiro e dare ossigeno alle imprese che fino a questo momento si sono trovate in difficoltà peraltro senza gravare questa volta le casse comunali perché qui parliamo di un credito d'imposta quindi io se fossi in amministrazione mi premonerei di verificare bene l'impossibilità che è stata accennata da sia il consigliere Luna che dal sindaco e ovviamente se non è possibile non si vota neanche per cui mi sembra anche diciamo un po' confusa questa posizione al sindaco non voglio dire che non è stato fatto niente così almeno non si dispiace sicuramente l'amministrazione ha fatto quello che poteva fare nel momento in cui si è trovata però va detto che essendo questa quella in cui ci siamo trovati una situazione estremamente nuova estremamente complessa estremamente drammatica che mai prima altre amministrazioni hanno dovuto sopportare forse come più volte abbiamo chiesto ci voleva un po' più di coraggio gli interventi sono stati fatti aiuti sono stati messi in campo ma tardivamente parliamo di quelli faccio solo riferimento a quelli per l'ambito dello sport certo il sindaco ha dato degli aiuti ultimamente sta dando respiro a queste società sportive ma noi avevamo chiesto questa cosa all'indomani del primo lockdown quando già si era capito che la difficoltà sarebbe stata enorme e sarebbe stata anche prolungata nel tempo ecco forse questo non ha fatto l'amministrazione avere il coraggio di affrontare in maniera rapida certe situazioni ha preferito aspettare che venissero messi a punto tutti i procedimenti che venissero fatti tutte le verifiche per poter dormire sonni tranquilli tra virgolette ma tutti i cittadini che si sono trovati in difficoltà questo non hanno potuto fare e visto che l'ente comunale comunque è il primo organo il primo ente a cui un cittadino si rivolge per chiedere aiuto bisognerebbe essere un po' più attenti come credo che non state facendo neanche nei confronti dell'aiuto che viene chiesto da un cittadino che più volte ha chiesto il cittadino ma anche il consigliere comunale grazie grazie consigliere Antonelli consigliere Canapa prego grazie presidente mi sentite bene ho un po' i problemi di connessione prego prego sentiamo bene grazie allora intanto buonasera a tutti e prendo la parola per rispondere un attimo alle accuse ci sono state rivolte dalle liste civiche ma anche dal consigliere Ginetti mi piace quando c'è chiarezza e soprattutto quando le ricostruzioni non sono falsate dalla propria determinazione politica diciamo così allora quest'oggi non è stato anticipato alcun punto le mozioni fanno parte del punto 3 ed è stato discusso il punto 3 all'ordine del giorno è stata soltanto anticipata una mozione rispetto ad un'altra che era sempre di competenza del gruppo del movimento 5 stelle quindi quando vengono fatte queste accuse bisognerebbe prima mettersi una mano sulla coscienza perché io non ci sto più a prendere le critiche da parte delle liste civiche che nella passata consigliatura hanno fatto di tutto per delegittimare il consiglio comunale non presentandosi per mesi in consiglio comunale ve la dovete smettere io non accetto le vostre critiche fatte in questa maniera così pacchiana e anche estremamente offensiva non ci sto più non ci sto più in secondo luogo l'altra volta era in discussione il bilancio del comune di Osimo che ha priorità su tutto tant'è vero che non vengono messe in calendario neanche discussioni su interrogazioni con emozioni interpellanze e ordini del giorno viene discusso prioritariamente il bilancio comunale perché senza l'approvazione del bilancio comunale l'amministrazione viene commissariata è una questione fondamentale l'approvazione del bilancio mentre quello che veniva chiesto era l'anticipazione del CdA del Campana che può tranquillamente andare avanti in prorogazio senza alcun problema se noi per caso non avessimo fatto in tema di scutro e l'avremmo dovuto rimandare alla volta successiva non c'era nessun problema invece se ci fosse stato un problema di collegamento o qualcosa avremmo avuto problemi sul bilancio questo era inaccettabile non è stato fatto uno sgarbo alla persona Simoncini e alle sue richieste non siamo privi di umanità che non e non teniamo conto di queste cose era una questione formale di importanza sostanziale non ci sto più a farmi prendere così da voi ve lo dico davanti a tutti gli osimani ve la dovete smettere di comportarvi e di accusare in questa maniera non ci sto più ok e ritorno al merito invece del punto dell'ordine del giorno e chiedo scusa al presidente Campanari per aver preso tempo che non non avrei dovuto forse per quanto riguarda il punto in discussione mi doveva tenere a quello sul punto io concordo con quanto è stato detto dalla consigliera Radonia concordo e vedo di buon grado insomma un intervento di questo genere ma allo stesso tempo ritengo che l'intervento del consigliere Luna non sia totalmente da non tenere in considerazione perché la difficoltà io immagino nel gestire la mole di pratiche che potrebbero arrivare da parte di tutte le imprese commercianti eccetera eccetera presso gli uffici comunali e l'ufficio in particolare immagino che sia quello che gestisce la parte finanziaria del comune diciamo così non credo che con il personale attualmente a disposizione sia sostenibile io lo spero tant'è vero che nell'ordine del giorno della consigliera Radonia viene detto si impegna l'amministrazione a verificarne la fattibilità e io concordo con questo se c'è la possibilità che si faccia e si porti avanti quindi voterò favorevolmente pur esprimendo alcuni dubbi di fattibilità reale della proposta grazie grazie consigliere Canapa sì un attimo consigliere Feliciani volevo capire se la consigliera Bordoni rinuncia al suo intervento di prima niente è andata via consigliere Feliciani prega un attimo consigliere che le do la parola provi adesso sì grazie presidente prego sì io vorrei soltanto innanzitutto sottolineare interventi di miei colleghi di maggioranza e soprattutto dare forza a quanto per esempio ha già detto il collega consigliere Canapa per i modi gli atteggiamenti e le parole usate dalla posizione dal consigliere Simoncini in particolare durante i suoi interventi che squalificano e offendono i consiglieri e questo ci consesso quindi ha fatto bene i consiglieri prima di me a puntualizzare e soprattutto a rendere chiaro la differenza tra i due interventi il precedente consiglio e questo le priorità che si danno ai vari punti all'ordine del giorno bilancio in primi se tutti gli altri via via a scendere e a respingere accuse vecere di mancanza di umanità e di quant'altro perché tanto ai consigliere Canapa e ai altri consiglieri maggioranza quanto a me queste cose non piacciono sinceramente dopo un po' diciamo lasciano il tempo che trovano e sinceramente sono quantomeno stucchevoli io non ho avuto il piacere di essere presente nella precedente legislatura quindi non ho dovuto sorbirmi i precedenti attacchi nei cinque anni precedenti ma conosco bene quello che è successo e come si venivano condotte certe dinamiche a suo tempo quindi me ne ha fatto il consigliere Canapa a mettere alcuni puntini su lei avendo avuto anche l'esperienza della consigliatura precedente detto questo anch'io per quanto riguarda il punto presentato dalla consigliera Donia che ringrazio per la competenza che mette anche nella commissione affari generali e per la anche per la misura nel quale poi ha chiuso il suo ordine del giorno appunto chiedendo non un ordine di fare per forza diciamo questo questa analisi sulla fattibilità della sua proposta ma appunto di chiedere che venisse analizzata valutata e nel caso appunto i benefici fossero notevoli e fruttuosi per tutti gli osomani e nel caso anche che l'effort richiesto ai nostri uffici ai nostri funzionali quindi tutta la macchina comunale fossero in maniera non così eccessiva e soprattutto i benefici maggiori dell'energia richiesto per ottenerli è bene che questa valutazione venga fatta e che quindi questa proposta venga votata favorevolmente e poi qualora fosse fattibile e con i benefici sperati si porti avanti per tutte quelle attività che purtroppo sappiamo benissimo che hanno avuto delle difficoltà in questi quattordici mesi di covid ma l'ultima puntualizzazione che è più di una volta che si sente dire purtroppo che questo comune questo sindaco non ha fatto nulla in tema di covid e io non so più se ridere o se piangere ogni volta che sento questa cosa forse inizierò a prenderla a ridere perché evidentemente sta passando come una battuta giusto per per dire qualcosa di contrario a questa amministrazione pur parler quindi anticipo già il mio voto che sarà ovviamente positivo sperando che venga fatta un'analisi tu cura a 360 gradi su questo aspetto grazie grazie consigliere Fericiani consigliere Abordoni niente ha chiesto la parola il consigliere Alessandrini prego sì grazie io non entrerò perché è già stato fatto penso siamo sono chiara le posizioni di ognuno di noi sulle polemiche che sono state sollevate fino ad ora ma condivido quanto detto comunque dal collega consigliere Ginetti e la chiudo qua ringrazio la collega Donia per per aver posto all'ordine del giorno comunque nell'attenzione del consiglio comunale una questione così importante che ha veramente toccato nel profondo in maniera tragica milioni e milioni italiani non soltanto migliaia di cittadini italiani che al tempo stesso è una questione che ha generato delle ingiustizie incredibili perché a distanza di un anno e su questo penso di non poter essere smentito la reazione la risposta all'emergenza sanitaria ed economica che abbiamo vissuto non è stata per tutti uguale e non tutti se ne possono rendere conto perché è innegabile che persone in situazioni come quella ad esempio del consigliere Timoncini ma come di qualsiasi altro libero professionista sono difficilmente comprensibili per chi ha uno stipendio pubblico per chi ha un posto assicurato per chi alla fine del mese comunque si vede sempre un accredito sicuro e tranquillo sul conto corrente che quindi può ritenere tutto derogabile o comunque sì è un problema va valutato ma più parole che nei fatti concreti mi permetto di essere un attimo una voce fuori dal cuore unicamente per un aspetto che è proprio quello invece tanto è trattato dalla maggioranza circa il fatto che questo atto che si va a votare non impegnerebbe ma meglio non imporrebbe un obbligo di fare ma impegnerebbe a valutare reputo che impegnare a valutare un'amministrazione comunale su una questione di importanza così elevata e così importante che è stata la ripetizione sia come dire non inutile ma una qualche cosa di preonastico perché di ripetitivo perché io magari mi sbaglio reputo che l'amministrazione dovrebbe avere questo come prioritario indipendentemente dal fatto che oggi noi stiamo arrivati a votare ovviamente favorevolmente un impegno di questo tipo benvenga ovviamente che le opposizioni in primis noi quindi si vada a ricordare si vada a sottolineare a correre attenzione su questa questione ma ripeto mi meraviglio che si elogi un come dire un un acceblandendo in qualche modo una certa una certa mancanza di vincolarità di obbligatorietà dietro ad un atto di questo genere che invece secondo me avrebbe avuto letteralmente senso come magari poteva essere ovviamente politica avrebbe potuto avere dei risvolti anche pretestuosi ma fa parte ovviamente del gioco delle parti e del gioco della politica però su argomenti così importanti l'amministrazione comunale si deve obbligare non si deve invitare ad impegnare poi potrà fare poco qualcosa è stato fatto si potrebbe fare di più è innegabile che ci sono stati dei fondi messi a disposizione è innegabile che come si è potuto si è andato incontro ad esempio soprattutto nel discorso dell'occupazione del solo pubblico con gli esercenti però ripeto su queste cose si obbliga non si impegna ad obbligare grazie consigliere Alessandrini faccio l'ultimo tentativo con la consigliera Bordoni niente ancora assente quindi chiudiamo la discussione passo la parola alla consigliera Donia per le conclusioni prego consigliera grazie allora intanto preciso che in base all'articolo 121 del decreto legge 34 2020 e la circolare 24 del 2020 si ritiene che gli enti e lucani possano acquistare tutta la serie di crediti di imposta che ho enunciato prima quindi non soltanto il credito di imposta sui canoni di locazione quindi anche il bonus affitti i beni strumentali il recupero del patrimonio edilizio il sisma bonus il bonus facciate gli impianti fotovoltaici i colonnini di ricarica e quant'altro mi rendo conto che cedere tutto questa mole di crediti creerebbe veramente un lavoro in mane per l'amministrazione comunque per gli uffici finanziari e quindi ho ritenuto di impegnare il consiglio e l'aggiunta il sindaco e l'aggiunta di valutare quali crediti accettare e da utilizzare in compensazione perché i crediti sono tanti la carenza di liquidità è altrettanto numerosa e quindi potrebbero essere ceduti diciamo un numero consistente di crediti quindi lascio il compito all'amministrazione comunale di valutare quali crediti voler considerare e quindi convertire in liquidità ribadisco che ciò non comporta alcun onere per le casse comunali ma si tratterebbe soltanto di una compensazione e infatti l'agenzia delle entrate ha già stabilito quelli che sono i codici tributo che sono il 6.939 e il 6.931 che vanno proprio evidenziati nella sezione erario e andrebbero compensati praticamente con quelli che sono i debiti che il comune ha per esempio per le ritenute dei dipendenti per tutti quelli che sono gli oneri tributari dell'ente comunale dunque non ha alcun onere a carico del comune e se la mole di lavoro potrebbe essere in mane l'amministrazione potrebbe scegliere quale linea di crediti poter accettare poter convertire in liquidità è un'occasione più unica che rara quindi è una possibilità che l'ente comunale può dare non c'entra niente con tutti gli altri sostendi che il comune ha di fatto dato alle imprese è un qualcosa appunto che non comporta un impegno da parte dell'amministrazione ecco volevo soltanto precisare questo grazie grazie a lei consigliere Adonia apriamo adesso le dichiarazioni di voto consigliere Ginnetti prego grazie presidente il voto del gruppo progetto di voce ma futura sarà favorevole infatti condividiamo il dispositivo della mozione che indica appunto un ulteriore approfondimento della questione che avrebbe potenzialmente degli sviluppi molto positivi per tutte le categorie indicate nel testo della stessa colgo l'occasione nel esprimere il mio disappunto per la reazione del collega Matteo Canapa io non ho accusato nessuno ma ho limitato a rilevare che al di là della diversa natura delle due votazioni che comunque sia sono due votazioni dell'organo consigliare ci sono state due espressioni di volontà dopodiché ognuno prende la responsabilità delle proprie decisioni giustificandole o comunque commentandolo supportandole con più o meno argomentazioni argomentazioni appunto più o meno importanti più o meno significative tutto qui se prendiamo atto e credo che comunque anche se fosse stato il bilancio anche se come era il bilancio di previsione poteva benissimo il punto essere anticipato ma questa invece è una mia personale considerazione tutto qui senza nessun tipo di critica e senza nessun tipo di polemica aggiungo un'ultima cosa il Comune di Osimo sicuramente non è stato con le mani in mano durante il Covid sicuramente ha fatto quello che ha potuto a volte è sembrato che non c'era un piano preordinato una programmazione però ricordiamoci è facile commentare con l'esperienza di oggi facchi e situazioni vissute vissuti un anno fa lo stesso per dire non si è non si è parlato dell'impegno riguardo l'aspetto sanitario anche lo screening sui sierologici rapidi che una mia considerazione su un social è benne presa in maniera del tutto e ingiustificatamente negativa non è assolutamente non era assolutamente un'iniziativa da criticare o comunque da definirla inutile è inutile era comunque un tentativo di rispondere all'emergenza che correva ricordo anche la presenza dell'amministrazione anche a fianco di noi medici di famiglia per quanto riguarda i tamponi rapidi e tante altre cose io credo che sicuramente sono stati commessi degli errori ma d'altra parte sicuramente come in tutte le cose si poteva fare di più ma comunque prendiamo atto in questa occasione che il comune si è adoperato sicuramente con tutti i limiti che ho appena esposto grazie grazie consigliere Ginnetti la consigliere Bordoni rinuncia alla sua dichiarazione di voto quindi passo la parola al consigliere Simoncini prego ma io presidente senza polemiche non so se il consigliere Canapa ci è o ci fa una votazione è stata fatta il consiglio scorso e la maggioranza ha votato contro una richiesta per ragioni di salute oggi analoga richiesta di anticipazione di un punto si ha a maggior ragione Canapa credo che si sia rovinato tutte le unghie perché si è aggrappato sugli specchi per poter dare una giustificazione a un comportamento vergognoso e indegno dei consiglieri di maggioranza oggi e l'altra volta sulla mia richiesta vergognoso e indegno lo confermo altro che te Canapa vai a fare e alzi il ditino io non devo accusare non mi non ci sto ma cosa non ci sto io sto su una sede in rutelle da 15 mesi e sono stato tre mesi in coma farmacologico altro che storie e li conosco sulla mia pelle le cose che avete fatto per il covid e quelle che non avete fatto e a proposito di quello che dice il sindaco cioè che ha messo a bilancio 400 mila euro per non far aumentare la tassa rifiuti quei soldi sono dei cittadini usimani che quindi hanno pagato lo stesso con 400 mila euro di bilancio un aumento ingiustificato della Tari non ci vengono a contare buffonate e stupidaggini perché non siamo bambini non siamo bambini allora se non volete fare il credito d'imposta perché vi sembra troppo difficile vi sembra che non ci sia non ci siano le adeguate giustificazioni come pure la consigliera Adonia vi ha detto fate un fondo un fondo per i professionisti per le imprese per la ripartenza per il che ne so per il cambio dei software degli hardware per le attrezzature dopo il covid per rifondere la sanificazione degli ambienti che ne so fate un fondo non si può fare questo ma è il principio della mozione che va salvaguardato e va fatto non va valutato perché valutare si fa subito dopo a trovare la giustificazione che non si può fare e quindi e quindi contenti e scusate il termine coglionati così non si amministra una città chiuso grazie consigliere Simoncini consigliere Canapa prego grazie presidente e ringrazio la consigliera Donia per le precisazioni che ha fatto sul punto e questo mi porterà a votare ancora più convintamente quanto quanto è in oggetto della lei libera per quanto riguarda le parole del consigliere Simoncini io faccio a lui i migliori auguri di pronta guarigione e di poter in qualsiasi momento ritornare in piena forma lo spero con tutto il cuore però a tutte le altre farneticazioni mi oppongo fermamente e chiudo qua grazie consigliere Canapa consigliere Gallina Fiorini prego grazie presidente io credo che quello che dà fastidio a noi consiglieri della maggioranza è essere continuamente strumentalizzati su queste questioni e accusarci di immoralità io lo trovo veramente di un populismo pecero sono contento che il consigliere Ginnetti nell'ultimo intervento diciamo mi passi il termine abbia un po' corretto il tiro perché l'ha spiegato benissimo il consigliere Canapa cioè non possiamo paragonare le due questioni non sono la stessa cosa in un caso c'era uno stravolgimento dell'ordine del giorno andando a inserire un punto che non era prioritario prima di altri punti che invece lo erano perché si parlava di bilancio di previsione si parlava di piano delle opere triennali e quindi erano questioni prioritarie che dovevano assolutamente come diceva Canapa essere votate appena il commissariamento del comune in questo caso si è trattato semplicemente non di anticipare un punto ma di discutere una delle mozioni che la consigliera Donia in base al regolamento aveva già diritto di discutere e di portare in votazione il consiglio comunale quindi sono due cose completamente diverse e mi spiace che venga utilizzata la questione per strumentalizzare e attaccarci in maniera così veramente bassa e io sono d'accordo che dovremmo finirla un po' tutti di utilizzare certi toni in consiglio comunale per quanto riguarda l'impegno con le mozioni beh è normale noi potremmo impegnare l'amministrazione su qualsiasi provvedimento su qualsiasi cosa si possono impegnare l'amministrazione su cose bellissime peccato che poi bisogna che siano anche fattibili quindi le due cose devono sempre marciare di pari passo altrimenti possiamo fare anche qui del populismo per soddisfare magari i cittadini abbaiarli un po' e dire ok impegniamo l'amministrazione come è stato detto da parte dell'opposizione ad azzerare le tasse ok a non far pagare più un euro di tasse e a dare soldi 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 a pioggia eh lo possiamo fare possiamo fare una mozione del genere pensate che sia fattibile non è fattibile quindi l'impegno di una maggioranza è quello di dare concretezza a un impegno e capire se è possibile portarlo avanti altrimenti si prendono in giro i cittadini non è questa la politica la politica delle cose concrete che si possono fare la mozione della donia va nella giusta direzione perché effettivamente su una materia così tecnica dà mandato all'amministrazione e agli uffici di valutare di capire tecnicamente come si possa fare se si può o non si può fare e quindi le osservazioni anche del consigliere luna vanno nella giusta direzione secondo me sono opportune voglio dire un'ultima cosa riguardo al sostegno che c'è stato per il periodo covid lo diceva lo ricordava il sindaco io non sono stato preciso di numeri centocinquantamila euro per il sostegno alle attività economiche altri soldi messi a bilancio per il sostegno alle attività sportive e la Tari nel duemila e venti è diminuita rispetto al duemila e diciannove perché quei quattrocentomila euro di cui si parlava sono serviti per curare un aumento ma oltre a quei quattrocentomila euro sono stati messi a bilancio altre risorse per diminuire per diminuire per diminuire la Tari alle attività produttive danneggiare del covid e per mettere i soldi sul bonus Tari che non tutti i comuni hanno fatto per diminuire la Tari alle famiglie più bisognose con un determinato livello di sé concludo dicendo che tutte le misure che vengono finanziate con il bilancio comunale sono chiaramente provengono da soldi dei cittadini mi stupisco che si faccia un intervento di questo genere come se non si sappia consigliere dichiarazione di voto due minuti la mia dichiarazione di voto quindi è favorevole i soldi dei cittadini devono essere spesi bene questa è la differenza ad esempio non devono essere spesi per spese del contenzioso legale come poi vedremo grazie grazie consigliere consigliere Luna prego anche il mio voto sarà favorevole a me non piace di solito rimangare il passato però volevo ricordare il consiglio comunale quando si è approvato il piano volatore vigente del 2005 con poi con le delibere approvate nel 2008 facevamo consigli comunali 24 ore su 24 e non c'era tempo nemmeno di andare in bagno c'era chi c'era il pappagallo vuoi dire c'è Ginnetti presidente del consiglio comunale vice siente così muncini quindi le elezioni tenetevele per gli altri grazie ci sono altre dichiarazioni di voto passo la parola al segretario per la votazione Pugnaloni favorevole Campanari favorevole Paolella favorevole Flamini favorevole Gallina Fiorini favorevole Canapa favorevole Luna favorevole Invernizi favorevole Maggiori favorevole Gobbi favorevole Fericiani favorevole Vignoni favorevole Ricci favorevole Spilli favorevole Brandoni favorevole Rossi favorevole Simoncini favorevole Bordoni favorevole Antonelli favorevole Donia favorevole Ginnetti favorevole Alessandrini Passarini Alessandrini Passarini favorevole Grazie Presidente Buonasera a tutti Allora il debito fuori bilancio riguarda una complessa vicenda giudiziaria che risale al diciamo al al 2002 che è l'anno in cui ha efficacia il licenziamento dell'ingegnere Mazzucchini descrivendo brevemente la vicenda che come ripeto è molto complessa e giudiziariamente si è snodata in un contenzioso che ha visto diverse prunce ancora della corte d'appello e ancora della corte d'appello di Perugia nella Cassazione poi ancora della corte d'appello di Perugia nella sostanza è stato dapprima il Tribunale di Accona aveva riconosciuto l'illegittimità del licenziamento e aveva disposto dapprima un risarcimento di 18 mensilità e poi a seguito di riforma della corte d'appello di Accona di 24 mensilità nel presupposto che non si applicasse ai dirigenti al caso di specie d'articolo 18 dello statuto dei lavoratori che appunto prevede una tutela reale e non solamente una tutela risarcitoria quindi su questo invece si pronunciò la corte si è pronunciata la corte di Cassazione il quale in sostanza ha detto che anche in questo caso andava applicato l'articolo si applicava trovava applicazione l'articolo 18 quindi in questo caso il non essendo ovviamente più possibile la reintegra il risarcimento non è più commisurato a appunto a 24 mensilità ma deve ristorare ovviamente il danno che è dato da che cosa? dal periodo in cui è intercorso il licenziamento quindi aprile 2002 fino al 31 luglio 2012 cioè che è la data diciamo dentro il quale sarebbe stato dipendente comunale collocato a riposo e quindi l'esarcimento consiste nella appunto nella retribuzione globale di fatto che il dipendente pubblico avrebbe percepito se appunto non fosse stato illegittimamente licenziato questo contenzioso poi si è protratto ulteriormente perché c'era una questione da dirimere cioè se per nel dover determinare la retribuzione globale di fatto andava compreso vuol dire come il dipendente comunale sarebbe andato in pensione cioè con la qualifica di dirigente o meno e questo perché perché sempre l'amministrazione latina dopo il licenziamento annullò l'atto diciamo la nomina a dirigente comunale dell'ingegnere Mazzucchini e quindi per la quantificazione del risarcimento occorreva attendere la sentenza del tribunale la sentenza del tribunale di Ancona che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla illegittimità della appunto della revoca della qualifica dirigenziale questo giudizio però davanti il tribunale di Ancona è andato perento e così in questo modo e questo grazie a Dio perché diciamo si è diminuito il rischio di esborso di denaro da parte del comune di Osimo quindi a che cosa abbondanna la corte di Ampello di Perugia nella sentenza che è della fine stata diciamo pubblicata nella fine del 2019 poi nel percorso il tempo perché divenisse esecutiva quindi condanna il comune di Osimo a corrispondere al dipendente legittimamente licenziato la somma netta di 146 mila e rotti euro a questa somma ovviamente però deve essere aggiunto per parlare di somma netta devono essere aggiunte altre voci che riguardano cioè i contributi previdenziali e diciamo anche la tassazione separata quindi diciamo è un calcolo molto stato un calcolo abbastanza appunto complesso perché appunto bisognava tenere il conto della IRPEF della tassazione separata i contributi previdenziali e quindi abbiamo diciamo come questa somma di 350 mila euro racchiude anche una parte di spese legali che il comune deve ancora corrispondere più o meno quindi diciamo oltre ai 305 mila euro che il comune dovrà corrispondere ha già diciamo stanziato circa 108 mila euro che sono sia al titolo del risarcimento iniziale a 24 mesi di tassia una parte delle spese legali quindi diciamo che su questo il comune ha già in parte anticipato pagato circa 108 mila euro e a seguito della sentenza della comunità della contapero di Perugia e della quantificazione che è stata piuttosto complessa di quanto si dovrà ancora dare devono essere corrisposti questi 305 mila euro e poi ovviamente su questo comunico che i risori dei conti hanno provveduto a notare d'effetto alla procura regionale presso la corte dei conti a cui spetta la valutazione di un eventuale danno eraviale e questo appunto ripeto è una valutazione che poi farà la procura presso la corte dei conti e le somme accantonate le somme saranno pagate ovviamente trovo un'avienza nel villaggio comunale nel fondo che era stato dell'avanzo vincolato che era appunto stato predisposto per il rischio di questo della succombenza di questo contenzioso grazie grazie assessore pellegrini prima di aprire la discussione mi ha chiesto la parola per fatto personale il consigliere Ginnetti mi può dire la motivazione consigliere grazie presidente era per la considerazione il commento che ha fatto nei miei confronti in qualità di presidente del consigliere comunale il consigliere Luna che la trova assolutamente fuori luogo è offensiva comunque detto questo in realtà dovrei difendere in qualità di presidente del consiglio comunale nel passato esattamente dicendo che dicendo delle cose assolutamente non vere riguardo la conduzione del consiglio ma grazie di avermi dato questa possibilità prego prego e la ritiro la ritiro comunque ok va bene apriamo la discussione quindi sul punto numero 4 l'ordine del giorno se vi volete prenotare consigliere ginnetti prego eccomi eccomi allora soltanto un chiarimento che chiedo a lei presidente e al segretario comunale riguardo quanto ho letto poco tempo fa pochi istanti fa riguardo a un articolo online comparso su Ancona Today dove un comunicato stampa del Partito Democratico nel quale c'è scritto che l'organo di revisione del Comune di Osimo ha inoltrato questa mattina formale denuncia presso la procura della Corte dei Conti competente cui spetterà il compito di valutare la responsabilità di chi all'epoca ha revocato in maniera legittima l'incarico dell'ingegner Mazzocchini a termine verso la fine le ultime righe del parere del Revisore dei Conti allegato a questa delibera richiama l'articolo 239 del testo unico la comma il comma uno la lettera E nella quale nella quale nella quale si prevede che che l'organo di revisione svolge le funzioni di di referto all'organo consigliare referto all'organo consigliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali dove si configurano ipotesi di responsabilità quindi si evince lo spirito di questa norma che non è sufficiente la deposizione degli atti ma comunque l'organo consigliare acquisisce referto nel momento in cui si riunisce non nel momento in cui vengono depositati il parere dell'organo collegiale non solo lo stesso organo collegiale al termine del suo parere così scrive il presente parere deve considerarsi referto all'organo consigliare su gravi irregolarità di gestione ripeto referto all'organo consigliare su gravi irregolarità di gestione tenendo conto in particolare delle seguenti della seguente documentazione che gli viene riportata ma anche per il fatto della del fatto che si scrive il collegio ricorda al consiglio che a norma dell'articolo 23,5 della legge 27 dicembre 2002 vige l'obbligo di trasmettere la delibera delibera correlata dal referto alla competente procura regionale delle corse di conti quindi la mia domanda è perché è stata trasmessa direttamente dall'organo collegiale e non dal presidente del consiglio comunale congiuntamente delibera e referto e referto il parere dei revisori ho finito grazie grazie consigliere Ginnetti poi risponderemo consigliere Simoncini prego grazie presidente io volevo fare una domanda all'assessore Pellegrini posso farla posso avere la risposta prima dell'intervento la può avere nelle conclusioni prima della prima della prima della dichiarazione di voto va bene va bene va bene ok allora io volevo sapere se 108 mila euro già versati dall'amministrazione sono stati un altro debito fuori bilancio o se c'era a bilancio un fondo ha messo dalle precedenti amministrazioni a copertura di questo contenzioso perché vedete capita che le amministrazioni che non hanno i tempi della giustizia si trovino a gestire dei contenziosi che sono iniziati in precedenti amministrazioni magari anche di colore diverso a noi è capitata la rogna tra virgolette dell'ospedale che pure era nata con l'amministrazione del professor Alberto Niccol su si disse la motivazione che stava alla base della vittoria al tar del cittadino che aveva fatto ricorso contro la procedura si disse che scaturiva da una errata deliberazione di giunta eppure noi non abbiamo mandato gli atti alla corte dei conti abbiamo cercato di mi ricordo facemmo un consiglio comunale a lagrimani buttari cioè proprio per dare spazio e fare il consiglio comunale vicino al luogo dove sarebbe dovuto sorgere l'ospedale a San Sabino e facciamo un atto ricognitivo e cercamo una strategia per ritornare in possesso dell'area per poter rifare una procedura con il project financing che poi la regione non ci ha mai avallato fino a che appunto ha dirottato i fondi sul nuovo IRCA sul nuovo IRCA che un tempo doveva essere IRCA trattino ospedale di rete adesso è IRCA e basta e l'ospedale di rete ce lo siamo anzi ve lo siete giocato perché l'accordo con Ceriscioli l'ha firmato Pugnaloni e quindi questo capita e non è non è un non è un fatto nuovo insomma e voglio dire a Diego Gallina Fiorini che sembra che tutti i mali del bilancio derivino da questa deliberazione che stiamo facendo che la prossima il prossimo debito fuori bilancio se non non ho capito male forse posso sbagliare ma se non ho capito male scaturisce dal permesso di costruire del consorzio dell'ex consorzio agrario permesso di costruire rilasciato dalla precedente amministrazione Cugnaroni 1 allora eh capita che appunto vi siano dei contenziosi ma proprio per questo motivo cioè perché appunto bisogna diciamo mettere un po' le mani avanti e bisogna in qualche modo eh prepararsi agli eventi l'amministrazione latini e la mia amministrazione non l'ha mai toccato aveva eh fatto un fondo a bilancio dove aveva allocato delle risorse e generalmente ogni anno si rimpinguava questo fondo eh proprio per eventualità della soccombenza eh nel ricorso così come c'era anche un fondo eh per esempio per i i le restituzioni degli ICI eh pagata eh dalle persone che magari si vedevano annullare l'area dal contenzioso sul PRG c'era io avevo lasciato se non mi ricordo male duecentocinquanta milioni di euro in questo fondo è chiaro che se è cambiata l'amministrazione l'amministrazione Pugnaloni ha deciso di di eh togliere quel fondo di prendere quei denari e farci qualcos'altro è una questione di scelte però domani che avvenisse un la fine del contenzioso e che dovessimo restituire le eh i soldi ai ai proprietari diari che se ne vedono togliere che l'hanno sempre pagate eh bisognerà eh fare un debito fuori bilancio cosa che invece se veniva mantenuto quel fondo e magari veniva rimpinguato anche con una piccola somma mettiamo cinquantamila euro l'anno a quest'ora dopo sette anni di amministrazione Pugnaloni c'erano ulteriori trecentocinquantamila euro e si poteva affrontare quella eventuale spesa eh con più eh con più tranquillità ora io sono certo che quel fondo diciamo eh per questo contenzioso che appunto si protrae da dal 2002 se non come ha detto giustamente l'assessore Pellegrini eh io mi ricordo che questo fondo c'era a bilancio eh ecco vorrei sapere perché oggi non c'è più perché oppure cos'è che finanzia questo debito fuori bilancio lo finanzia questo fondo che c'è ancora oppure questo fondo non c'è più e l'amministrazione corrente o la precedente ha devoluto queste somme in altre poste di bilancio ci ha fatto qualcos'altro ecco perché se ci ha fatto qualcos'altro per carità le scelte sono eh le avete votate quindi eh quando votate il bilancio per cui eh per carità siete legittimati a farlo però oggi non si può venire a piangere perché dobbiamo riconoscere un debito fuori bilancio sì dobbiamo riconoscere questo debito fuori bilancio ma le precedenti amministrazioni cioè le nostre in in previsione di questi contenziosi avevano comunque cercato di eh di mettere eh in qualche modo dei soldi da parte per affrontare eventuali eventuali mh sconfitte di fronte alla giustizia aggiungo un'altra cosa sulle spese legali io ho visto anche che eh sul prossimo punto eh sempre siamo sempre difesi dall'avvocato Galvani io non so in che rapporti mi piacerebbe che mi venisse chiarito con questa eh con questa risposta sempre dall'assessore eh Pellegrini io non so in che eh rapporti economici siamo con l'avvocato Galvani perché io ricordo che durante la mia amministrazione l'avvocato Galvani è cominciato a ha cominciato a difendere il comune di Osimo sotto la mia amministrazione perché eh prima si cercavano vari eh avvocati una volta si dava la pratica uno una volta si si affidava ad un'altra difesa e da non mi ricordo se era il duemiladodici insomma comunque gli anni della mia amministrazione noi facemmo un bando eh a cui risposero diversi professionisti e facemmo una convenzione con stipuliamo una convenzione con l'avvocato Galvani che riconoscevamo una somma annua all'avvocato Galvani per difendere in tutte le cause che riguardavano il comune eh appunto con questa somma omnicomprensiva che si aggirava sugli ottanta mila euro ma io ho visto che ehm la parcella eh del prossimo punto è un qualcosa in più che dobbiamo dare se non se non ho letto male la sentenza del Consiglio di Stato eh eh ma è è una è una parcella in più che dobbiamo dare all'avvocato Galvani presuppongo che quella rapporto soggetta a convenzione che c'era prima di un compenso omnicomprensivo sia che si facessero cinque cause che se se l'avvocato ci difendeva su cinquanta cause e a parte naturalmente le spese legali eh altri altri oneri di legge e comunque diciamo il compenso era più o meno era sempre quello insomma non 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 eccedeva quella somma per cui noi sapevamo che c'era quella posta di bilancio di delle ottanta novanta adesso non mi ricordo quant'era mi pare ottanta mila euro sapevamo più gli oneri di legge sapevamo che quella somma era destinata alla all'ufficio legale praticamente perché eh la parte legale veniva fatta da l'avvocato più eh l'avvocato Ippoliti dipendente del comune più i vari dirigenti a seconda dei settori dove eravamo eh dove eravamo chiamati in giudizio sia gli affari generali o l'urbanistica oppure eh la parte tributaria eccetera eccetera ecco vorrei sapere se ancora questa convenzione è in essere oppure se ci rivolgiamo di volta in volta ad un legale diverso oppure se ci rivolgiamo sempre per una fiducia eh l'avvocato è un avvocato che si nomina sulla base di una scelta fiduciaria questo è chiaro ehm se eh appunto si nomina sempre eh l'avvocato Galvani ma eh ogni volta con un incarico e quindi con un compenso determinato in maniera eh diversa grazie grazie consigliere Simoncini faccio un intervento in merito all'ordine dei lavori così è più chiaro per tutti allora facciamo in questo modo ehm lo dico all'assessore Pellegrini che lo chiede assessore se può rispondere nelle conclusioni che farà che farò fare a lei mentre il sindaco mi ha chiesto la parola come consigliere per per la discussione quindi facciamo così e prima di dare la parola all'assessore Pellegrini farò rispondere al segretario Giulioni eh in merito alla domanda del consigliere Ginnetti allora prego consigliere Gallina Fiorini grazie presidente allora io sono in politica abbastanza da poco tempo direi no? rispetto comunque ad altri colleghi con più esperienza di me però mi sembra di capire che l'arte oratoria no? per quanto sia nobile però non posso sovvertire la realtà e a me piacerebbe invece andare alla sostanza dei fatti perché sono state dette tante cose forse per confondere un po' le idee per gettare responsabilità su altri per cui non si capisce bene adesso di che è la colpa se c'è una colpa è stato detto beh insomma il contenzioso capita no? le cause capitano si possono perdere quindi è un'evenienza da accettare così però allora cerchiamo un attimo di capire bene cos'è successo allora c'è una sentenza definitiva che condanna il comune di Osimo per un licenziamento illegittimo di un dipendente comunale l'ingegnere Mazzucchini ok? si possono mettere tutti i fondi che vogliamo nel corso degli anni a bilancio per coprire le spese del contenzioso per coprire le spese che adesso dobbiamo erogare dobbiamo sostenere per rimborsare Mazzucchini ma tutte quelle risorse che sono state messe a bilancio come è stato detto in precedenza sono soldi dei cittadini osimani cioè non è che questi fondi arrivano chissà da quale entità e quindi ce li abbiamo abbiamo messo i fondi siamo tranquilli quelli sono soldi dei cittadini osimani che attraverso le tasse le imposte che hanno pagato nel corso degli anni sono stati utilizzati per un fondo per coprire le spese del contenzioso e il rischio contenzioso come è questo il caso per cui noi abbiamo già dato cento otto mila euro da quello che leggiamo nella delibera ne dobbiamo dare altri trecentocinquemila euro ok? fate voi i conti siamo oltre i quattrocentomila euro e questi sono soldi non di Simoncini non delle liste civiche sono soldi degli osimani che potevano essere spesi ad esempio per sostenere le imprese in questo momento in difficoltà per sostenere le famiglie per i servizi sociali per il sostegno all'attività sportive d'accordo? c'è una denuncia che è partita come atto dovuto c'è stato detto oggi nella commissione nella prima commissione che si è venita prima del Consiglio Comunale da parte dell'organo di revisione verso la procura della Corte dei Conti per segnalare tutto l'accaduto quindi questo è stato fatto appunto perché dovranno essere accertate delle responsabilità se ci sono per danno erariale e responsabilità eventualmente anche penali ora non da noi chiaramente esprimerci no? su questo perché ci sono le autorità giudiziarie che valuteranno e prenderanno le loro decisioni però una responsabilità politica c'è questa ormai è accertata e noi dobbiamo dirlo chiaramente i cittadini osimani lo devono sapere al di là della responsabilità se ci sono penali e per danno erariale però lo sbaglio politico che ricade su due attori in questa vicenda in particolare c'è questo è stato fatto ci sono dei responsabili per quello che è successo perché il licenziamento è illegittimo e questo è è definitivo è un dato definitivo allora le persone danneggiate gli attori anzi sono due uno è il lavoratore in questione che ha subito comunque una vicenda giudiziaria che è durata oltre 18 anni ok e che comunque ha avuto un danno d'immagine è stato messo alla gogna e ha avuto una carriera distrutta definitivamente perché non è più tornato a lavorare ok e io credo che un movimento politico che in passato ha fatto degli ordini del giorno a sostegno dei lavoratori e da fa uno anche che presenta oggi a sostegno dei lavoratori per prima cosa dovrebbe sostenere un proprio lavoratore o meglio un lavoratore del comune di Osimo che invece è stato licenziato ingiustamente e quindi credo che come minimo gli debbano delle scuse gli si debbano delle scuse minimo all'ingegner Mazzucchini e seconda cosa si devono dare delle scuse alla città e ai cittadini osimani perché la città di Osimo è l'altra parte l'ESA in questa vicenda ma scusate è stato detto ok facciamo pagare l'IMU sulle aree edificabili che sono sotto contenzioso della provincia di Ancona poi noi mettiamo un fondo e quel fondo servirà per restituire eventualmente l'IMU che è stata pagata indebitamente in questi anni ma quel fondo così come questo del contenzioso è finanziato con i soldi di tutti gli osimani quindi non dimentichiamoci che quel fondo non è che i soldi ce li ha messi qualcuno in particolare sono presi dalle tasche di osimani per ripagare eventuali errori ok questa è la verità e al di là di tutto quello che si può dire ci si può arrampicare sugli specchi si possono usare tantissime parole però la sostanza dei fatti è questa questo è quello che è successo per cui secondo me minimo delle scuse politicamente sono dovute in questo caso grazie grazie consigliere Gallina Fiorini sindaco prego ma ho ascoltato l'intervento di Simoncini debbo dei chiarimenti Diego Gallina Fiorini l'ha evidenziati un po' tutti un conto è una sentenza passata in giudicato che per i quali bisogna trovare delle risorse e quindi si riconosce il debito fuori bilancio previsto dal testo unico antilocali siamo obbligati a riconoscerlo perché non sappiamo di questa notizia e quando la veniamo a sapere dobbiamo trovare le risorse ma è una sentenza passata in giudicato non è come diceva Gallina Fiorini illegittima viviamo questo momento nella legittimità ci siamo difesi con le nostre ragioni e il consiglio di stato ha detto no guardate nel caso dei fratelli Simonetti gli oneri versati con il primo permesso di costruire erano buoni e quindi vanno restituiti quelli che sono stati versati in seconda battuta con il nuovo permesso rilasciato dal comune di Osimo quindi sta nella legittimità nel rapporto comune privato tar consiglio di stato un conto è il licenziamento illegittimo cioè il licenziamento non è avvenuto per cause normali il licenziamento dell'ingegnere Mazzucchini è stato voluto dall'amministrazione latini quindi è stato un comportamento non oggettivo ma soggettivo da parte dell'amministrazione da allora e quindi quando il debito fuori bilancio è illegittimo sia la Corte dei Conti che gli uffici dovranno per forza denunciare alla Procura della Corte dei Conti il danno erariale e farci restituire questi soldi da chi ha voluto questo comportamento soggettivo e discrezionale non è che si licenzia un ingegnere così svegliandosi una mattina e quindi l'amministrazione allora ha voluto questo adesso purtroppo siamo arrivati alla fine e ne pagherà le conseguenze non ne possono pagare le conseguenze gli osimani con i propri denari e ora quando qualcuno prima mi ha detto e ci ha detto che noi non mettiamo i soldi per il Covid mi sembra che nel passato pure se ne sprecavano tanti perché questi soldi che dobbiamo dare all'ingegnere Mazzucchini li potevamo evitare si parla di quasi 308 mila euro e altri scenari già dati non conta il fatto che l'amministrazione dei tecivi aveva un accantonato il danno era già stato fatto accantonavano soldi degli osimani per un danno voluto da chi amministrava non per un danno a carico degli osimani quindi adesso gli osimani dovranno tirare fuori questi soldi ma spero vivamente che chi ha sbagliato allora con questa sentenza finale si metta metta mano al portafoglio e restituisca agli osimani tutti questi soldi perché ad esempio questi soldi che adesso riconosciamo come debito fuori bilancio potevano essere usati proprio come ha detto qualcuno siccome non abbiamo fatto niente per il Covid li possiamo usare adesso e quindi è questo il concetto diverso che viaggia tra la legittimità e l'illegittimità la legittimità è il debito fuori bilancio della sentenza passata in giudicato di cui non conoscevamo l'esito per i quali siamo difesi e per i quali dobbiamo stasera trovare i denari che è la fratelli Simonetti la scelta discrezionale dell'amministrazione latini di licenziare l'ingegnere Mazzocchini è una scelta personale di chi amministrava la città non dovuta fatti oggettivi di non rispetto della legge è un fatto oggettivo e quindi solo per fare giurisprudenza ma ne parlerà meglio Mauro Pellegrini dopo di me quindi bisogna non si può spostare l'asse su sui fondi messi da parte da Simoncini per l'Imu come diceva Diego Calina Fiorini o sui fondi messi da una parte per il contazioso di Mazzocchini non li abbiamo utilizzati Stefano non li abbiamo utilizzati sono lì si sono accantonati perché erano dovuti si chiamano per la legge dello Stato per il testo unico antilocali si chiamano passività potenziali mentre la sentenza passata in giudicato porta ad un debito fuori bilancio perché c'è una sentenza una buona amministrazione accantona per passività potenziali lo dice la parola stessa potenziali cosa significa? che nel mentre sai che potresti perdere la battaglia intanto accantoni ma i 250.000 euro per Limo da restituire sicuramente se perdiamo al TAR non basteranno e andremo in default i soldi messi a bilancio per Mazzocchini bastano in parte però si differenziano da Simonetti e da Limo perché è una scelta oggettiva e discrezionale del sindaco di allora che noi rispettiamo come scelta ma siccome è stata ritenuta illegittima dalle sentenze ormai è passata in giudicato chi ha fatto quella scelta personale oggettiva e soggettiva oggi deve rifondere gli usimani di quei soldi non li possiamo noi impegnare quei soldi per gli errori fatti personalmente a chi amministrava la città io mi auguro che dopo il voto del Consiglio Comunale tutto vada alla procura della Corte dei Conti come la legge dello Stato ma che in prima persona la tini dica mi sono sbagliato ridarò i 308.000 euro agli usimani questo sarebbe un grande gesto da parte della loro sindaco Latini che fece una scelta personale discrezionale e soggettiva che porta oggi gli usimani ad impegnare per tutti questi euro se lui restituirà tutti questi soldi al Comune di Osimo io mi prendo l'impegno stasera che li donerò tutti per il Covid e per tutte quelle richieste che Stefano Simoncini ha fatto all'amministrazione che per il Covid non ha fatto niente con i soldi che Latini ci darà li spenderemo tutti per il Covid grazie grazie sindaco consigliere Canapa prego grazie presidente in merito a questa delibera abbiamo discusso anche oggi pomeriggio in prima commissione e quello che mi preme ribadire sì a parte l'importo ingente di 305.000 euro che dobbiamo erogare in aggiunta alle somme già erogate in precedenza all'ingegnere Mazzucchini e che come ricordavano sia il sindaco sia il consigliere Gallina Fiorini sono soldi degli osimani non sono stati accantonati dal sindaco Latini sono stati accantonati dal sindaco Simoncini o sono stati accantonati dalla devoluzione di soldi di appartenenti riappartenenti alle liste civiche no questi sono soldi che vengono sono stati messi da parte dai soldi degli osimani quindi nel corso del tempo non sono stati spesi questi soldi sono stati richiesti agli osimani ma non sono stati spesi perché si pensava che probabilmente sarebbe arrivata questa sentenza quindi sono soldi degli osimani che ora vengono utilizzati per indennizzare l'ingegnere Mazzucchini qual è la differenza principale dobbiamo spiegarlo anche agli osimani tra questa tra questo riconoscimento di debiti fuori bilancio e altri altri ma lo spiegano molto bene i revisori dei conti e sia l'altra volta che questa volta gli appartenenti alle liste civiche che sono sempre molto bravi a indignarsi su tutto e poi dopo non riescono neanche a leggere un documento dei revisori dei conti lo esplicitano molto bene lo esplicitano molto bene dicono e leggo per gli osimani che magari non hanno avuto modo di leggere la relazione dei revisori dei conti considerato che con tale sentenza si sta retribuendo un ex dipendente dal 2002 al 2012 in totale mancanza di prestazioni lavorative a seguito di un licenziamento illegittimo e che pertanto si configura un evidente danno patrimoniale ai danni dell'ente questa è la sostanza ma per essere pure più chiaro noi stiamo pagando stiamo dando 400.000 euro a una persona senza che questa abbia fatto abbia erogato un servizio una prestazione lavorativa per il comune qui sono 400.000 euro buttati proprio via presi dagli osimani e buttati via e questa è la differenza con qualsiasi altra cosa e faccio un esempio comparativo per far capire la gravità della situazione nella prossima delibera dovremo riconoscere un altro debito fuori bilancio per una restituzione di oneri di urbanizzazione che abbiamo richiesto ai fratelli Simonetti lì erano i fratelli Simonetti che avevano versato degli oneri hanno fatto ricorso e il consiglio di stato alla fine di una lunghissima vicenda tra diverse rimpalli trattare il consiglio di stato ha determinato che i fratelli Simonetti devono rivedere quei soldi ma quelli erano soldi dei fratelli Simonetti e ritornano in possesso dei fratelli Simonetti non c'è un danno per gli osimani non c'è un danno per gli osimani la gravità invece di questo riconoscimento fuori bilancio è proprio quella che noi stiamo buttando via per una scelta personale personale della precedente amministrazione stiamo buttando via soldi degli osimani per 400 mila euro non 5 mila euro non un euro 400 mila euro e passa questo è il danno delle liste civiche che hanno fatto agli osimani un gravissimo danno e sentire minimizzare il consigliere Simoncini paragonandolo a una questione come quella dell'ospedale ma lei è stato sindaco ma si rende conto della gravità delle cose che dice lei che si indigna per qualsiasi cosa e urla e sbraita si rende conto di quello che dice purtroppo come detto in commissione mi troverò costretto a dar parere favorevole a questa a questo riconoscimento dei debiti fuori bilancio non possiamo fare altrimenti questa è una sentenza della magistratura della corte d'appello devo autorizzare con il mio voto dobbiamo autorizzare con il nostro voto di buttare via quattrocentomila euro degli osimani presi dalle tasse degli osimani non utilizzati per dare servizi agli osimani ma per buttarli via per una scelta personale di una becca amministrazione questo deve essere chiaro grazie grazie a lei consigliere Canapa non ci sono altre richieste di intervento quindi passerei adesso la parola al segretario per rispondere alla domanda del consigliere Ginnetti sì allora faccio un attimino una serie di precisazioni prettamente tecniche questa delibera come tutte le delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio deve essere trasmessa alla corte dei conti proprio come ricordava il consigliere Ginnetti e come dicono anche i revisori dei conti al termine del loro referto quindi facendo riferimento all'articolo 23,5 della legge del 27 dicembre 2002 numero 289 quindi sia questa delibera che quella dopo devono comunque essere trasmesse alla corte dei conti e questa è una trasmissione che viene fatta diciamo tra virgolette di routine mentre altra cosa è l'applicazione dell'articolo 239 comma 1 lettera E del Tuel dove si dice appunto in questo comma che l'organo di revisione deve produrre referto all'organo consigliare su gravi irregolarità di gestione e questo è quello che hanno fatto appunto con il parere che hanno allegato alla proposta di delibera e poi dice anche ed in un primo momento i revisori dei conti si erano limitati a questo trasmettendo appunto la questa appunto invito esortazione al comune di attivarsi nei confronti dei responsabili come viene detto appunto nel parere però l'articolo appunto 239 comma 1 lettera E continua dicendo con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali dove si configurino ipotesi di responsabilità ed è per questo come mi hanno comunicato questa mattina i revisori dei conti che hanno ritenuto di trasmettere direttamente essi stessi appunto la tutta la documentazione alla procura della corte dei conti al fine di verificare al fine di consentire alla procura della corte dei conti se appunto si configurino ipotesi di gravi irregolarità di gestione che possano appunto far emergere una responsabilità da parte dell'allora amministrazione o degli allora amministratori che avevano preso queste decisioni concludo concludo anche con un'altra questione che invece diceva il consigliere Simoncini se ci fossero appunto se fosse o meno coperta questa delibera da accantonamenti sì la tutta la somma che dobbiamo andare a spendere era comunque prevista nel fondo nel nel fondo appunto del del bilancio come appunto viene chiaramente detto nel nella delibera ricordo che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze devono essere sempre portati in consiglio comunale anche se gli accantonamenti ci siano tutti non è che si portano soltanto quelli per i quali occorre prevedere una appunto una copertura ok grazie grazie segretario passo la parola all'assessore per le grini per rispondere alle domande del consigliere Simoncini e per concludere sì ma in parte ha già risposto in parte la domanda del consigliere Simoncini ha già risposto il segretario cioè non è che capisco diciamo lo slittamento concettuale che ci può essere siccome c'è scritto riconoscimento del debito fuori bilancio allora vuol dire che non c'è la copertura in bilancio però come è stato appunto spiegato non è così ma nel caso delle sentenze bisogna appunto comunque seguire la procedura dei debiti fuori bilancio però come era stato detto certo che da 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 molti anni è accantonato sono accantonate delle somme accantonamento che abbiamo ovviamente riconfermato nel bilancio di previsione che abbiamo poc'anzi abbiamo approvato appunto circa un mese fa o poco più ora la domanda quanto aveva accantonato l'amministrazione diciamo Simoncini e quanto in quella Puglialoni si è trovato già accantonato questa è una domanda cui francamente non so rispondere anche perché tra il 2014 e il 2015 sono cambiate le regole di contabilità degli enti locali quindi diciamo quella voce che oggi noi troviamo di avanzo vincolato per diciamo il rischio del contenzioso non trovava una voce corrispondente nel diciamo nel sistema nel sistema contabile previgente quindi questo non sono in grado di rispondere ma certamente immagino insomma che delle somme siano state accantonate anche diciamo in qualche modo all'amministrazione precedente poi nel 2015 dopo il consultivo del 2014 con l'entrata in vigore della nuova contabilità è stato appositamente costituito questo fondo quindi ecco si chiama debito fuori bilancio ma perché è una sentenza quindi dobbiamo sicuramente questa procedura non perché non abbiamo la copertura la copertura c'è perché altrimenti se non ci fosse avremmo dovuto fare una variazione di bilancio ecco invece vuol dire la copertura già è prevista però è chiaro che insomma previsti da un'amministrazione o da un'altra è chiaro che diciamo la sostanza non cambia che sono sempre ovviamente soldi dei cittadini osimani e sulle altre questioni forse sono non sono perfettamente centrate in tema ma sì c'è una convenzione con l'avvocato Galvani studio legale Galvani che andò a scadenza ripeto vado a memoria quindi posso dire qualche disattezza ma andò a scadenza mi sembra nei primi mesi del 2015 che c'era un posto per il comune anche qui vado a memoria ma mi sbaglio di poco di circa centoventimila euro però come dire poi quella convenzione non fu rinnovata anche perché prima non si poteva rinnovare ma occorreva a caso mai fare un bando di gara avere proprio una gara una gara d'appalto pubblica per i servizi legali ma non è questa la strada che ha scelto il comune né diciamo moltissimi comuni che io conoscano perseguito questa strada quindi di volta in volta diamo degli incarichi legali a singoli professionisti in base appunto alla complessità della materia alla specializzazione di un buono ma non nascondo che per molte cause che hanno riguardato e riguardano ovviamente il diritto amministrativo il comune si è spesso si rivolge all'avvocato Galvani di cui ha completa diciamo fiducia e stima e dai conti che ho fatto ma questi sono facilmente raffrontabili non le posso però dimostrare date alla mano che comunque quello che ha speso anche negli anni successivi il comune di Osimo per il contenzioso comunque era inferiore a quella cifra che dipende da circa dei 120.000 euro di cui di cui ha la convenzione ecco dati questi chiarimenti la conclusione che mi sento di fare cioè è certamente vero che ogni amministrazione vuol dire che subentra si trova vuol dire nelle cause legali dell'amministrazione precedente o spesso anche di amministrazione ancora più risalenti nel tempo perché come ci insegna questa questa causa ci sono contenziosi che per fare vicissitudini possono durare anche appunto vent'anni come è come è il caso di specie ecco però ecco certamente certamente per chi riporta un po' l'epoca parliamo dei primi anni dei primi anni 2000 ecco su questa vicenda ci fu ecco una diciamo vera e propria prova muscolare dell'amministrazione insomma non solo sul dirigente di cui avevo parlato stasera ma anche di altri adesso di cui poi non facciamo i nomi non nominiamo ma vuol dire ci sono dei contenziosi diciamo che con un po' di buona volontà ecco certamente si potevano si potevano sicuramente evitare oggi chiaro il comune non butta non è corretto dire il comune butta via 400 mil euro perché se una sentenza ha statuito che un cittadino ha diritto un dipendente comunale ha diritto al risarcimento del danno come dire quella somma è dovuta ed è giusto dargliela se così è stato accertato il problema è il problema è come dire se come dire quella arrivare a quella decisione come dire poteva essere come dire un granusalis poteva essere diciamo evitata e quindi questo avrebbe comportato avrebbe comportato tante conseguenze negative sia alla persona stessa interessata ma anche ma anche per le casse per le casse comunali grazie grazie assessore apriamo le dichiarazioni di voto ha chiesto la parola il consigliere Feliciani prego sì grazie presidente il voto di energia nuova sarà ovviamente favorevole perché si tratta di una sentenza e quindi va rispettata però questa sì è una votazione carica di indignazione anche sofferenza perché quello che stiamo trattando è un argomento che purtroppo toglierà dalle nostre casse comunali la bellezza di oltre 400 mila euro sommando tutto l'iter oltre ai 305 mila euro di cui stiamo già parlando adesso e quindi qui il problema sì che è grave come è stato appena detto perché stiamo parlando di un errore che non è stato fatto a caso non c'è stato un errore di calcolo una erronea interpretazione di un un una liquida da far pagare o quant'altro si sta trattando di qualcosa che è stato fatto in maniera conscia volutamente illegittima quindi e adesso la beffa poi ulteriore in tempi di covid dove ogni euro è importante ed ogni risorsa è fondamentale per la sopravvivenza di una impresa di una famiglia e quant'altro dobbiamo purtroppo drenare tutte queste risorse a favore purtroppo di qualcuno che ha subito un torto in una precedente amministrazione ma come ha giustamente detto il sindaco Pugnaloni sappiamo benissimo che ovviamente il colpevole l'allora sindaco Nino Latini prese questa decisione e ci dispiace oltretutto che come ha sottolineato anche il consigliere Gallina Fiorini dalle opposizioni dalle liste civiche non vengano scuse e soprattutto mia colpa di fronte a un danno così grande per Giosimani e le sue finanze ma bensì come il consigliere Simoncini ha fatto si è uscita fuori una retorica abbastanza confusa e molto fuori il fuoco che tutto ha fatto tranne distoglierci dal danno e dal brutto momento che i casi Osimani stanno passando proprio perché c'è stata una responsabilità ben precisa che ha danneggiato tutti gli Osimani per una cifra davvero ragguardevole che purtroppo si viene consegnata a un cittadino che purtroppo ha subito un danno quindi riconosciuto questa cifra però comunque sia per i cittadini Osimani il beneficio di questa cifra che stiamo spendendo adesso è comunque sia pari a zero grazie presidente grazie consigliere Feliciani consigliere Simoncini prego riattivato l'audio sì prego ok allora io voglio dire semplicemente questo anche noi naturalmente segnaleremo la pratica Simonetti alla procura della Corte dei Conti perché secondo me la natura del debito fuori bilancio è la medesima errore se c'è stato è stato sulla prima pratica errore come ha stabilito il Consiglio di Stato c'è stata in una illegittima richiesta di oneri di urbanizzazione sulla seconda e a Canapa vorrei dire ma come non c'è un danno se dobbiamo restituire soldi chiesti e soprattutto incassati per gli oneri di urbanizzazione e poi spesi tra l'altro e se oggi li dobbiamo restituire ad una ditta a cui indebitamente avevamo chiesto di pagare una certa somma che invece non doveva pagare è la stessa natura del primo debito fuori bilancio e addirittura voi che vi riempite la bocca di soldi degli osimani che dobbiamo pagare e io vi dico che è la stessa somma che la vostra amministrazione ha regalato ad Astea perché non si aumentasse la Tari e quindi a carico di tutto il bilancio del comune a carico di tutti i contribuenti osimani gli abbiamo fatto pagare qualche cosa che invece dovevano pagare soltanto le persone soggette Tari ma sempre che sempre che quel conteggio sia stato diciamo giusto pertinente corrispondente effettivamente al costo del servizio e non invece gonfiato o che dentro ci sono state messe tante altre voci di bilancio che potevano non essere messe non lo so può darsi pure sta di fatto che la Tari è aumentata è sta di fatto che l'abbiamo pagata noi osimani lo stesso proprio come accade in questo in questo caso io veramente questo ragionare a due pesi e due misure sia che il la questione riguarda le liste civiche o che riguarda l'amministrazione Pugneroni proprio non lo capisco ma proprio non lo capisco stiamo facendo due delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio la prima è ingiusta le liste civiche devono chiedere scusa e destra e sinistra la seconda no la seconda è legittima un consiglio di Stata ha detto che abbiamo riscosso non so quanti oneri centomila euro di più rispetto a quello che un cittadino doveva pagare eh gli abbiamo praticamente rubato dei soldi che non era giusto che doveva pagare e la cosa non è uguale no la cosa non è uguale ma come ragionate grazie ma come ragionate grazie davvero ci avete ci avete dei problemi a comprendere i meccanismi di un'amministrazione comunale per cui per e soprattutto scusate soprattutto per le risposte confuse e per niente precise dell'assessore eh Pellegrini voterò contro questa delibera allora adesso ha chiesto la parola il consigliere Canapa poi il consigliere Gallina Fiorini e poi la consigliera Donia prego consigliere Canapa grazie presidente come già annunciato nel mio intervento voterò a favore e vorrei precisare eh la parola sul buttar via i soldi perché sembra quasi che io abbia detto che fornire dei soldi decisi da eh una sentenza passata in giudicato dalla Corte d'Appello e non siano legittimi no no io ritengo che siano legittimi sto dicendo come utilità per gli osimani e come buttar via i soldi è evidente che l'ingegnere Marzocchini debba averli tutti fino in fondo e fino all'ultimo centesimo al netto come già stato stabilito dalla dalla sentenza questo è solo per precisare forse nell'intervento nella foglia dell'intervento forse eh non era non era passato bene il messaggio questo era solo per precisare per quanto eh dice il consigliere Simoncini io sinceramente eh non ho parole addirittura non si è sentita una parola di scuse perché in tutti gli interventi abbiamo spiegato qual è la differenza se un non c'è peggior sordo sordo di chi non vuole capire quindi eh lasciamo perdere ma la cosa che è più imbarazzante è che non si è sentita una parola di scuse da parte delle liste civiche per quello che sta accadendo e voterà addirittura contro cioè come se non dovessimo riconoscere il debito fuori bilancio e non dovessimo far pervenire all'ingegnere Mazzocchini quei denari che sono invece eh determinati da una sentenza della Corte d'Appello cioè qui siamo all'assurdo all'assurdo voterò a favore grazie grazie consigliere Canapa consigliere Gallina Fiorini prego grazie presidente ma vedete qual è la differenza rispetto alle due delibere questa è quella che poi discuteremo successivamente è che in questa vicenda è stato licenziato senza un motivo senza un giusto motivo ma solo per una questione discrezionale e forse personale un dipendente che aveva vinto un regolare concorso pubblico ok? non ho sentito come diceva lo stesso Canapa una parola di scusa verso nessuno né verso Iosimani neanche verso il lavoratore che ha visto la sua carriera compromessa definitivamente e la differenza è una è sostanziale noi stiamo pagando mensilità oltre ovviamente ad altre risorse aggiuntive oltre alle spese legali insomma tante altre voci ad un lavoratore che non ha lavorato in quel periodo ok? per volontà dell'amministrazione comunale di allora e poi ne sono stati assunti altri di lavoratori per lavorare al suo posto quindi abbiamo pagato quelli che sono stati assunti dopo e più ne abbiamo pagato profumatamente perché poi ci abbiamo versato sopra spese legali sanzioni e quant'altro l'articolo 18 che è stato riconosciuto tra le altre cose non potendo fare la reintegra perché nel frattempo dopo oltre 18 anni si è guadagnato il diritto per andare alla pensione chiaramente abbiamo dovuto però versare l'indenità sostitutiva rispetto alla reintegra nel posto di lavoro ok e da tutta questa vicenda non c'è una parola di scusa per dire beh forse abbiamo sbagliato forse come dice la magistratura non dovevamo licenziarlo no secondo le liste civiche era giusto comunque licenziare Mazzucchini perché loro sono convinti tuttora che dovevano licenziarlo e quindi quei soldi è giusto che gli osimani siano a darli vedremo vedremo se sarà così oppure chi è responsabile di quello che è accaduto dovrà pagare il voto sarà favorevole grazie grazie consigliere Gallina Fiorini consigliera Donia prego grazie presidente io mi asterrò mi asterrò perché i debiti fuori bilancio quindi rappresentano appunto delle spese impreviste e in questo caso proprio derivano da una sentenza definitiva per cui l'ente comunale non si può esimere dalla pagarli però e quindi hanno bisogno proprio di un riconoscimento formale che è proprio la delibera del consiglio comunale è anche vero però che in mancanza di un riconoscimento formale diventa debitore il funzionario cioè l'amministratore o chi chi è responsabile chi ha creato diciamo questo debito quindi anche la persona fisica che ha dato luogo al debito stesso dunque è vero pure che i creditori del debito fuori bilancio potranno ugualmente agire contro il comune anche in assenza di un riconoscimento formale però è altrettanto vero che diciamo il tutto ricade nella persona che li ha causati quindi proprio per questo motivo io mi astengo mi astengo perché non so se la cosa è più corretto approvare dare questa sentenza dare questa diciamo riconoscimento formale alla delibera del consiglio affinché vengano pagati o sarebbe bene agire direttamente su chi ha causato il debito ecco grazie grazie consigliera Donia non ci sono altre dichiarazioni di voto passo la parola al segretario per la votazione chiedo doppia votazione anche per l'immediata eseguibilità pugnaloni favorevole favorevole campanari favorevole favorevole paolella favorevole favorevole flamini favorevole favorevole gallina fiorini favorevole favorevole canapa favorevole favorevole luna favorevole favorevole Invernizzi, Invernizzi Filippo è presente? Passo avanti per il momento, maggiori, favorevole, favorevole, Gobbi, favorevole, favorevole, Feliciani, favorevole, favorevole, Vignoni, favorevole, favorevole, Ricci, doppio favorevole, Pilli, favorevole, favorevole, Brandoni, favorevole, favorevole, Rossi, favorevole, favorevole, Simoncini, contrario, contrario, Bordoni, contrario, contrario, Antonelli, contrario, contrario, Donia, tenuta, stenuta, Ginnetti Astenuto, astenuto Alessandrini Passarini Astenuto, astenuto Chiedo il voto di Invernizzi Sì, mi scusi ma non riuscivo a ricollegarmi, favorevole, favorevole Ok, allora abbiamo tre astenuti, tre contrari, restanti favorevoli, la proposta è approvata Grazie segretario, passiamo al punto numero cinque, riconoscimento, legittimità, debito fuori bilancio, per pagamento somme di cui è la sentenza esecutiva del Consiglio di Stato, sezione quarta, numero sei mila sei centosessanta del duemila e venti Vi ricordo che dobbiamo alla fine del Consiglio comunale ascoltare gli amministratori delle società partecipate, quindi rimaniamo nel tema e utilizziamo i minuti senza sforare i minuti che prevede il regolamento, grazie Prego assessore, presenti la delibera Grazie presidente, allora anche dunque in questo caso come veniva detto, mentre prima ci trovavamo di fronte a una debito fuori bilancio di una sentenza che condanna alcune a risarcire un danno, in questo caso siamo in tema di ripetizione di debito Ovviamente sono concetti giuridici molto chiari, lineari, poi per chi non li comprende insomma pazienza Ora anche in questo caso la vicenda è molto complessa, provo a riassumerla in poche battute visto il tempo a disposizione Quindi come ricorderete nel duemila e dodici fu approvato il PAU che assentiva l'intervento edilizio della ditta fratelli Simonetti Quel titolo fu impugnato davanti a Tarmarche, Tarmarche nella prima sentenza annullò il PAU, cioè titolo abilitativo edilizio Per quale ragione? Per la ragione che c'era un vizio a monte, cioè riteneva non corretta la revoca del piano inizialmente presentato dalla ditta fratelli Simonetti Quindi ricorderete che il vizio era quello del contrario, quindi bisognava cioè seguire, disse allora Tarmarche E quindi è la stessa procedura che si fa per una variante urbanistica E quindi disse allora il Tarmarche che l'atto precedente del Consiglio Comunale con il quale si era preso atto della revoca del piano di recupero presentato dai Tarmarchi Simonetti doveva valere quale adozione preliminare Quindi nel frattempo si insiedò l'amministrazione Pugnaloni nel nel 2014 E quindi che cosa fece? Diede esecuzione alla sentenza del Tarmarche E quindi se quella era l'adozione preliminare, se quella disse TAR vale condizione preliminare fu portata in Consiglio Comunale l'adozione definitiva E poi ovviamente fu rilasciato un nuovo titolo edilizio nel 2015 E quindi in sostanza in qualche modo si prendeva atto del vizio procedimentale che c'era stato allora E quindi fu rilasciato un nuovo permesso appunto nel 2015 Allora mentre sullo sfondo si accavallavano ricorsi, contro ricorsi incidentali Prima al Consiglio di Stato, poi di nuovo al Tarmarche, poi di nuovo al Consiglio di Stato Nel 2015 il Comune di Osimo deve fare questa valutazione Cioè devo applicare gli oneri che vigevano nel 2012 o quelli che vigevano nel 2015 Cioè all'atto del rilascio del nuovo PAU E dove dire sì, sentivi anche ovviamente i legali di luce al Comune di Osimo Quindi si optò per la seconda soluzione Cioè applichiamo gli oneri che vivono al momento del rilascio del nuovo titolo Ora, perché allora nasce questo contenzioso? Questo contenzioso sui oneri nasce perché lo stesso Consiglio di Stato E' stato adito dalla ditta Fratelli Simonetti per la revocazione della precedente sentenza Proprio del Consiglio di Stato Che riguardava cioè il mancato esame di un punto del ricorso Che era quello della possibilità di attuare in piano casa Perché nei tarmac in prima battuta Nel Consiglio di Stato in seconda battuta Si erano pronunciati su questo profilo Cioè quello se la legge sul piano casa potesse essere direttamente applicabile Anche interroga alla previsione di piano E quindi se si era diventamente applicabile nel piano casa Allora veniva meno tutta la discussione Che è stata oggetto di dare il Consiglio di Stato In primo o secondo grado Sul discorso del contrarios actus E quindi della revoca del piano di recupero iniziale Allora a questo punto Dopo che il Consiglio di Stato Ha come dire preso atto di essersi sbagliato Nella precedente sentenza Perché non aveva esaminato questo profilo È chiaro che come si dice Come dice lo stesso Consiglio di Stato Nella sentenza di cui oggi andiamo a prendere atto Dice è cambiata diciamo completamente La vicenda della storia Perché? Perché allora Sulla base della seconda sentenza del Consiglio di Stato Dalla seconda sentenza del Consiglio di Stato Si dice che cosa? Che quindi il Paolo del 2012 In qualche modo Conservava Conservava la limitità E quindi bisognava fare riferimento Agli ordini di allora Però vuol dire Si è arrivati a questo Si è arrivati a questo Ma vuol dire Il Comune di Osimo Che doveva fare altro Se non dare esecuzione alla sentenza Del Tarmarche E poi alla sentenza del Consiglio di Stato Poi quindi a seguito ovviamente di questo Cambio di orientamento Del Consiglio di Stato Emerge che cosa? Emerge l'indebito plus di pagamento Di pagamento degli oneri Per le ragioni che vi ho appena detto Quindi ripeto si tratta di appunto Non di un disarcimento del danno Ma di una restituzione degli oneri Già con risposte Che oggi il Comune Deve restituire indietro Grazie Grazie Assessore Pellegrini Apriamo la discussione Grazie Non ci sono richieste di intervento Quindi possiamo chiudere la discussione Sindaco voleva concludere Solamente per Solamente per ribadire Che deve essere chiaro A tutti coloro che ascoltano Come ha detto l'assessore Pellegrini Ma ci siamo detti prima Che un conto è un comportamento Soggettivo Non previsto per legge Da parte dell'amministratore pubblico Che deve essere denunciato Alla procura della Corte dei Conti Dal debito fuori bilancio Previsto per legge Che arriva da una sentenza Passata in giudicato Dove l'amministrazione Si è difesa Perché pensava di avere Delle ragioni La sentenza è intervenuta I soldi a bilancio Non ci sono Vanno Trovati Il segretario ha detto L'abbiamo già messo In questo caso Stiamo solo riconoscendo La sentenza che è pervenuta E i soldi a bilancio Ci sono per pagare Un conto è Una diatriba Di natura Tecnica Disquisizioni tecniche Tra posizione dell'amministrazione Degli uffici E terzo soggetto Terzo utente E un conto è Un comportamento Personale Soggettivo Di un amministratore pubblico Che ha fatto una scelta Dove c'era una persona Che è stata assunta Con un regolare concorso pubblico E il concorso A meno che il dipendente Penso nei casi più gravi Rubi O commetta reati gravi Il dipendente pubblico Rimane per sempre Se qualcuno ha deciso Di licenziarlo Oggi purtroppo Ne paga le conseguenze E quindi chiediamo Che chi Ha fatto quella scelta Soggettiva Rifonda il bilancio comunale E quei soldi Li metteremo A disposizione Per tutto quello Che non abbiamo fatto Come ha detto Simoncini E fino adesso Lo faremo con i soldi Che quell'amministratore Li darà al comune di Osio Perché non vogliamo impegnare Gli osimani Per un debito fuori bilancio Così importante Si parla di 308 mila euro Grazie sindaco Apriamo le dichiarazioni di voto Consigliera Bordoni Prego Dunque Io comprendo L'impegno che mette il sindaco Per riuscire a mettere fumo Negli occhi E riuscire a trovare la differenza Le differenze non ci sono Siamo in questo consiglio Per discutere su due variazioni Di cui non ci sono assolutamente differenze Questo ormai credo che l'ha capito anche I cittadini Che ci stanno ascoltando Che non riescono ad entrare nel merito Perché non conoscono gli atti E quindi si appellano Ascoltano solamente le nostre diatribe Quindi uno cerca di arrabartarsi E di portare Piuttosto l'amministrazione A sé i ragionamenti Quindi le differenze Come non c'erano prima Non sono intervenuta Sulla modalità Della votazione Per il cambiamento Al punto dell'ordine del giorno E quindi la mancanza di umanità O la mancanza anche di rispetto Verso la salute di una persona Che arriva anche prima Della votazione del bilancio Siamo nella stessa condizione Anche adesso Di votare Un identico atto Che comunque Richiede un esborso Adesso quale sia la motivazione Quale sia Tutto il cappello Che avete fatto Di cui Non riempro il merito Perché non merita nemmeno La diatribe La battaglia politica In questa modalità Ma che comunque Richiedono entrambi Il pagamento di somme Messe a bilancio Quello che è importante dire Che i fondi di accantonamento I fondi di accantonamento Sono importanti Questo lo sappiamo Credo che proprio L'amministrazione Latini Credo con L'allora Camillucci Sia stato uno dei primi A utilizzare Quando ancora Non c'era Assolutamente necessità No? I fondi L'accantonamento Dei fondi Proprio In maniera Precazionale Perché Purtroppo Quando si governa Quando si gestisce Il bene pubblico Si fa bene Qualche cosa Viene contestato Quindi è giusto Anche mettere Un riparo E pertanto Se Questa amministrazione Avesse utilizzato E accantonato Nella maniera Più giusta E forse I soldi ci sarebbero Un po' Per tutti Sulla Modalità Di sperperare E le responsabilità Politiche Che sono emerse Anche da questo dibattito Penso che ognuno Con un grosso esame Di coscienza Le responsabilità Politiche Ce n'ha Ce n'è Questa amministrazione Ce n'ha Davvero tante Non è questo L'oggetto Il momento Di dibattere Ma lo faremo Sicuramente Poi Quando ce ne sarà Occasione Nei punti No? Indicati All'ordine del giorno Quindi ognuno Si tenga le proprie Responsabilità politiche È stato No? Più volte Nominato Il precedente Sindaco Della città Di Noratini Che deve chiedere scusa Che deve No? Allora Evidentemente Si ha fatto una E ha preso Una decisione politica Eh L'ha presa Con cognizione di causa Se il sindaco Dice che un dipendente Pubblico Non va toccato Perché come viene assunto Sta lì Vita naturale Durante Va bene Questo è un suo pensiero Di modalità Di gestione Del personale pubblico Che rispettiamo E che magari Non coincide Invece Con altri E altre modalità Di agire Quindi Se quell'azione È stata fatta Ci sarà Sicuramente Ci sono state Le giuste motivazioni Che non stiamo qua A ripetere E non è il giusto dibattito Il giusto dibattito È quello di portare In consiglio comunale L'atto Appunto Per poi dopo No? Grazie Farne E quindi Il nostro voto È di È negativo Grazie Consigliere Abordoni Consigliere Canapa Prego Grazie Presidente Mi dichiaro A favore Dell'approvazione Di questa delibera E A differenza Di quanto detto Dalla consigliera Abordoni Io penso Che invece La sostanza Delle delibere Deva essere tenuta In considerazione Perché non sono Assolutamente Uguali Per niente L'abbiamo spiegato Ma quello Che ha detto Anche il consigliere Galina Fiorini Cioè qui C'è una sentenza Della Corte D'Appello Che dichiara Che l'atto Fatto dal sindaco Dino Latini Il sindaco Protempore All'epoca nel 2000 È un atto Illegittimo Che lede I diritti Di un cittadino Che era anche Dipendente Comunale Credo che questa Sia la cosa Fondamentale Da tenere in considerazione E il fatto Che si rifiutino Sia Di ammettere L'errore Ma cerchino Comunque sia Di mettere Nello stesso calderone Tutto Di fare confusione Di arrampicarsi Sugli specchi Denota Proprio Da parte Delle liste civiche Assoluta Mancanza Di una visione Istituzionale Dell'organo In cui Siedono Totalmente E mancanza Di rispetto Verso Chi ci ascolta Da casa E verso I consiglieri comunali Che fortunatamente Possono tranquillamente Leggere la documentazione E rendersi conto Che quello che dicono È assolutamente Privo di senso Quindi mi dichiaro Di nuovo A favore Di questa delibera E grazie Grazie Consigliere Canapa Consigliere Gallina Fiorini Prego Sì Grazie Presidente Allora È evidente Che ha ragione Canapa Quando dice Che sono due questioni Completamente diverse Che si cerca Che l'opposizione Cerca di Invece Confondere Mettendo tutto Nello stesso calderone Per appunto Gettare un po' Di fumo Negli occhi Se I colleghi Di opposizione Avessero Partecipato Si può fare Una roba del genere Prego Consigliere Prego Grazie Se Se i colleghi Di opposizione Avessero Partecipato Alla riunione Della commissione Della prima commissione Affari generali Che si è tenuta Prima del consiglio Avrebbero potuto Confrontarsi Con i tecnici E quindi Avrebbero capito La differenza Sostanziale Che c'è Tra le due Delibere E tra l'altro Insomma Senza Star qui A ricordare Tutta la vicenda Molto complessa Del piano di recupero Dell'ex consorzio agrario Da parte Della ditta Fratelli Simonetti Dico semplicemente Che ci sono In 2012 In 2015 Nel 2015 Gli oneri Erano aumentati Per cui Nell'incertezza Era stata fatta Pagare Una differenza Un conguaglio Ai fratelli Simonetti E poi è intervenuto Il Tare Il Consiglio di Stato Dicendo che Bisognava prendere Riferimento Invece Gli oneri Del primo Del 2012 Per cui Questa differenza Conguaglio in più Che è stato versato Viene ora restituito È una cosa Completamente Diversa Dalla precedente Io ho capito Tra le righe Quello che L'opposizione E le liste Cinghe Vogliono dire E cioè Beh Dall'altra parte Cioè Dalla maggioranza C'è la convinzione Il sindaco Dice No Che un dipendente Pubblico Non può essere Mai toccato Ma invece Se il sindaco Di allora L'ha licenziato In fondo Un motivo valido C'era Non è che l'ha licenziato Così No Ci doveva essere Un motivo Ma guardate Ma guardate che È la magistratura È la corte di appello Di Perugia Che ha detto Che non doveva essere Licenziato Non c'erano I motivi Per farlo Ok È stata una decisione Completamente discrezionale Non motivata Non motivata E non giustificata Finitela di dire Che se è stato Licenziato Allora C'era un motivo Non c'era Lo dice la magistratura A meno che Non vogliate Contestare Anche la magistratura Oltre che Chiaramente Le altre istituzioni Comunali Ecco Per questo Il mio voto Sarà favorevole Grazie Grazie consigliere Sindaco Prego Io Vorrei rispettare Tutti I pensieri Che mi hanno Presceduto Però La legge La legge Ripeto Ancora una volta La legge Il testo Unio antilucale Definisce Cos'è un debito Fuori bilancio Se il debito Fuori bilancio Scaturisce Dalla legittimità Di una sentenza Passata in giudicato È giusto trovare Le risorse A bilancio E ripianarlo Se un debito Fuori bilancio Deriva da un comportamento Soggettivo Discrezionale Di chi allora Amministrava Se ne deve assumere Le responsabilità Oggi purtroppo Dopo tanti anni Siamo arrivati Alla sentenza Passata in giudicato Il licenziamento I mazzucchini Non lo possono pagare Iosimani Non l'hanno chiesto Iosimani Di scienziamento Di mazzucchini Il scienziamento Di mazzucchini È stata un'assunzione Di responsabilità Da parte Il sindaco Di allora E quindi Iosimani Non è giusto Che impegnino Oggi 308 mila euro E come diceva Simoncini prima Se non abbiamo fatto Niente per il covid Adesso Con questi 308 mila euro Ci potremmo fare E ci potremmo fare Qualcosa di importante Quindi mi aspetto Che il sindaco Di allora Si assuma la responsabilità Dell'atto che ha fatto E rifonde Il bilancio comunale Di questi 308 mila euro Il giorno dopo Faremo una variazione Di bilancio Tutta per il sociale E per chi E per chi è in crisi economica Il mio voto Sarà favorevole Grazie sindaco Consigliere Simoncini Prego Grazie presidente Io mi aspetto Che l'attuale sindaco Che ha rilasciato Sotto la cui amministrazione È stato rilasciato Il PAO Ai fratelli Simonetti Rifonda Il comune Dei soldi Che oggi In questa deliberazione I cittadini Iosimani Si vedono costretti A restituire Alla dita Fratelli Simonetti Che Alla quale Indebitamente Erano stati fatti pagare Dei ioni Di urbanizzazione Che non dovevano Essere pagati E quindi Mi auguro Che Insieme Ai 300 E passa Mila euro Che Pugnaloni Chiede di risarcire A latini Se ne aggiunga Quant'è questa delibera 100 E passa Mila euro Ecco Se aggiungano I 100 E passa Mila euro Che metteranno Che metterà Pugnaloni Perché durante la sua Amministrazione È stato fatto Questo enorme Gravoso Errore Di far versare A un cittadino Che peraltro Ha riqualificato Un'area In degrado Totale E che ha fatto Un'area Archeologica A disposizione Di tutti Un cittadino Che non doveva Pagare Questi Questi Oneri Questi soldi E soprattutto Rifonda I cittadini Usimani Che con quei soldi Che erano stati pagati Ci avevano fatto Magari Che non so Degli asfalti Delle cose Perché gli oneri D'urbanizzazione Si utilizzano Anche per queste cose E oggi Non ci hanno più Questi cento e passa Mila euro Derivanti appunto Da questa restituzione Quindi mi auguro Che Pugnaloni Rifonda Anche lui Le casse Del comune Ma comunque Come ho già detto Prima Noi pure Faremo esposto Alla procura Della corte dei conti Eventualmente Chi avrà sbagliato Rifonderà Il comune di Osimo Di queste somme Respingo Al mittente Totalmente Le dichiarazioni Del consigliere Canapa Perché noi Non Facciamo Quello che lui Ha detto E io chiederò Scusa Degli errori Che ho fatto Durante la mia Amministrazione E durante Il periodo In cui sono stato Assessore Quando voi Chiederete scusa A tutti gli osimani Per i danni Permanenti Che avete fatto Sbagliando La procedura Dell'ospedale E Tutti i danni Che avete fatto Svendendo L'ospedale di Osimo All'Irca Grazie Grazie Consigliere Simoncini Consigliere Luna Prego Allora A proposito Di danni Permanenti Iniziamo Dalla Storia Io sono Un amante Della storia Cosimana E Nazionale Quindi Quando si diceva Che non c'era Mazzucchini È stato licenziato Senza nessun motivo Invece Motivi Ci sono E sono Evidenti a tutti Se uno va a leggere La storia Della campagna elettorale Di Latini Prima e seconda La prima volta Che è diventato Sindaco Perché lui Durante la campagna elettorale Ha detto In maniera precisa Ricordo ancora dove Al palazzetto Palabellini Che uno degli impegni Primari Che si poneva Lui era il licenziamento Di Mazzucchini Quindi l'ha detto In maniera esplicita In campagna elettorale Quindi Era un debito Politico Davanti Alla città Uno Ma questo ha provocato Non solo I danni Del Tar Del Consiglio di Stato Di 400.000 euro Ma danni Permanenti Tuttora Vigenti Per tutte Le pratiche urbanistiche Se siamo indietro Con Accesso agli atti Proviene Da vent'anni Da quella decisione Perché È stato licenziato Mazzucchini E sono state emesse Altre persone E È stato Come posso dire Dismesso L'intero Ufficio Tecnico In maniera Scientifica E Proprio E politica Quindi è stata Una scelta Una scelta Vera Consapevole Quindi non è Senza nessun motivo Il motivo è politico Quindi E tutti i danni Che Tutte le volte Che l'amminoranza Ci attacca Per la mancanza Di geometri Tecnici Per i motivi Che ci vogliono Per un piano Per un permesso A costruire Sei mesi Per un permesso A costruire Proviene Da quella scelta La città Lo deve sapere Si deve ricordare Ci vuole memoria storica Questo è un dato di fatto Quindi Non ci sono Solo i danni Di 400 mila euro Danni in mani Che un comune Ancora stiamo pagando Questi danni E forse Ci vogliamo dimenticare Tutti ci vogliamo dimenticare Invece Bisogna ricordarsi Di quella scelta E non è una scelta Solamente Di latini Ma di tutto Le liste civiche Danni non solo Negli uffici tecnici Ma di tutto Il comune E noi ancora Stiamo Il comune Sta rincorrendo Quella scelta Quindi il mio voto Sarà favorevole E poi il discorso È una battuta Noi abbiamo chiesto I soldi in più Non so se hai capito Stefano I soldi in più Quindi Non è che Sono soldi Che dobbiamo dare A Simonetti I soldi presi prima Per un errore Forse Che il Consiglio di Stato Ma non è che Sono soldi Che Leviamo dalle tasche Di Diosimata Grazie Il mio voto Sarà favorevole Grazie consigliere Luna Non ci sono altre Dichiarazioni di voto Passo la parola Al segretario Per la votazione Doppia votazione Pugnaloni Favorevole Favorevole Campanari Favorevole Favorevole Paolella Favorevole Favorevole Lamini Favorevole Favorevole Gallina Fiorini Favorevole Favorevole Canapa Favorevole Favorevole Luna Favorevole Favorevole Invernizzi Favorevole Favorevole Maggiori Favorevole Favorevole Gobbi Favorevole Favorevole Fericiani Favorevole Favorevole Vignoni Favorevole Favorevole Ricci, doppio favorevole, Spigli, favorevole, favorevole, Brandoni, favorevole, favorevole, Rossi, favorevole, favorevole, Simoncini, Simoncini, andiamo avanti poi ritorniamo. Ando avanti allora Bordoni. Contraria, contraria. Antonelli. Contraria, contraria. Donia. Astenuta, astenuta. Ginnetti. È assente, segretario. Ah, ok. Alessandrini Passarini. Astenuto, astenuto. Simoncini può rispondere se non lo diamo per assente. Alla telecamera accesa ma non c'è. Ok, quindi lo diamo per assente. Quindi due astenuti, due contrari, gli altri favorevoli. La proposta è approvata ed è immediatamente eseguibile. Grazie, segretario. Passiamo al punto numero sei, all'ordine del giorno, che è la sostituzione della rappresentante di associazioni femminili di missionaria, signora Irene Caputo, in seno alla consulta donne pari opportunità. Considerando che la signora Irene Caputo veniva nominata componente della suddetta consulta in qualità di rappresentante di associazione femminile, visto che la signora Irene Caputo ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla consulta donne pari opportunità. Con nota protocollata, con nota protocollo numero trentasette zero tre del dieci febbraio duemila e ventuno, gli uffici hanno provveduto ad invitare le associazioni femminili operanti sul territorio a far pervenire ulteriore designazione di un proprio rappresentante. Con nota acquisita al protocollo comunale numero settemila quarantatré del quindici marzo duemila e ventuno, l'associazione se non ora quando proponeva la candidatura della signora Monica Cartelletti. Apriamo la discussione in merito alla delibera e al nome proposto dall'associazione se non ora quando della signora Monica Cartelletti. Non ci sono richieste di intervento. Possiamo chiudere la discussione. Consigliera Flamini, mi scusi, prego. Grazie presidente. Ringrazio comunque la signora Caputo perché sappiamo che aveva impegni e non è riuscita a seguire i lavori della consulta, ma la ringraziamo comunque, la salutiamo. Diamo il benvenuto alla signora Monica Cartelletti che sappiamo sempre è molto impegnata nelle tematiche che sono vicine alla consulta e quindi ci auguriamo di riuscire a collaborare vivamente come poi succede o almeno finora è successo nel gruppo della consulta Donne e fare opportunità. Quindi buon lavoro e ovviamente dovrò favore per questo nuovo inserimento. Grazie. Grazie consigliera Flamini. Chiudiamo la discussione. Apriamo le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Passo la parola al segretario per la votazione. Doppia votazione. Pugnaloni. Favorevole favorevole. Campanari. Favorevole favorevole. Paolella. Favorevole favorevole. Flamini. Favorevole favorevole. Gallina Fiorini. Favorevole favorevole. Canapa. Favorevole favorevole. Luna. Luna. Favorevole favorevole. Invernizzi. Favorevole favorevole. Maggiori. Favorevole favorevole. Gobbi. Favorevole favorevole. Feliciani. Favorevole favorevole. Vignoni. Vignoni Daniele passo avanti e ripasso dopo Ricci Ruben favorevole favorevole Spilli favorevole favorevole Brandoni favorevole favorevole Rossi favorevole favorevole Simoncini Stefano passo avanti Bordoni passo avanti astenuta astenuta ok astenuta Antonelli astenuto astenuto Donia favorevole favorevole Ginnetti passo avanti Alessandrini Passarini favorevole favorevole allora chiedo ancora il voto di Vignoni lo diamo per assente di Simoncini anche questo assente e di Ginnetti ecco il segretario scusi favorevole chi è Vignoni doppia votazione Vignoni favorevole favorevole Vignoni favorevole invece Simoncini non risponde Ginnetti neanche quindi abbiamo due astenuti e gli altri voti tutti favorevoli viene approvata la nomina della signora Monica cartelletti nella consulta donne pari opportunità ed è immediatamente eseguibile grazie segretario passiamo al punto numero sette all'ordine del giorno che è la surroga del rappresentante del comune di Osimo professor Pietro Alessandrini di Missionario in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto Campana per l'istruzione permanente come avete potuto leggere nella delibera dobbiamo sostituire il rappresentante di maggioranza professor Pietro Alessandrini che si è dimesso dalla dalla carica per cui era stato nominato dal consiglio comunale quindi direi di fare così do la parola apriamo la discussione do la parola al capogruppo di Gallina Fiorini mi sembra che l'ha chiesta sì per un altro nome poi alla fine passo la parola alla fine della discussione passo la parola all'amministrazione comunale per le conclusioni prego consigliere Gallina Fiorini sì grazie presidente innanzitutto eh devo insomma sostenere dichiarare le mie la mia il mio personale dispiacere ecco per la scelta le dimissioni del professor Alessandrini che tutti lo conosciamo sono una persona estremamente eh competente e quotata eh detto ciò ci siamo chiaramente confrontati all'interno della maggioranza quindi farò un nome che eh ovviamente non è solo espressione del gruppo del partito democratico di cui sono capogruppo ma parlo in questo caso del nome di tutta la maggioranza che ha deciso di nominare eh Luciano Taborro noi crediamo che abbia eh le competenze l'entusiasmo e anche il carisma per dare un contributo importante all'interno del CTA dell'Istituto Campana grazie grazie a lei consigliere dalle parole del capogruppo del partito democratico capisco che non ci sono altri altri nomi proposti quindi apro la discussione eh sul nome di Luciano Taborro non ci sono richieste di intervento quindi posso chiudere la votazione la discussione e passerei la parola all'assessore Pellegrini se vuole dire due cose assessore sì ma no solamente eh solamente per eh sì dire esprimere anche anche io da parte mia eh diciamo il rammarico eh per la scelta del professore Alessandrini che siamo tutti convinti che avrebbe eh dato un ottimo supporto eh per conoscenza esperienza eh all'istituto all'istituto Campana eh eh ecco comunque lo eh tengo a ringraziarlo eh comunque per la eh diciamo disponibilità che inizialmente eh che inizialmente eh aveva dato e ecco eh tengo a così ecco a precisare che ehm diciamo la la estrema correttezza in cui sul profilo diciamo dell'incompatibilità eh ha ravvisato qualche dubbio eh che secondo secondo me non c'era ma è anche confortato dal parere segretario comunale però vuol dire proprio perché persona estremamente eh corretta Ligia eh che non voleva in alcun modo insomma che si creassero discussioni eh su questo eh si è visto anche tirare in ballo su dichiarazioni di riportate online di presunti riunioni segrete insomma e quindi diciamo è stato eh certamente infastidito anche da questa eh propagine di di diciamo di conflitto politico che diciamo sia allungato in un luogo in cui eh certamente non c'era bisogno quindi ehm ecco la mia dichiarazione ecco solamente per ribadire comunque il diciamo la stima e riconoscere la eh la grande correttezza del professore Alessandrini e quindi ecco con la nuova nomina che andremo a fare questa sera quindi ci ecco auguriamo quindi che l'istituto Campana nella sua complitezza diciamo della posizione dell'organo e quindi possa svolgere un proficuo lavoro al servizio della città dell'attività culturale della cittadiosimo in un eh rapporto appunto di eh speriamo di rifiuto e ci auguriamo di rifiuto a collaborazione con l'amministrazione comunale grazie grazie assessore apriamo le dichiarazioni di voto quindi sul nome di Luciano Taborro proposto dal consigliere Gallina Fiorini sindaco prego ringrazio tutto il gruppo di maggioranza per aver condiviso la candidatura di Luciano Taborro una persona di alto valore professionale e culturale appassionato che saprà ben fare il ruolo di ben svolge il ruolo di consigliere del consiglio di amministrazione dell'istituto Campana e devo dire che quando anche lui si è proposto e ci ha chiesto di poter farne parte si è letta la passione il desiderio grande che aveva di servire questo ente e quando incontriamo queste persone vanno valorizzate e vanno spese parole importanti per nominarli in questi enti dove vedevi proprio il desiderio la voglia la passione da mettere al servizio di questo ente quindi mi fa piacere voterò favorevolmente grazie sindaco non ci sono altre dichiarazioni di voto passo la parola al segretario per la votazione doppia votazione Pugnaloni favorevole favorevole Campanari favorevole favorevole Paolella favorevole favorevole Flamini favorevole favorevole Gallina Fiorini favorevole favorevole Canapa favorevole favorevole Luna favorevole favorevole Invernizzi favorevole favorevole Maggiori favorevole favorevole Gobbi favorevole favorevole Feliciani favorevole favorevole Vignoni favorevole favorevole Ricci favorevole e favorevole Spilli favorevole Favorevole Brandoni Favorevole, favorevole Rossi Favorevole, favorevole Simoncini Astenuto, astenuto Bordoni Astenuto, astenuta Antonelli Astenuto, astenuto Donia Astenuto, astenuta Ginnetti Astenuto, astenuto Alessandrini Passarini Astenuto, astenuto Con sei astenuti i restanti voti favorevoli viene approvata la nomina di Luciano Taborro ed è immediatamente esecutiva Grazie segretario Mancano due punti all'ordine del giorno, intanto ringrazio gli amministratori delle società partecipate che sono quasi tutti collegati ed in attesa Passiamo al punto numero otto che è l'ordine del giorno di proposta del gruppo consigliare liste civiche in merito a sistemazione via del Fosso in località San Biagio consigliera Bordoni le passo la parola per la presentazione dell'ordine del giorno prego consigliere Antonelli prego un attimo consigliere Antonelli deve accendere l'audio mi sentite? sì adesso sì grazie presidente prego in questo ordine del giorno non aggiungiamo nulla che non sia già noto all'amministrazione comunale e diciamo che deve essere considerato come un sollecito a una situazione che sta un pochino creando qualche disagio non solo ai cittadini che risiedono su questa via ma anche a tutti coloro che vi transitano per diversi motivi in questi ultimi periodi diciamo che si stanno esaltando alcune buche che sono presenti e quando i mezzi essendo questa una via abbastanza stretta si incrociano diventa abbastanza difficile non finire con i pneumatici all'interno di queste buche quindi ci sono anche dei rischi per i mezzi ma anche per l'incolumità diciamo di coloro che li guidano e altro elemento che vogliamo in qualche maniera evidenziare è il fatto che in fondo a questa via cioè inerpicandosi da via San Biagio e poi percorrendola per un bel tratto si arriva al maneggio del Taburencio che è una realtà ittica del nostro territorio molto importante è una delle tre che ci sono la quale svolge attività importanti sia a livello regionale che a livello nazionale richiamando nel nostro territorio dei team e comunque degli atleti da diverse parti della regione ma anche d'Italia quindi anche per dare una sorta di benvenuto per dare un indietro la visita della città di Osimo sarebbe opportuno che questa via venga il prima possibile sistemata e dico il prima possibile perché nell'ultimo bilancio che è stato approvato recentemente i fondi per la sistemazione di questo tratto di strada sono già presenti quindi per questo motivo ho iniziato il mio intervento sostenendo che già l'amministrazione conoscenza l'ordine del giorno ha lo scopo di accelerare la programmazione perché ovviamente prima si riesce a mettere in sicurezza questo tratto di strada e prima chi vi transita compreso anche chi parteciperà alle varie manifestazioni di questo centro ittico che peraltro si svolgono prioritariamente da questo periodo dell'anno in avanti fino a circa settembre ottobre potrà usufruire del tratto in maniera più sicura senza grandi rischi quindi invitiamo l'amministrazione a prendere tutti i provvedimenti che possono essere presi per accelerare questo processo di risistemazione che già è comunque previsto all'interno dell'ultimo bilancio grazie grazie a lei consigliere Antonelli è arrivato per questo punto un emendamento che chiedo alla regia di mettere a video ok potete leggerlo tutti passo la parola al firmatario Diego Gallina Fiorini per la presentazione prego consigliere un attimo che le devo accendere il microfono provi adesso ok penso che mi sentite adesso esatto va bene l'emendamento è molto semplice quindi non lo leggo perché se essendo a video credo che tutti abbiano la possibilità di farlo solamente per ribadire appunto che questo è uno degli interventi inseriti in un programma dell'amministrazione del cosiddetto piano asfalti che l'amministrazione che è arrivata appunto a stilare questo programma sulla base di segnalazioni ricevute dai consigli di quartiere e dai cittadini di Osimo quegli stessi cittadini credo che hanno sollecitato giustamente anche le liste civiche che hanno fatto quindi bene a portare sicuramente quest'ordine del giorno personalmente spero insomma quello che sto per dire sia effettivamente così e cioè che mi fa piacere che dopo aver approvato insieme il piano delle opere pubbliche anche questo intervento sostanzialmente va nella stessa nostra direzione quindi a testimonianza che ci si può dividere anche su tante cose però almeno su aspetti concreti su opere concrete a favore della cittadinanza penso che siamo tutti d'accordo grazie consigliere Gallina Fiorini possiamo togliere l'emendamento dal video bene grazie e quindi apriamo la discussione sull'emendamento non ci sono richieste di intervento chiudiamo la discussione e apriamo le dichiarazioni di voto sempre in merito all'emendamento non ci sono dichiarazioni di voto passo la parola al segretario per la votazione prego segretario ok Pugnaloni favorevole Campanari favorevole Paolella favorevole Flamini Flamini passo passo avanti Gallina Fiorini favorevole Canapa favorevole Luna favorevole Invernizi favorevole Maggiori favorevole Gobbi favorevole Feliciani favorevole Vignoni favorevole Ricci favorevole Pilli favorevole Brandoni favorevole Rossi favorevole Simoncini stiamo avanti Bordoni andiamo avanti Antonelli favorevole Donia favorevole Ginnetti favorevole Alessandrini Passarini favorevole allora ritorno sulla votazione di Flamini e Vianni Giovanna dimmi di è assente Simoncini Stefano è assente Bordoni Monica favorevole favorevole quindi all'unanimità l'emendamento viene approvato grazie segretario quindi possiamo aprire la discussione in merito all'ordine del giorno così come emendato non ci sono richieste di intervento possiamo chiudere la discussione consigliere Antonelli vuole concludere no mi sentite adesso sì prego diciamo che è importante che questo ordine del giorno venga votato sia pur con l'emendamento presentato dal gruppo del PD perché comunque non ne snatura il significato e alla fine faceva parte anche della nostra premessa che era una spesa già pianificata non ci importa in questo momento fare una distinzione politica ci interessa che questa opera venga effettuata per il vantaggio che possano conseguire i cittadini e tutti coloro che potranno così usufruire maggiore sicurezza di questo tratto di strada quindi il nostro voto sarà favorevole grazie consigliere Antonelli apriamo le dichiarazioni di voto non ci sono dichiarazioni di voto passo la parola al segretario per la votazione prego segretario e che non non mi riattiva allora Pugnaloni favorevole Campanari favorevole Paolella favorevole Flamini Flamini non c'è Gallina Fiorini favorevole Canapa favorevole Luna favorevole Invernizi favorevole favorevole Maggiori favorevole Gobbi favorevole Feliciani favorevole Vignoni favorevole Ricci favorevole Spilli favorevole Brandoni favorevole Rossi favorevole Simoncini Simoncini non sono spento sì favorevole Bordoni favorevole Antonelli favorevole Donia favorevole Ginnetti favorevole favorevole Alessandrini Passarini favorevole favorevole All'unanimità la proposta all'ordine del giorno viene approvato con l'emendamento Grazie segretario passiamo al punto numero nove all'ordine del giorno che è l'ultimo prima di ascoltare gli amministratori delle società partecipate un attimo qualcuno ha il microfono aperto ok il punto numero nove è l'ordine del giorno di proposta del gruppo consigliare liste civiche in merito a procedura di affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti consigliera Bordoni presenta lei l'ordine del giorno prego devo riattivare bene ok dunque questo ordine del giorno appunto va consigliera Bordoni mi scusi sì abbiamo un rimbombo se riesce eh non so da cosa è dovuto però perché ho tutto spento io ok magari sentite sì un po' più un po' più distante dal microfono ecco che prova ad abbassare un tantino è un attimo vediamo se così è meglio ah no allora lo so io perché mi tolgo le cuffiette posso sentite sì prego meglio ok bene erano le cuffiette scusate dunque questo è un ordine del giorno in merito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è una l'abbiamo toccata anche eh poco fa eh questa tematica e appunto premesso che nella regione Marche le funzioni esercitate dall'autorità d'ambito sono svolte dall'ata che sarebbe l'assemblea territoriale d'ambito dove partecipano obbligatoriamente i comuni e le province ognuno ricadenti nell'appropriato e tra le funzioni attribuite all'ata rientra in particolare l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti comprensivo dell'attività di realizzazione e gestione degli impianti della raccolta anche differenziata della commercializzazione dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nel lato considerato che con la delibera numero venti del ventisette luglio del duemila e diciassette l'assemblea dell'ata due di Ancona ha votato con un quorum di trenta comuni su trentotto l'affidamento del servizio di raccolta spazzamento e trasporto rifiuti ad un gestore unico secondo la forma del in house providing in assenza del piano d'ambito documento che dovendo regolare la definizione del modello di gestione del sistema dei rifiuti in ambito provinciale avrebbe dovuto costituire invece il disciplinare di affidamento tale percorso intrapreso nonostante le numerose prepressità manifestate in varie occasioni da alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ha comportato l'impiego di ingenti risorse pubbliche per consulenti e dati tecnici ok? Quindi ingenti risorse pubbliche per consulenti e dati tecnici sempre riconoscendo un po' anche alle tematiche dei punti precedenti oltre ad ulteriori oneri e spese legali che anche qua quindi hanno contribuito a pagare i cittadini a causa di gravi criticità tecnico-giuridiche la delibera di affidamento è stato oggetto di sentenza di annullamento prima da parte del Tarmarche e successivamente da parte del Consiglio di Stato dal duemiladiciassette i servizi di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti vengono svolti sulla base di continue proroghe dei contratti di affidamento originari che non possono essere ulteriormente reiterate considerando che al momento non esiste ancora una versione definitiva del piano d'ambito atteso che il documento approvato a dicembre del duemiladici non risulta completo nella parte in cui dovrebbe fornire adeguate informazioni per l'avvio della procedura VAS che si intendono comunque necessarie delle rivisitazioni del piano stesso anche per adeguarlo alle recenti evoluzioni delle normative nazionali comunitarie che non esiste un soggetto pubblico avente le caratteristiche previste dalla legge per candidarsi a gestore unico del servizio che all'ata non sono state fornite indicazioni circa la reale possibilità di dimostrare l'economicità di un eventuale affidamento in house nel rispetto dell'articolo cento novanta due comma due del decreto legislativo cinquanta vara duemila e sedici del codice degli apparti che rappresenta un limite assai difficilmente superabile che per tanti tempi per la verifica della reale fattibilità di un affidamento in house appagliano ancora molto lunghi e dall'esito incerto aggiungo oltre che non compatibili con le esigenze di legittima proseguizione dei servizi e di programmazione degli investimenti sul territorio si ritiene pertanto indifferibile l'indiezione di un bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta di spazzamento e trasporto rifiuti per il territorio del comune di Osimo entro il corrente anno per consentire quindi in piena legittimità la prosecuzione del servizio attualmente in scadenza per fine anno 31 12 2021 per poter quindi verificare sul mercato la possibilità di migliorare le condizioni tariffarie come ci è stato chiesto tra l'altro anche nel dalla RERA a favore dei cittadini e degli operatori economici per quanto appunto ho detto si chiede l'impegno del sindaco e di tutta la giunta a mettere in campo tutte le azioni conseguenti nei confronti di tutti i livelli decisionali ed istituzionali prestando la massima attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio all'efficienza del servizio e soprattutto alla difesa dei livelli occupazionali grazie consigliera Bordoni è arrivato anche qui un emendamento che chiedo a mettere a video e chiedo al consigliere Gallina Fiorini se lo può presentare al consiglio comunale prego un attimo consigliere che provi ad aprire l'audio ok prego sì grazie presidente ma allora diciamo che l'emendamento cerca più che altro di fare un po' chiarezza su un ordine del giorno dove a parte la cronistoria corretta di quello che è successo e quindi di quelle che sono anche le problematiche che sta affrontando l'ATA e a parte il dispositivo finale con l'impegno finale che secondo me sono più che condivisibili per insomma mettere in campo tutte le azioni possibili sia a livello istituzionale decisionale a salvaguardia del territorio e dei lavoratori che sono impiegati nel servizio di gestione integrata dei rifiuti c'è una parte che questo emendamento vuole vuole togliere perché è una parte di non chiarezza cioè non si capisce se si vogliono tutelare i dipendenti attraverso l'indizione di un bando di gara piuttosto che con l'affidamento diretto forse non hanno ben capito cioè il promotore di questo ordine non ha capito che se non c'è un affidamento diretto e si va a gara chiaramente poi la stea non è l'unico soggetto e quindi il servizio andrà appunto ad essere conteso anche da altre aziende quindi secondo me questo aspetto non ho ben capito sinceramente qual è la posizione delle liste civiche con questo ordine del giorno secondo noi l'ordine del giorno è corretto a fatto che appunto venga tolta questa parte perché secondo noi proprio per mantenere i servizi e mantenere le competenze e anche tutelare i lavoratori è importante fare tutto il necessario mettere in campo ogni azione come si sta facendo in realtà il sindaco di Osimo sta facendo per arrivare ad un ospitamento diretto da parte dell'altra grazie grazie consigliere apriamo la discussione sull'emendamento se vi volete prenotare per avere la parola grazie consigliera Bordoni prego dunque io non sono d'accordo di queste per questo emendamento per due cose una principale che non è possibile quindi volta che noi presentiamo un ordine del giorno voi presentate un'integrazione di emendamento cioè credo che sia anche giusto lasciarci fare il nostro lavoro perché tra l'altro fate degli emendamenti talmente ridicoli talmente ridicoli come quello di prima che solamente per metterci un cappello per metterci la parola vostra perché affinché ci sia anche la firma vostra che davvero diventa anche imbarazzante la seconda cosa non vedo l'utilità perché se noi l'abbiamo preso in sposto in questa maniera evidentemente ci sono le sue le proprie motivazioni se Diego Gallina Fiorini non comprende il significato di quest'atto ne sono dispiaciuta lo può rileggere non so se può documentare l'atto è questo noi presentiamo questo atto l'abbiamo già scritto che noi intendiamo salvaguardare tutti i livelli occupazionali perché questo può essere fatto gli strumenti ci sono diciamo che siamo che come comune è arrivato abbastanza tardi come comune ha già speso tanti soldi dei propri cittadini che poi che va ad aggravare appunto sul sulle bollette ok su ho già spiegato bene come sono avvenuti i fatti e pertanto io non ritengo opportuno modificare quindi voterò contro l'emendamento grazie consigliera Bordoni sindaco prego ma l'ordine del giorno racconta in maniera un po' diciamo distorta la realtà di fatti io capisco che l'opposizione Monica si è sempre impegnata su questo fronte perché magari ha dei racconti da parte di chi ha interesse su questo processo così importante dove il sindaco battaglia per tutti tutti vogliamo l'affidamento in house tutti vogliamo la salvaguardia dei posti di lavoro tutti vogliamo un costo basso della tarifa per fare ciò si mettono insieme diverse cose si mette insieme l'affidamento in house dove ci sono come dicevo prima ventotto comuni che vanno a scadenza e quindi non si può dire facciamo una gara per osio perché l'ho detto prima osio ha un contratto di servizio che perpetua in house fino a quando non ci sarà o l'affidamento in house o la gara per tutti quindi adesso si è concordato con coloro che non potevano fare più proroghe tecniche al privato vincitore di gara di avviare il contesto della gara per far stare tranquilli i ventotto comuni senza gestori ma di candidare il consorzio all'affidamento in house non è vero che non è fallito nulla si sta aggiungendo nella concordia tra tutti i sindaci un consorzio pubblico che non è più composto da solo da ECOFON da Viva Servizi poi entra sicuramente gli servizi il CIS deve decidere se farlo tramite Viva Servizi o farlo tramite CIS o Sogenus siamo in una fase in cui si sta pianificando il nuovo consorzio pubblico a più gambe quindi nulla è pregiudicato l'ordine del giorno fa bene a pensare alle maestranze maestranze che devono avere la certezza di mantenere un posto pubblico quindi l'emendamento va verso questo fronte perché Cassare si ritiene che va benissimo perché ci hanno scritte tante inesattezze però lo spirito del dispositivo è positivo e quindi io sono favorevole all'ordine del giorno così emendato alla maggioranza grazie sindaco non ci sono altre richieste di intervento chiudiamo la discussione sull'emendamento apriamo le dichiarazioni di voto vi ricordo che per gli emendamenti la dichiarazione di voto è un minuto non ci sono dichiarazioni di voto passo la parola al segretario per la votazione Pugnialoni favorevole Campanari favorevole Paolella favorevole Flamini Flamini Riana assente assente Gallina Fiorini favorevole Canapa favorevole Luna Luna vado avanti Invernizi favorevole Maggiori favorevole Gobbi favorevole Feliciani favorevole Vignoni favorevole Ricci favorevole Spilli favorevole Brandoni astenuto Rossi favorevole Simoncini chiedo scusa questo è l'ammendamento sì contrario Bordoni contrario Antonelli Antonelli vado avanti Donia contrario astenuta contrario Antonelli astenuta Donia Ginnetti contrario Alessandrini Passarini contrario e chiedo ancora il voto di Luna favorevole favorevole quindi abbiamo due astenuti cinque contrari e i restanti favorevoli quindi l'ammendamento viene approvato grazie segretario apriamo la discussione in merito all'ordine del giorno così come emendato grazie a tutti non ci sono richieste di intervento chiudiamo la discussione consigliera Bordoni vuole fare le conclusioni l'ho attivato il microfono ok prego prego allora bene dunque la gestione dei rifiuti purtroppo è una gestione come ho già detto prima è una gestione annusa e quindi è frutto anche di anni e anni di ritardi dell'immobilismo l'ho già scritto anche qualche giorno fa in qualche comunicato stampa del proprio messo in campo dal PD e dalle proprie e da tutta la sinistra da tutta la sinistra questo perché? perché ha permesso al PD soprattutto Simano comunque di preservare tutti i posti offerti poi dalle nelle società partecipate anche nei vari comuni i tempi non ci sono più sono scaduti e quindi ormai a pagarne le conseguenze sono tutti e soprattutto sono i cittadini quello che ci rimane è come ho detto prima ci dobbiamo assolutamente dar da fare per salvare in termini occupazionali tutte le persone che come abbiamo visto e come la Rera abbiamo sottolineato insomma le assunzioni sono tante quindi vanno tutte salvaguardate perché dietro ci sono le famiglie delle famiglie che continuate ad assumere e va benissimo per carità perché vanno ripeto tutelate e vanno salvaguardate ma allo stesso tempo in questo momento insomma comincia poi ad essere pesante nel momento in cui dovrebbe poi dovesse andare tutto a gara modalità in tempi passati insomma potevano essere gestiti in maniera diversa il comune la provincia di Macerafa ce l'ha insegnato il Cosmari come abbiamo visto ha agito in maniera totalmente diversa da come si è posta invece a stella non a caso il comune di Loreto ha deciso qualche anno fa di staccarsi e di andare nel bacino di di Macerata quindi adesso siamo in una situazione che rimane abbastanza raffazzonata bisogna correre a ripari la situazione è abbastanza anche confusa e questo lo ripeto va a discapito soprattutto dei cittadini perché poi a pagarne le conseguenze finali in termini anche economici sono assolutamente chi alle persone appunto che arrivano le bollette l'avvio della gara è adesso il sindaco la dice in un modo noi la diciamo in un altro vediamo come va a finire anche su ECOFON era talmente tanto sicuro che la situazione andava in una certa via eppure eppure non ha avuto ragione eppure abbiamo dovuto pagare con soldi dei cittadini come ho già spiegato prima quindi è imminente quindi non ripeto assolutamente tutto l'iter quindi il percorso è un percorso abbastanza difficile è un percorso cieco quindi che ha portato oggi alle amministrazioni del PD e tutta la sinistra a gravare lo ripeto ancora una volta pesantemente sulle bollette sulle bollette dei cittadini questa grave mancanza di operatività che invece poteva in maniera diciamo antefatto organizzarsi in maniera diversa quindi questo ordine del giorno va un po' a porre a mettere un pochino i puntini su lei e a chiedere all'amministrazione comunque di salvaguardare sia il servizio per i cittadini e sia l'utenza e soprattutto l'occupazione di tutti i dipendenti le modalità ripeto ci sono basta insomma metterle in campo grazie consigliera Bordoni apro le dichiarazioni di voto passo la parola al consigliere Simoncini che l'ha chiesta prego allora io due minuti consigliere per la dichiarazione di voto sì io dico questo ci sono dei temi che vanno al di là delle posizioni tra minoranza e maggioranza perché sono sono argomenti che toccano la carne viva dei cittadini come in questo caso con la Tari naturalmente e con il costo del servizio ora prima il sindaco non mi ha voluto rispondere alla mia interrogazione su quant'è il costo del servizio osimo rispetto a comuni a noi vicini e che hanno un altro tipo di gestione non una gestione diretta come Astea probabilmente non mi ha voluto rispondere perché il dato è completamente negativo nei confronti della nostra città rispetto ad altre città che hanno fatto scelte scelte diverse però noi dobbiamo fare molta attenzione su questa su questo costo del servizio di raccolta rifiuti perché vedete durante l'amministrazione latini noi abbiamo iniziato il porta a porta porta a porta che venne suddiviso in tre zone la prima zona che partì fu San Biagio Osimo Stazione e questa partì durante l'amministrazione latina durante la mia amministrazione partirono le altre due zone la zona diciamo della Valmusone che comprendeva tutto il resto della delle frazioni rispetto a Osimo Stazione Aspio e San Biagio e Santo Stefano e poi anche il centro urbano il centro inteso come Osimo centro storico dove non si dove non si fece la raccolta porta a porta ma una raccolta differenziata di prossimità bene io ricordo che all'epoca noi pubblicammo un Deppliant in cui spiegavamo ai cittadini che per effetto degli investimenti che Astea doveva fare e cioè comprare tutti i nuovi camion i bidoncini tutta una serie di materiali eccetera inizialmente il costo della tariffa sarebbe aumentato ma poi a regime quando cioè la raccolta differenziata sarebbe andata ottimamente era questo uno studio che fece proprio un ingegnere Mimo Belli il costo si doveva abbassare si doveva abbassare perché la parte di rifiuti che andava a differenziata cresceva ora noi siamo per lo meno minuti consigliere di carazione di voto finisco ora finisco dicendo che noi siamo voi avete detto che siamo oltre il 75% di raccolta differenziata ma qui non cala mai la tariffa non cala mai i costi non calano mai non calano perché il comune ci mette 400 mila euro di soldi dei cittadini usimali però siamo sempre noi che paghiamo c'è sempre il bilancio del comune che paga quando invece negli studi fatti per la raccolta differenziata proprio in virtù del fatto che si andava appunto a differenziare a vendere i rifiuti la carta eccetera eccetera e appunto il costo della tariffa dopo il quinto anno doveva andare progressivamente a scendere quinto anno a partire dal 2011 2010 2011 e qui invece aumenta sempre questo fatto non porta non può essere che aumentiamo la percentuale di differenziata e aumenta il costo che i cittadini pagano ecco perché io credo che si debbano valutare altre opzioni altre soluzioni sempre mantenendo per carità i posti di lavoro i diritti acquisiti dei dipendenti però dobbiamo interrogarci se effettivamente possiamo dobbiamo continuare così a pagare a piedi lista praticamente un anno ci chiede cento mila euro in più via cento mila euro in più un altro anno chiedono duecento mila euro in più via mettiamo duecento mila euro in più ma insomma non possiamo mai metterci becco su questa su questi costi del servizio grazie consigliere simoncini arrivato a quattro minuti se fa la dichiarazione di voto ho fatto grazie ok consigliere ginnetti grazie presidente grazie presidente sarò brevissimo ma è inutile che più o meno ipocriticamente ci nascondiamo dietro un dito perché le amministrazioni pubbliche locali di qualsiasi colore se sono hanno timore dell'affidamento in aus l'abbiamo già visto discutendo la tariffa rera duemila e duemila e venti e quanto e quanto di successivo perché chiaramente il costo maggiore è dovuto in maniera preponderante al numero di personale addetto e il personale addetto qual è il meccanismo per per aumentarlo lo sappiamo benissimo nei periodi preelettorali o comunque per pagare fra virgoletti debiti elettorali cioè se non usciamo da questo giro perverso possiamo discutere ore e ore di questo aspetto va benissimo l'affidamento in aus però affinché la tariffa sia quella prevista dalla rera non debordare di quattrocentomila euro come abbiamo fatto nell'ultimo esercizio questo deve essere l'impegno morale e formale nei confronti di cittadini garantendo assolutamente il mantenimento dei posti di lavoro ma basta solo di più lo sappiamo quindi non c'è bisogno di ulteriori assunzioni ecco perché forte di questa posizione di questa considerazione il mio voto sarà di astensione nei confronti di questo ordine del giorno grazie consigliere Gennetti consigliere Luna prego il mio voto sarà come quello delle liste civiche non ho capito bene cosa voteranno però quello che faranno le liste civiche io farò come loro perché è un argomento molto importante l'hanno spiegato molto bene la loro posizione grazie grazie consigliere Luna consigliere Gallina Fiorini prego sì grazie presidente io credo che ci sia un passaggio sottolineato dal consigliere Gennetti molto significativo ossia il fatto che le tariffe vengano stabilite d'ora in poi dall'autorità nazionale ossia ARERA quindi attenzione perché qualsiasi gestore sia esso un privato attraverso diciamo individuato attraverso un bando di gara oppure attraverso l'affidamento diretto dovrà applicare appunto le tariffe ARERA quindi qui oggi siamo a discutere di un ordine del giorno che ci dice se vogliamo o meno mantenere i livelli occupazionali e io aggiungo se vogliamo o meno che la STEA partecipi a questo affidamento diretto e quindi possa continuare con tutto il suo personale a svolgere nel migliore dei modi come ha fatto finora anche nel periodo del covid non dimentichiamocelo perché sono stati fatti dei servizi anche aggiuntivi se vogliamo che a STEA che è la nostra ex municipalizzata la nostra società che è cresciuta in questi anni anche sul piano della gestione dei rifiuti voglia continuare a farlo quindi l'emendamento chiarisce questa posizione noi siamo per il mantenimento dei livelli occupazionali e siamo per l'affinamento diretto che consentirebbe anche alla STEA di continuare nel suo servizio un servizio che è di qualità quindi il mio voto sarà favorevole grazie consigliere Gallina consigliere Gallina Fiorini sindaco prego ma io non ho ben capito la posizione dell'amico Massimo Luna però l'unico che ha grandi responsabilità in questo procedimento è il sindaco se il sindaco vota favorevolmente io spero che la comunità tutta si fidi del sindaco perché non è che devo stare a raccontare sui rifiuti in passato ma l'ultimo anno di amministrazione Simoncini sono stati stabilizzati tra le 20 e le 30 persone una mattina dalle 11 a mezzogiorno con un colloquio fatto dall'agenzia interinale dopo tre anni di servizio presso l'Astea quindi sul personale possiamo disquisire prima e dopo più o meno siamo alla pari ma abbiamo creato posti di lavoro per la comunità tutta ci sono famiglie che pagano il mutuo lavorando come operatore ecologico in Astea quindi siamo tutti per salvare questi posti di lavoro il problema è che le tariffe le deciderà Arera e che il percorso affidamento in house deve piacere a tutti i comuni della provincia d'Ancona quindi neanche voglio rispondere alla bordone non è che c'è destra o sinistra tanto l'Udc prima era a sinistra e adesso è a destra se facciamo tutti come l'Udc non sceglieremo mai bisogna essere chiari nella vita quindi o destra o sinistra i sindaci si stanno accordando per il bene dei propri dipendenti delle proprie società municipalizzate ricordo anche che nel 2018 e 2019 a fine del nostro mandato in due anni siamo riusciti ad abbattere del 6% la tariffa rifiuti e così è rimasta nel 2020 e così rimarrà nel 2021 io li chiamo grandi obiettivi per la città non me ne voglio vantare però abbiamo lavorato per quindi l'ordine del giorno è stato emendato costruito per essere emendato perché c'erano delle inesattezze e io tifo per la città di Osimo come sindaco e quindi tifo per la mia maggioranza per i cittadini che mi hanno eletto ma anche per i cittadini che non mi hanno eletto perché non uno dei dipendenti presso il servizio di igiene urbana è stato sempre forse troppo elevato sempre sia con le liste civiche sia con l'amministrazione Pugnaloni l'importante è aver creato occupazione avere la la raccolta differenziata tra i più alti tassi nella provincia di Ancona fa ridere che le liste civiche fanno i confronti con il comune di Camerano che è tre volte più piccolo del nostro noi abbiamo 10 frazioni e 263 km di strade 100 km quadrati di superficie siamo grossi come Ancona quindi vorrei che fossimo seri sul tema rifiuti e lavoriamo tutti per uno stesso obiettivo quello di arrivare all'affidamento in house quello di mantenere inalterate le tariffe e quello di mantenere inalterati i servizi di efficacia e efficienza e i posti di lavoro per questo stiamo lavorando senza distinzione tra destra e sinistra la sinistra ha governato l'ata per tanti anni adesso stanno vincendo in diversi comuni sta vincendo il centro-destra ma i sindaci sono persone che tipono per le proprie comunità e quindi ascoltando tutti cercheremo di fare il quadrato attorno all'affidamento in house grazie voto favorevole grazie sindaco non ci sono altre dichiarazioni di voto passo la parola al segretario per la votazione allora pugnaloni favorevole favorevole no una sola votazione campanari favorevole paolella favorevole gallina fiorini favorevole canapa favorevole luna favorevole invernizi favorevole maggiori favorevole gobbi favorevole feliciani favorevole vignoni favorevole ricci favorevole spilli favorevole brandoni rossi favorevole simoncini favorevole bordoni favorevole antonelli favorevole donia favorevole ginnetti astenuto alessandrini passarini favorevole favorevole due astenuti restanti favorevoli l'ordine del giorno viene approvato con l'emendamento grazie segretario abbiamo terminato con l'analisi e la votazione degli ordini degli punti dell'ordine del giorno adesso passiamo all'ultima fase che è quella dell'ascolto delle relazioni degli amministratori delle società partecipate che ringrazio di aver atteso pazientemente fino a quest'ora faremo così ogni amministratore avrà dieci minuti massimo per per esporre la propria la propria relazione sull'attività che stanno svolgendo le varie società e poi ci saranno cinque minuti per un consigliere a gruppo per poter fare poter fare eventuali domande e poi altri cinque minuti sempre per gli amministratori per eventuali risposte cominciamo adesso dal dall'amministratore delegato di Asta S.p.a Fabio Marchetti chiedo se riesce ad aprire l'audio perfetto lo vediamo anche in video grazie prego alla parola sì prima cosa vorrei dire buonasera a tutti e ringraziare per l'invito che ho ricevuto credo che sia un impegno dovuto quello di rendere conto e fare partecipo a tutta la comunità di quello che si sta facendo e dall'attività che un'azienda come Astea porta avanti allora Astea chiaramente come già sappiamo una multi utility che si occupa di vari servizi il primo di questi è quello del servizio idrico integrato che svolge tramite un contratto di servizio sottoscritto con la sua controllante CMA facendo un rapporto cioè tenendo conto che nell'anno 2020 Astea senza considerare poi le altre società del gruppo ha investito ha effettuato investimenti per circa 8 milioni e mezzo di questi 6 milioni e 3 hanno riguardato la linea idrica per cui il settore idrico è sicuramente quello più importante dove vengono fatti più investimenti in assoluto parte predominante diciamo di questi 6 milioni e 3 riguarda la depurazione e il collettamento parliamo di circa il 75% per cui questo sta a dimostrare diciamo l'impegno che Astea sta mettendo in questa direzione per cui nel rispetto dell'ambiente e tutto il resto su questo settore cioè la depurazione e il relativo diciamo collettamento per portare a depurazione sono previsti diciamo da qui al 2023 altri investimenti per oltre 10 milioni per cui è un settore molto importante vogliamo salvaguardare cerchiamo di salvaguardare e portare le rispette ambientali in tutto il territorio per questo lavoro che stiamo facendo siamo anche beneficiari di alcuni contributi che derivano dalla FSC cioè dal Fondo dello Sviluppo e Coesione e dei fondi regionali per circa 4 milioni e 3 non è che l'abbiamo incassati ma con questi investimenti che stiamo facendo andremo poi a recuperare diciamo questa somma per quanto riguarda Osimo quello che posso dire è che il fabbisogno idrico medio anno è di circa 3 milioni 450 mila metri cubi l'approvvigionamento avviene per il 30% dei pozzi per il 60% dall'invaso di castriccioni rifornimento idrico e nel 2020 abbiamo iniziato per un 10% a utilizzare anche l'acqua del nera questo è un buon risultato che migliora la qualità dell'acqua e fa anche diversificare diciamo le fonti di approvvigionamento altro progetto importante messo in campo e che è già partito è la sostituzione di tutti i contrattori idrici questi negli otto comuni con quelli previsti dal decreto ministeriale 93 2017 cioè quello con la teledettura anche da remoto questo sarà un passaggio che permetterà poi anche agli utenti di poter leggere e verificare anche giornalmente più volte al giorno diciamo i loro consumi nel centro di Osimo anche tramite un progetto europe finanziato diciamo dall'Europa a cui siamo riusciti ad accedere questo lavoro è stato già fatto adesso piano piano abbiamo presentato a Lata un progetto quasi decennale per arrivare alla sostituzione nel suo complesso in tutti gli otto comuni gestiti la concessione idrica che è in capo come dicevo a CNA scade nel 2025 si sta lavorando anche con altre società dell'ambito territoriale e di concerto diciamo con l'ato con l'autorità per concordare a divenire un progetto che permette il rinnovo della concessione stessa anche qui si sta andando l'indirizzo è quello di arrivare al gestore unico per cui stiamo lavorando con altre società per vedere cosa possiamo mettere in campo in questa direzione ed è questo l'obiettivo prefissato e l'obiettivo dove stiamo andando altro punto importante servizio importante è il servizio di raccolta e trattamento rifiuti questo viene svolto diciamo sia ad Osimo che nel comune di Numana nel 2020 la raccolta differenziata ha raggiunto il 76,6% con un leggerissimo calo rispetto all'anno precedente leggerissimo calo causato tra virgolette dal covid nel senso che tutta la raccolta dei casi positivi o di quelli in quarantena è stata trattata al di là che ha avuto un percorso particolare e diverso ma è considerata tutta quanta giustamente indifferenziata anche perché non si faceva la differenziata in più c'è stato anche una diminuzione da parte della raccolta fatta nelle società sia industriali che commerciali che subendo la crisi chiaramente la loro differenziata non è stata fatta pensiamo agli imballaggi pensiamo a tante altre cose per cui ha portato un leggerissimo calo comunque siamo anche per l'anno appena trascorso i primi in regione per che riguarda quanto concerne i comuni con superiori a 30.000 abitanti poi si occupa anche l'altro aspetto che dico che volevo far presente invece che è da poco partito un progetto di raccolta porta a porta a tariffa puntuale che questo è l'obiettivo che ci stiamo prefissando che vede al momento per il momento la sperimentazione nel centro storico di Osimo con la raccolta di bidoni dotati di microchip microchip per apertura con card allora questo è questa sperimentazione che poi comunque sia l'obiettivo è portarlo direttamente su tutto il territorio magari con formule diverse perché chiaramente il centro storico ha una tipologia una morfologia diversa rispetto all'altro territorio ma l'obiettivo è quello di arrivare nel giro di un paio d'anni massimo alla tariffa puntuale penso che un obiettivo condivisibile è importante che vogliamo raggiungere si è già parlato anche in questo poco prima di me il punto che mi ha preceduto diciamo per quanto riguarda il discorso dell'affidamento che dei rifiuti per cui l'ata cioè l'autorità provinciale ha fino adesso diciamo sta decidendo in questo periodo per cui chiaramente l'obiettivo di Astea l'indirizzo di Astea l'auspicio di Astea è quello di arrivare ad un affidamento in house su questo siamo più che sopportati dal comune di Osimo dall'amministrazione che sta facendo grandi battaglie in questo in questo in questo senso poi sempre come Astea seguiamo il discorso della distribuzione del gas cioè della rete di distribuzione la rete di distribuzione che tenete conto in un anno fa transitare circa 50 milioni di metri cubi di gas la rete di distribuzione è distribuita su due ATEM provinciali cioè ATEM o provincia di Ancona in base dove sono i comuni diciamo di Astea o ATEM di Macerata anche in questo anche in questo l'obiettivo fissato dalla legge dove si sta andando è quello di un gestore unico per ogni ambito territoriale per cui per la provincia di Ancona è un altro gestore unico per la provincia di Macerata le gare sono ferme io dico quasi da un decennio perché sono arrivato nel 2015 ma già da qualche anno teoricamente dovevano essere indette però potrebbero ripartire anche molto in tempi molto velocemente questo soffermi anche in Italia ci sono stati pochissimi movimenti però probabilmente dovrebbero ripartire a tal fine sono stati già stipulati diciamo degli accordi strategici per poter partecipare alla gara dell'ATEM di Macerata e siamo a un punto anche per quanto riguarda l'ATEM di Ancona tenendo conto che Astea in quanto tale non ha non ha da solo i requisiti al di là la forza diciamo finanziaria per non ha comunque i requisiti per da sola per poter partecipare per cui sono gare tutte queste che stiamo dicendo importanti e dove si prevede anche un impegno molto molto importante dal punto di vista finanziario l'altro settore di cui si occupa Astea è la produzione di energia questo per questo servizio si dispone uno di due impianti uno è la centrale di cogenerazione e l'altra è la centrale idroelettrica di San Boccheto a cui si aggiungono poi sei impianti di fotovoltaico vengono prodotti più di 8000 gigabyte di energia elettrica annualmente circa 20 gigabyte di energia di energia termica questa è una fotografia diciamo generale dell'attività diciamo di Astea poi possiamo aggiungere che Astea detiene anche il controllo quote per poter controllare altre società per cui controlla Astea la società DEA che è la società che si occupa di distribuzione elettrica in quanto proprietaria della rete e che sta sviluppando il suo impegno territoriale anche sulla illuminazione pubblica poi su questo penso vi illustrerà in maniera più che soddisfacente l'amministratore delegato poi ha la maggioranza per cui controlla la società GEOSPORT che però è stata posta anche su indicazione dei pareri diciamo dei comuni è stata posta liquidazione liquidazione il 22 dicembre 2020 e che vede comunque sia scaduta la concessione del Palabaldinelli in data 3 maggio 2021 per cui siamo in fase di liquidazione a questo punto e speriamo di concluderla entro l'anno al più tardi all'inizio diciamo del prossimo poi partecipiamo e siamo controllori anche della la società Nuova Energia che detiene una partecipazione di minoranza di un parco eolico che si trova in Sicilia ed infine Astea con anche la maggioranza della società Energon questa è una società che sta realizzando il primo impianto della provincia di Ancona di trasformazione del forzo in biometano questo tipo di investimento permetterà al di là di un ritorno economico diciamo all'interno di Astea comunque permetterà anche una diminuzione delle tariffe dei rifiuti perché attualmente stiamo andando a portare tutti in esempio il rifiuto dell'organico diciamo dall'Emilia Romagna al Veneto per cui tutto in Alta Italia per cui questo può portare porterà poi un abbattimento diciamo dei relativi del relativo costo l'investimento realizzato al 31 dicembre 2020 ammonta circa 20 milioni di euro e l'impianto entrerà in funzione nel 2022 l'impianto si trova a Casine di Ostra la quantità produttiva autorizzata ammonta 45 mila tonnellate tra umido e organico e verde diciamo questo è quella è la società che una volta entrata in funzione nel rispetto dell'ambiente nel rispetto di tutto quanto eccetera eccetera comunque è quella che darà penso maggiori soddisfazioni diciamo per il futuro e ci vede all'avanguardia su tutto il territorio diventerà a questo punto probabilmente anche un punto di riferimento della provincia di Ancona poi Astea detiene partecipazioni però di minoranza per cui non ha né il controllo né altro diciamo sulla SP di Polverigi cioè l'azienda dei servizi di Polverigi e su Astea Energia volevo ricordare vado verso la conclusione che il fine 2019 tutto il 2020 diciamo sono stati caratterizzati dall'evento Covid per cui questo ha portato diciamo pertanto è stata prestata durante tutto l'anno un'attenzione una particolare attenzione ed è stato fatto uno sforzo particolare per la sicurezza dei dipendenti e degli utenti per cui è stato messo tutto in campo diciamo tutto quello che era possibile e possiamo dire che all'interno di Astea non ci risultano che ci siano stati casi positivi per da contatto all'interno diciamo della struttura Astea poi qualcuno che ha preso il codice e la magari fuori ma non l'ha trasmesso all'interno diciamo di Astea ai propri colleghi per cui questo grazie al lavoro all'impegno di tutti compresi i stessi dipendenti voglio anche dire che Astea proprio per garantire la qualità dei servizi ha ottenuto varie certificazioni e sta ottenendo per cui ha ottenuto sia l'ISO 9001 relativamente alla qualità dei servizi erogati l'ISO 14001 relativamente diciamo al rispetto dell'ambiente e l'ISO 45001 ex 18001 circa la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro a tal proposito vorrei solo segnalare a riprova del lavoro svolte dall'attenzione prestata anche sul discorso della sicurezza voglio solo fare l'esempio che nel settore igiene urbana che l'indice di frequenza degli infortuni del 2015 anno in cui sono entrato diciamo in Astea era pari a 130,11 che tale indice è sceso e è sceso tutti gli anni siamo arrivati nel 2020 a 48,58 questo chiaramente è un obiettivo raggiunto diciamo ad Astea ma l'obiettivo è giusto dalla sensibilità e dalla crescita diciamo culturale di tutto l'ambiente in primo luogo i dipendenti non so se sono stato abbastanza esaustivo comunque rimando in attesa per eventuali vostre domande e curiosità grazie grazie ringraziamo l'amministratore delegato di Astea SPA Fabio Marchetti se c'è qualche consigliere comunale che vuole fargli una domanda o più domande si può prenotare nella chat grazie consigliera Bordoni prego l'audio ok dunque volevo un attimino chiedere dato che ne abbiamo la possibilità dell'uscitazione in merito l'accaduto sulla situazione di Astea Energia se è possibile e appunto per quanto è apparso nei giornali quindi insomma dato che questa sera c'è occasione se può un po' spiegare che cosa è accaduto grazie grazie consigliera Bordoni consigliere Ginnetti prego grazie presidente grazie anche dell'iniziativa di invitare i presidenti delle società partecipate delle maggiori società ma volevo fare due domande la prima è quella appena formulata dalla collega Bordoni l'altro il nostro gruppo anche presentato da circa più di un mese all'indomani è accaduto una interrogazione in consiglio comunale quindi ringrazio la consigliera per la domanda che appunto anche io volevo fare l'altra invece è più di ordine così diciamo tecnica tecnica informativa a regime presidente quale quale sarà la percentuale di utenze osimane e di quale zone che potranno soffluire potranno bere l'acqua del nera grazie grazie consigliere Ginnetti non ci sono altre domande quindi io ripasserei la parola a Fabio Marchetti per le risposte grazie allora una domanda sostanzialmente la stessa sia da parte del consigliere Bordoni che della consigliera Bordoni che del consigliere Ginnetti situazione a stea energia a stea energia penso che ormai lo sappiamo tutti voglio dire è stata vittima di una frode informatica frode informatica di cui ogni tanto si legge sui giornali o si vede si sente magari nei telegiornali anche a stea energia diciamo è stata vittima questa questione questa cosa è potuta tra virgolette è lì perché un dipendente di a stea energia ne è stato vittimo cioè ha subito in qualche maniera diciamo questa cosa per cui e non ha rispettato tra virgolette le procedure e le tutto diciamo le procedure che dovrebbe seguire nella normale diciamo gestione di questa cosa diciamo a stea ne è venuta a conoscenza a cose chiaramente avvenute non c'è stato all'interno di a stea energia nessun passaggio ufficiale prima che ciò accadesse nei consigli di amministrazione nelle rivolte ai amministratori delegati eccetera eccetera per cui è avvenuto tutto al di fuori diciamo degli schemi presenti non ho capito cosa è successo mi vedete chiedo scusa sì sì la vediamo la sentiamo bene sì a me mi è successo mi è compasso qualcosa va bene non lo so va bene allora detto questo quello che io posso dire e quale consigliere diciamo di minoranza che non mi risulta o ho avuto nel senso rassicurazioni che comunque sia che tutto la somma diciamo la perdita che c'è stata diciamo verrà comunque sia recuperata si parla si parla di una somma diciamo importante sappiamo che parliamo di circa 600 mila euro detto questo questo questa somma verrà recuperata se stai attivato il giorno successivo da quando è partita diciamo l'operazione diciamo delle denunce del caso sia in Italia che all'estero si è attivati sono attivati tutti i canali e anche se ci vorrà magari qualche mese ci vorrà un po' del tempo in più non è una somma che andrà che è andata che è andata persa non questo non ha nessuna influenza dal punto di vista diciamo delle tariffe perché sulle tariffe questo sicuramente non c'entra non c'entra niente e poi tutto qua per cui è un qualcosa che non doveva accadere ma è accaduto come ogni tanto ne accade e se ne legge e se legge in giro purtroppo qualcuno ha sbagliato e ha sbagliato di grosso questo è il dato non rispettando tutte le procedure che esistevano in tal senso questo per riguardare la prima domanda per quanto riguarda il discorso invece dell'acqua del nera diciamo che questa è un'altra sfida un'altra sfida molto molto grande dove Osimo sta ricevendo adesso in questo periodo diciamo solamente sta ricevendo solamente una parte una parte che dovrebbe poi aumentare quando tutto sarà a regime qui c'è un problema grosso un problema grosso che riguarda il discorso della concessione idrica sulla fonte del nera per cui il progetto era partito tra virgolette per 800 metri cubi al secondo era stato poi dalla regione trasformato in 550 metri cubi al secondo per cui i lavori e gli impegni erano stati erano partiti in questa direzione poi c'è stato un primo affidamento una concessione di 150 metri metri cubi al secondo poi una provvisoria di 50 metri di 50 metri cubi al secondo e c'è stato diciamo su questo sono iniziati a sorgere dei problemi perché il rappresentante del parco del parco dove è situato diciamo la sorgente ha iniziato a essere contrario come contrario loro e contrario anche un paio di comuni che risiedono nel parco dopo di che qui gli interessi sono tanti sono tanti perché con quell'acqua ci sono anche centrali idroelettriche che utilizzano diciamo la stessa acqua per cui vorrebbero dare più la parte economica che il problema del fabbisogno diciamo idrico e c'è tutta una diatriva dove però comunque sia abbiamo avuto ultimamente anche ragione sul ricorso che era stato presentato dal lato nei confronti della delibera regionale che aveva fatta propria tra virgolette il parere del del parco dei Sibillini per cui diciamo la ragione è stata presa però è una battaglia che stiamo portando avanti e non è ancora terminata su questo c'è anche tutto lato per cui non è solo Osimo non è solamente a Stea ma andiamo dall'APM di Macerata all'ATAC di Civitanova per cui è tutto lato che è interessato e sta facendo diciamo questa battaglia e speriamo che le cose si riescono diciamo a cambiare poi qual è la percentuale quanto arriverà e dove arriverà diciamo che adesso quello che arriverà non è che anche se arriva da Montefano in questo momento e passa per passatempo non è che l'acqua è ferma a passatempo l'acqua viene immessa nella rete per cui Osimo diciamo è interconnesso tra loro per cui bene o male diciamo in questo momento è un po' tutta la struttura che se in minima parte comunque in qualche maniera ne sta usufruendo è chiaro che aumentando la quantità e tutti sono tutti i cittadini che aumenta diciamo sicuramente la qualità questo non vuol dire che l'acqua non sia sana quella che non sia pura quella che noi beviamo solo che chiaramente viene trattata io porto l'esempio che se sono 300 le analisi i prelievi che facciamo che da fare ogni anno per fare una serie diciamo di analisi per le imposte delle leggi noi ne facciamo alcune migliaia proprio per garantire la sicurezza e la qualità dell'acqua è chiaro che strategicamente l'acqua del nera è molto molto importante ed è altrettanto chiaro che aver riportato diciamo su nuovi comuni questa acqua è un ragione serve anche a fare pressione dal punto di vista si può dire anche politico perché poi non può essere tolta a quella popolazione che ne sta usufruendo perché se no ci sarebbe poi penso anche la rivolta per cui l'attenzione deve essere altra da parte di tutti quanti e stiamo lavorando per questo non so se sono stato abbastanza chiaro sì grazie grazie a Fabio Marchetti consigliera Bordoni non è un dibattito anche per rispetto degli altri amministratori che stanno aspettando è una cosa impellente è una domanda necessaria prego l'ho dato la parola può prenderla grazie dato che era stato così gentile Fabio Marchetti e lo ringrazio per il tempo insomma che ci sta dedicando se siccome ci sono due passaggi dice non i soldi saranno recuperati e quindi se magari ci puoi dire come saranno recuperati e quindi e poi il fatto insomma dice l'abbiamo subito e poi dice in realtà è stato un errore quindi insomma non è stato proprio subito non è stato proprio un errore solamente del web mi sembra di capire però la cosa fondamentale è capire un attimo se ci può chiarire come saranno recuperati i 600.000 euro grazie allora l'errore del web non fa niente se non c'è l'aiuto umano no per cui vuol dire qualcuno è caduto in questa trappola il concetto che esprimevo era sicuramente questo come verranno recuperati verranno recuperati in tutte le maniere possibili diciamo che so che so che è in corso dei rapporti con le procure con i giudici diciamo anche stranieri per cui da una parte diciamo potrebbero essere recuperati o saranno recuperati da quella parte se questo non sarà possibile ci sono dietro delle assicurazioni che comunque dovranno intervenire per cui in una maniera o nell'altra quella somma che io sappia verrà recuperata poi dietro a questo qui c'è delle indagini in corso ci sono delle altre cose per cui ecco più di questo penso che possa essere detto grazie grazie Fabio Marchetti amministratore delegato di ASTSPA possiamo congedarlo se vuole e grazie per la relazione e per averci per essere messo a disposizione il consiglio comunale adesso passiamo passiamo al prossimo amministratore che è Jacopo Angeletti che è l'amministratore delegato di Osimo Servizi prego prova sì buonasera a tutti buonasera anche io ringrazio per l'invito del consiglio comunale del presidente vado subito con una breve relazione l'attuale composizione dell'Osimo Servizi è il risultato della fusione di diverse società nel corso degli anni perseguendo il principio di razionalizzazione del numero delle società stesse di cui il comune è socio l'ultima di queste fusioni è avvenuta nel 2019 con l'acquisizione da parte dell'Alorosimo Servizi S.p.a della società ASTS Servizi S.r.l in precedenza fu la volta della Imos S.r.l l'attuale consiglio di amministrazione è stato nominato nell'agosto del 2019 ed è composto dal presidente Cristiano Pirani dal sottoscritto come amministratore delegato e dalla consigliera Saura Casigliani la società attualmente è organizzata in tre settori principali che sono mobilità e parcheggi il settore che riguarda appunto il trasporto scolastico disabili e la gestione dei parcheggi sia il maxiparcheggio che i parcheggi a raso che l'impianto di risalita poi il global service che include tutti i servizi di manutenzione manutenzione del patrimonio delle strade del verde della segnaletica e la gestione dei cimiteri e anche delle affissioni e poi il settore dell'energia calore che ricomprende tutta la gestione del calore dei edifici insomma di proprietà pubbliche delle scuole e anche la gestione degli impianti fotovoltaici sia di proprietà della società che di proprietà del comune di Osimo e dal 2019 anno di insediamento del presente CDA è stato attuato un piano di riorganizzazione generale dell'azienda e siamo partiti da una redazione complessiva del nuovo organigramo in seguito appunto alla fusione con Astea servizi e abbiamo redato un nuovo manzionario abbiamo unificato e aggiornato molte procedure aziendali che comunque capite bene la difficoltà perché venivano da esperienze totalmente diverse e poi abbiamo sistemato quelli che erano i cosiddetti uffici doppi ovvero quegli uffici che erano presenti in entrambe le società sono stati fusi e unificati le procedure abbiamo centralizzato un ufficio acquisti unico con una procedura anche qui unificata per l'intera azienda e insomma controllata e tracciata e abbiamo attivato anche e su questo ci tenevo particolarmente un inizio di un processo di internalizzazione dell'intera attività amministrativa e contabile e al contrario del passato l'amministrazione della Parco cioè parlo a livello amministrativo era mista esterno interno mentre invece abbiamo attuato e iniziato un processo per internare tutta l'attività amministrativa contabile e fu l'attività appunto per il secondo semestre del 2019 si è appunto incentrato su una razionalizzazione e riduzione dei quelli che erano i costi fissi per fronte appunto alla fusione e sfruttando tutte le economie di scala che si sono create e il conseguente utilizzo di risorse interne per svolgere attività che invece nel passato erano come si dice erano date in mandato a società esterne o a società o artigiani o tutto quello che riguarda ad esempio faccio l'esempio dell'idraulico per quella che era la Parco che invece attualmente viene svolto internamente come l'elettricista come tutte le maestranze che sono presenti ora all'interno dell'azienda dopo che abbiamo fissato le basi di funzionamento dell'azienda e dei processi funzionali e organizzativi all'inizio del 2020 l'attività del CDA e del board amministrativo si è incentrata sulla pianificazione di una strategia di sviluppo e di crescita della società sia in termini limitativi che in termini qualitativi naturalmente l'arrivo del covid ha cambiato le vite di tutti noi anche all'interno dell'azienda e fin da subito il CDA e in particolare qui faccio una menzione al presidente Pirani che si è attivato per mettere in campo tutte le misure necessarie per limitare il diffondersi del contagio con un graduale rallentamento dell'attività quella che era ordinaria cito ad esempio la scuola quando fu chiusa e poi dopo l'azienda si è concentrata con la massima attenzione nella stesura dei protocolli adeguati la creazione di un comitato covid-19 formato dalle rappresentanze sindacali dai consulenti alla sicurezza da alcuni del consiglio di amministrazione dai responsabili dei settori e anche dai rappresentanti dei lavoratori e quindi tutti i dipendenti sono stati appunto dotati dei dpi e di strumenti necessari per esercitare l'attività lavorativa nella massima sicurezza possibile e nel primo semestre del 2020 presurato insomma della pandemia si è iniziato a pianificare e concentrare un'attività di investimenti sul settore degli scuola bus in vista dell'anno scolastico 2020-2021 e di quelle che erano le norme che via via venivano pubblicate dalla presidenza del consiglio e dal ministero e quindi si è reso necessario l'acquisto di nuovi scuola bus per aumentare il numero appunto e permettere il viaggio in sicurezza e anche l'acquisto di un mezzo per il trasporto disabili sono stati quindi acquistati in totale quattro mezzi e nel mese con passata la metà insomma del 2020 si è cercato di salvaguardare l'operatività di tutti i settori aziendali e andando a concentrare risorse e denari fissando una scala di priorità quindi abbiamo un po' cambiato quelle che erano le priorità per gli investimenti necessari nel breve periodo e dopo un'ulteriore analisi dei costi si è deciso di intraprendere progetti questo nel 2021 quindi nell'anno corrente dopo aver stabilizzato le attività in seguito comunque anche all'uscita di tutte le varie normative per il covid si è deciso di intraprendere progetti con competenze pluriannali tale da portare benefici multipli negli anni a venire nel particolare il più importante che attualmente in costruzione in realtà è quasi ultimato è l'installazione di un impianto fotovoltaico sul lupificio industriale che è di proprietà della società di una potenza di circa 25 kilowatt e sottolineo il fatto che essendo il sistema di riscaldamento e raffreddamento della società e capannoni insomma interamente alimentato ad energia elettrica l'impianto fotovoltaico permette un beneficio non insomma non piccolo in termini risparmio di costi solitense comunque l'utilizzo di un'energia pulita per integrare un processo di autonomia energetica si è passata poi la graduale sostituzione storica insomma degli utensili quelli che erano per la manutenzione del verde alimentati a motori endotermici adesso invece si è iniziato a convertire con quelli alimentati a batteria la tecnologia attualmente permette l'utilizzo in sicurezza e comunque con una scelta con una buona buona qualità del servizio per gli utensili elettrici abbattendo i costi di ricarica perché come previsto si ricaricano tramite il fotovoltaico che è stato installato sopra il campannone della società passando alla struttura del maxiparcheggio naturalmente beneficiando dell'installazione da parte del comune di Osimo di due impianti fotovoltaici la potenza è circa 35 kilowatt nominali ciascuno sarà possibile abbattere da qui ai prossimi anni una parte del costo dell'energia elettrica che per il maxiparcheggio e comunque per l'impianto di risalita è importante in base alla convenzione stipulata con il comune la Osimo Servizio è installato nel maxiparcheggio due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici per un totale di quattro accessi sono colonnine non stanno ma di ultima generazione con la con la ricarica cosiddetta veloce e poi dopodiché grazie al lavoro anche dei tecnici interni è stato possibile inserirla in un network di gestione di sistemi di ricarica a livello europeo uno dei più importanti è stato potenziato anche il servizio della segnaletica è stata acquistata una nuova traccialina e la vecchia era ormai obsoleta era dei primi anni 2000 e dal punto di vista invece di quelli che sono a livello contabile i ricavi variabili il 2020 ha visto una contrazione delle entrate dei parcheggi non indifferente solo in parte sono stati colmati dal fondo covid predisposto dal comune di Osimo la riduzione naturalmente è dovuta al lockdown e alla contrazione della mobilità generale di tutti i cittadini la proiezione del 2021 vede una montata dei ricavi in linea con l'ultimo trimestre del 2020 sicuramente e già ve lo posso dire già adesso non saremo ai livelli del 2019 i ricavi invece del maxiparcheggio onestamente hanno subito una minore flessione dovuta principalmente al numero degli abbonamenti che è rimasto all'incirca lo stesso degli anni precedenti assieme al comune che ha già programmato un importante intervento al maxiparcheggio di ristrutturazione e di messa in sicurezza dell'ultimo piano si stanno adesso attualmente all'interno dell'azienda stiamo analizzando e valutando varie opzioni per il modernamento del sistema completo di ingresso e di controllo di autoveicoli all'interno del parcheggio che onestamente è obsoleto per quanto riguarda la visione strategica e di crescita e gli indirizzi che abbiamo dato all'interno della società da quell'imminente futuro grazie anche all'ottimo servizio che i dipendenti hanno reso nel trasporto scuola bus al comune di Numana si auspica l'ingresso a breve del comune nel capitale della società iniziando magari questo me lo auspico anche personalmente un processo a cui seguiranno gli ingressi di altro comune seguendo l'esperienza appunto di Numana che attualmente è positiva e l'osimo servizio attualmente conta 60 dipendenti un totale di ricavi nel 2020 di 3 milioni 525 mila euro il totale dell'attivo patrimoniale è di 9 milioni 934 mila e il totale dell'indebitamento cioè i mutui i cosiddetti stabilizzati sono all'incirca 3 milioni di cui 2 milioni 500 mila sono il residuo del mutuo che era stato acceso in passato per il fotovoltaico di via Gioggioli che diranno al fine di aumentare la qualità dei servizi resi il grave professionalità di operai ed impiegati sono stati già indetti corsi di formazione di vario genere con istituti specializzati appunto in ambito di formazione aziendale in altra società ha riconfermato meno di un mese fa la certificazione della qualità la 9001 tramite la società di certificazione Larina per il controllo sui processi aziendali nel settore dell'energia calore e nel settore della mobilità e dei parcheggi grazie dottor Angeletti ecco se ci sono domande consigliera Bordoni prego grazie presidente grazie a presidente Angeletti per la stesura la relazione che ha fatto dell'attività due cose velocissime dunque lei ha parlato di costi fisici economia di scala di attività ma non è entrato nel dettaglio di questa economia di scala quale sono e quali sono i benefici che poi ha tratto a livello proprio come posso dire i fatti concreti quindi anche tutti i nuovi processi funzionali amministrativi che avete poi messo in campo questo lo dico perché poi dopo quando andiamo a valutare i bilanci che comunque passano in consiglio comunale noi guardiamo un po' come fa i titolari dell'azienda lei ha fatto un'analisi bellissima noi andiamo alla fine guardiamo un utile lo perdita questo è quello che alla fine rimane un pochino più all'occhio al di là di 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 gestioni che insomma ripeto ha detto però nel concreto non abbiamo ben capito di che cosa si tratta l'altra cosa che invece le volevo chiedere era questa se per quanto riguarda il processo adesso della scuola che ci auguriamo va di piano piano sempre più stabilendosi quindi se riuscite anche con l'acquisto dei nuovi pulmini a a gestire il trasporto in assoluta distanziamento assoluta sicurezza sanitaria per la città di Osimo e poi per tutto l'altro servizio che appunto vi state allargando nei vari comuni e l'ultima cosa per sulla mobilità sulla mobilità chiedo come mai Osimo Servizi non attiva il servizio per le auto elettriche dato che siamo una città green che comunque ci teniamo particolarmente il parcheggio gratuito grazie consigliera Bordoni consigliere Ginetti prego grazie grazie presidente all'amministratore delegato meriterrei che se non sbaglio vorrei chiedere alcune cose riguardo un ambito è quello della razionalizzazione del personale attualmente alla luce di tutto questo all'integrazione di quanto la consigliere a Bordoni ha chiesto quanti sono diciamo quant'è il personale che è in ufficio e quanto invece è il personale addetto ai numerosi vari e complessi servizi che Osimo Servizi eroga nel 2020 qual è stato il contributo aggiuntivo del comune e come è stato formalizzato inoltre spesso si ha la sensazione che vi vengano assegnati direttamente all'ufficio tecnico dei lavori che poi subattattate al terzi in questo momento la Osimo Servizio ha la capacità operativa di espletare qualsiasi servizio venga richiesto oppure a volte si deve far fronte a queste richieste di lavori chiaramente non di elevatissimo costo ma anche altre ditte appunto non avendo all'interno le maestranze addette a tali mansioni a tali servizi da espletare grazie grazie consigliere Ginnetti ci sono altre domande quindi passo la parola al dottor Angeletti per le risposte buonasera alla consigliera Monica Bordoni per quanto riguarda la domanda relativa all'economia di scala che si sono state applicate faccio un piccolo esempio nel 2019 anzi nel 2018 mi scuso la TEA servizi spese per interventi di idraulica 18 mila euro circa in un anno che è la media di quello che erano gli interventi anche degli anni precedenti questo un anno di 16 un anno di 18 mila bene dalla fusione in poi ad esempio quella cifra è stata totalmente abbattuta in quanto idraulici che erano presenti invece nell'osimo servizi hanno svolto quello che era quel lavoro che in passato invece veniva affidato ad una ditta esterna questo per fare un esempio ma allo stesso tempo anche al contrario la parco ad esempio spendeva circa 5 o 7 mila euro per la manutenzione del verde nella zona del maxiparcheggio tirami su quello che era insomma la manutenzione anche del maxiparcheggio in termini di elettricista e in termini anche di manutenzione a livello di muratura e bene quel costo anche quel costo è stato abbattuto completamente perché ora viene svolto da personale che è già all'interno dell'azienda questi sono due semplici esempi di quello che porta all'unione di maestranze di tipo differenti all'interno della stessa società poi faccio anche un altro esempio quello che riguarda ad esempio il disegno tecnico o da parte del geometra che ha preso e che disegna che appunto esegue disegni tecnici all'interno dell'azienda e anche dell'ingegner villani che svolge dei ruoli di no progettazione però tutto quello che riguarda appunto la certificazione energetica e per quello che riguarda anche i controlli sugli impianti del patrimonio comunale che prima erano affidati in manutenzione alla stessa servizio ora è fatto tutto internamente e ultima cosa che è anche l'ufficio amministrativo dove prima la parco come già detto storicamente la contabilità per scelta insomma era esterna veniva fatta esternamente ora invece è stato tutto internalizzato abbattendo il costo dei consulenti di oltre 15 mila euro in un anno in riferimento ai trasporti allora tecnicamente non è che naturalmente c'è il responsabile del settore che segue il trasporto a cui noi ci affidiamo totalmente controllando quello che è il suo operato e non risultano violazioni in termini insomma di quelle che sono le normative del covid quando espresse prontamente l'esigenza in giugno del 2020 dell'acquisto di nove mezzi per far sì che venissero rispettati tutto quello che erano i numeri massimi di trasporto nei famosi 15 minuti prima e dopo l'arrivo il tragitto e noi ci siamo prontamente prontamente mossi per acquistare i mezzi perché perché a settembre ci fu un vero una vera crisi per quanto riguarda i scuolabus disponibili sul mercato parlo di usato perché il nuovo comunque va sempre ordinato non è che ci sono i concessionari di scuolabus ma tutti vengono ordinati al massimo solo a scuolabus pronta consegna e noi ci siamo mossi un po' per tempo possiamo riuscire a comprarne due usati uno nuovo e uno seminuovo tutti otti i mezzi recenti rispetto anche a quella che è la media abbiamo abbassato la media di quelle che sono gli anni che hanno i mezzi e quindi al momento non si riscontrano nessuna violazione in merito né da parte degli utenti né da parte da quelli che sono responsabili né tantomeno dagli autisti che collaborano con la società e in ultimo per quanto riguarda i parcheggi questo credo che sia affidato all'amministrazione perché comunque l'osimo servizi gestisce i parcheggi ma le tariffe e la gestione degli stalli o la trasformazione degli stalli in stalli speciali è affidata dall'amministrazione quindi non è una domanda credo che io abbia la competenza di rispondere se verranno benvengano noi faremo le linee le strisce colorate in maniera diversa per evidenziarlo al massimo potremo mettere la segnaletica dedicata e per quanto riguarda invece saluto anche il consigliere dottor Ginetti la razionalizzazione del personale allora attualmente tra impiegati e operai ci sono circa 50 operai e circa una decina di impiegati tra cui i responsabili dei settori e tra cui anche qualcuno che svolge attività mista ovvero qualche autista svolge anche attività impiegatizia per ciò che riguarda ad esempio il momento in cui vengono ricevute tutte le domande degli scuolabus o la pianificazione di tutti i giri degli scuolabus quindi si alternano tra guidare il mezzo e fare attività di ufficio più o meno il confronto è questo 50 operai tra operai autisti eccetera e 10 circa impiegati per il contributo del comune fu elargito 100.000 euro più o meno ricordo sui 100.000 euro e questo fu fatto ad integrazione insomma credo tramite il fondo covid per le perdite delle società partecipate erano circa 100.000 euro anche se onestamente la perdita rispetto all'incasso come ho già detto nella relazione rispetto all'incasso storico dei parcheggi non è stata coperta totalmente con questi 100.000 euro ok e quindi però in una buona parte avevamo stimato che le perdite ammontavano a quella cifra e il comune poi ha allergito il contributo per quanto riguarda invece l'ultima parte che è l'affidamento a terzi allora attualmente la società svolge in gran parte tutti i servizi internamente e quelle che sono le richieste da parte dell'ufficio tecnico del comune internamente e si avvale solamente per quanto riguarda l'attività di muratura specializzata a volte di ditte di artigiani che vengono insomma chiamati a rotazione non ce n'abbiamo uno in particolare in collaborazione con gli operai della società perché l'addetto all'edilizia insomma all'interno della società lavora prettamente al cimitero per quella che riguarda tutta l'attività cimiteriale in tutti i cimiteri della frazione sia quello centrale che in tutti quelli presenti all'interno della frazione quindi la costruzione di manufatti fonebri le lapide la chiusura delle lapide tutto quello che riguarda insomma l'attività di muratura all'interno dei cimiteri bene non so se dice perfetto a stato chiaro possiamo ringraziare il dottor Jacopo Angeletti congelare e congelare anche lui buonasera grazie anche a lei passiamo adesso al presidente dell'ASSO Luigi Perziani poi l'avvocato Osimani e infine il professor Dario Quattrini vediamo se riusciamo a dare la parola a Luigi Perziani presidente dell'ASSO sentite? sì prego buonasera buonasera a tutti buonasera grazie per l'invito sarò breve perché l'ora è tarda quindi cerchiamo di 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 chiarci mi sono insediato come presidente ASSO nell'agosto 2019 nonostante dopo pochi mesi il periodo diventato difficile causa pandemia da subito abbiamo iniziato ad analizzare le varie procedure zendali in essere per il fine quel momento abbiamo deciso di implementare e migliorare le procedure per la gestione e la fatturazione mensa scolatica e asili e automatizzazione della comunicazione al centro cottura per la preparazione dei pasti così facendo si ha anche un'ottimizzazione del consumo dei materiali materie prime nella preparazione dei pasti stessi a fine mese poi la fatturazione è automatica con metodologie di incasso diversificate tramite RID bancario o bollettino postale le fatture con pagamento RID vengono oggi invariate tramite email risparmiando circa 400 invi postali mensili mentre i bollettini postali tipo 896 hanno l'istruzione dell'incasso in automatico con l'ottimizzazione di risparmio di tempo da parte dell'impiegato ha detto con le registrazioni poi automatico e degli incassi abbiamo un quadro immediato di eventuali insoluti il sistema ci permette di sollecitare i pagamenti in automatico secondo dei criteri stabiliti inizialmente questo tipo di gestione può garantirci un riente di almeno 50% di insoluti rilevati negli anni passati ovviamente per realizzare quanto appena detto si è dovuto acquistare un nuovo gestionale che ci permette di inserire tutte le fatture in contabilità in automatico dopo una lunga analisi con diverse software house ci siamo rivolti alla ditta che già fornisce il gestionale comune di Osimo questo per garantire un futuro una più veloce e diretta collaborazione economica e patrimoniale con il socio unico che è il comune inoltre abbiamo realizzato un nuovo sito Turismo Osimo nel 2020 abbiamo migliorato l'offerta turistica rivisitando il sito web implementando in varie sezioni tipo prenotazioni online delle visite girate video obbligitarie ad effetto con l'utilizzo di tecnologie moderne come droni l'obiettivo è di dare più visibilità alla nostra città cercando di dare un'offerta alle turistiche sempre più accattivanti e esplicativa delle bellezze presenti in nostro territorio e finalmente quando ci si riapriranno le visite ci faremo trovare più accoglienti e organizzati speriamo nonostante il covid e i servizi sociali di prima necessità tipo assistenza domiciliare agli anziani sono stati sempre garantiti nonostante un rispendio energetico ed economico non indifferente per garantire procedure di protocolli sanitari anti covid l'incolumità dei dipendenti e degli utenti è sempre stata la nostra priorità non abbiamo mai avuto nessun caso grave di malattia anche il servizio scolastico l'handicap è stato garantito anche da remoto in dad sono stati garantiti e fatti i centri estivi seguendo le linee guida per l'organizzazione di sicurezza e centri estivi spessi il centro semiresidenziale della Fonte Magna dopo due mesi di chiusura è stato riaperto su richiesta anche dell'area vasta 2 garantendo così appoggio alle famiglie agli assistiti del centro stesso abbiamo garantito a tutti i nostri dipendenti in accordo con le parti sociali ovviamente l'anticipo della cassa integrazione per i mesi di chiusura dovuti a coronavirus personalmente mi sento orgoglioso che siamo riusciti a garantire a tutte le famiglie dei nostri dipendenti eventuali disagi che giornalmente si sentivano invece dai media abbiamo iniziato ad avviare il progetto della rivelazione delle presenze l'azienda in organica ha circa 180 dipendenti con tipologie e luoghi di lavoro molto diversificati quindi molto diversificati con orari brevi anche spezzettati specialmente per l'assistenza a domicilio nonostante ciò è già in cantiere questo programma che a causa del covid non è ancora attivo la nostra premura più presto attivare la tale procedura così facendo permetterà di facilitare anche i nostri dipendenti che ogni mese concludano manualmente la loro presenza ora vorremmo più presto aggiornare l'organizzazione aziendale in ottica di una maggiore efficienza operativa quindi pensiamo che nei prossimi anni modificheremo gli investimenti cercando di investire su informatizzazione per cui noi crediamo molto grazie all'informatizzazione l'obiettivo aziendale è quello di imparare risorse per poi formarle e impiegarle allo sviluppo dei progetti che ad oggi non riusciamo a fare non avendo persone libero da dedicare a questi progetti specifici tipo progetti per il finanziamento regionali nazionali ed europei io qui mi fermerei spero di aver ridato delle informazioni sufficienti per quanto riguarda l'ASSO grazie Presidente ha chiesto la parola al Consigliere Ginnetti grazie grazie Presidente Persiani sarò brevissimo due domande la prima è la seguente perché è stato fatto il concorso per direttore amministrativo che figura che non è mai esistita all'interno dell'azienda speciale e non quello per direttore generale seconda domanda ritiene che l'attuale direttore amministrativo dottoressa Gabanelli abbia l'adeguata professionalità per attualmente per ricoprire il ruolo direttore generale grazie grazie consigliere Ginnetti consigliera Bordoni prego grazie Presidente dunque io volevo fare questa domanda dunque per quanto riguarda la società ASSO all'Ira che è una società sì che si occupa di turismo che si occupa anche di altre attività ma la vocazione principale è un'attività sociale quindi ci piaceva insomma che questa sera il persianici potesse un po' relazionare su quello che è stata a livello sociale no la cittadiosimo quale quale sono state le attività insomma che l'ASSO è stata impegnata a particolar modo in questo particolare e straordinario periodo quindi questo sarebbe stato interessante e sempre per la casa integrazione che avete che quindi facciamo davvero i complimenti che sono riusciti comunque a pagare ugualmente anticipare comunque la casa integrazione le persone che sono rimaste a casa e in quel particolare momento so che comunque avete dovuto mentre le persone erano in casa integrazione anche fare delle assunzioni avete fatto un'assunzione in maniera particolare proprio con una figura covid che doveva fare proprio da tre dell'union tra il comune e l'ASSO stesso quindi credo che la figura di riferimento immagino che sia una figura con delle capacità che non avete trovato all'interno della della vostre quindi del vostro capitale umano chiamiamolo in questa maniera e quindi insomma ecco ci aspettavamo che questa sera questa persona venisse o magari lei avesse lasciata lei quindi la relazione di questo di questa attività che comunque in maniera straordinaria e assunzione altrettanto straordinaria sotto cassa integrazione sia stata fatta l'altra cosa e quindi insomma ecco si ci relaziona un po' questo tipo di attività che 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 fa e se ancora la svolge perché vedo che invece a volte anche a supporto del comune anche per altre attività e quindi insomma immagino che siano anche attività legate al covid che adesso magari se ce lo può spiegare di maniera un attimino più chiara se è possibile e poi in merito a questa posizione avevo fatto anche un accesso agli atti che da distanza di tantissimi mesi non sono riuscita ad avere risposte comprendo la grandissima attività che fate tutti e rispetto appunto del lavoro di di tutti voi però ecco se non appena riuscita anche a evadere le nostre richieste agli altri insomma ci farebbe molto piacere grazie grazie consigliera Bordoni non ci sono altre domande se il presidente Perziani vuole rispondere grazie può attivare l'audio sento adesso mi sentite? sì adesso sì prego dicevo allora in attimo rileggo quello che è il motivo principale perché è stato fatto questo tipo di manovra di assumere un direttore amministrativo perché il dipendente ora pensionato era stato assunto con la qualifica di direttore amministrativo nel ruolo previsto dalla pianta organica cioè pianta organica significa che è un dipendente al 100% può essere assumo tempo quindi è una pianta organica prevista dal direttore amministrativo approvata dalle precedenti amministrazioni quindi la figura da riempire per noi era quella dal direttore amministrativo l'altra domanda era il direttore generale io se volete vi dico anche qua cosa perché abbiamo fatto certe cose per quanto riguarda il direttore generale in ruolo chiave e delicato si stanno predisponendo tutte le procedure idonee per la sua individuazione nel frattempo per la sua attività ordinaria è stato dato l'incarico all'attuale di tutta di la prescia amministrativa per solo 90 giorni per non paralizzare la gestione quotidiana l'ASO poter arrivare al frattempo a scelte confonderate impossibili prima era una scelta di rango inferiore con procedure molto rigide c'è un'ultima cosa che vorrei fare un chiarimento il perché è stato perché è stata una laureata in giurisprudenza perché fra tanti candidati la commissione esterna individuata dalla dottoressa Gabanelli come la migliore inoltre perché nel ruolo del direttore amministrativo come tra l'altro verificabile in altri enti simili la figura richiede una forte preparazione in diritto amministrativo e normative connesse visto i rapporti continui con l'ente locale che non si riducono nella semplice gestione della contabilità compito tra l'altro ricoperto da responsabile totale ecco il motivo delle tre scelte di queste scelte poi l'altro cos'era l'altro della consigliera Bordoni in merito all'attività dell'ASO sui servizi sociali consigliera Bordoni giusto devo ripetere se vuole lo ripeto molto sinteticamente per il discorso del sociale proprio da dire per noi l'attività è un'attività più importante su cui teniamo di più è chiaro che per noi il covid è stato devastante perché più volte abbiamo dovuto trovare soluzioni per la gente che rimaneva a casa malata non potevamo andare a fare visite a domicilio siamo andati lo stesso quindi per noi è stato un periodo molto molto difficile per il sociale però ripeto ci ci interviamo molto dobbiamo molto lavorare su questo aspetto poi c'era la cassa integrazione grazie sì sì allora sulla cassa integrazione anche qui non capisco forse la domanda era perché abbiamo assunto una nuova persona nel periodo che poi è arrivata la cassa integrazione è andata così noi nel reparto turistico c'era bisogno di una persona l'organico non era pieno e abbiamo assunto la persona per il periodo organico poi dopo una volta che è stata assunta in comune serviva una persona da sostituire alla come si chiamava che abbiamo dato via e allora come si è fatto già tante volte da sempre perché c'è un accordo comunale abbiamo dato questa persona al comune come segretario ma è ovvio che quello che forse può sembrare strano perché poi poche settimane siamo andati in cassa integrazione perché nessuno poteva sapere che c'era il covid quindi non è che noi abbiamo fatto una cosa sulla base dell'organico che ci serviva poi è arrivato il covid e ve lo mettere in cassa integrazione ma non c'entra niente con la soluzione che abbiamo fatto di questa persona grazie grazie al presidente Persiani consigliere Bordoni come l'ho detto prima non è un dibattito quindi ritengo ritengo che il presidente abbia abbia chiarito e abbia spiegato e abbia risposto alla sua domanda grazie grazie arrivederci arrivederci presidente bene adesso possiamo passare all'avvocato Antonio Simani amministratore delegato di DEA SPA buonasera a tutti buonasera buonasera avvocato prego alla parola sono un po' stanco faccio con me questa piccola premessa per cui chiedo scusa se magari salto qualche qualche pezzo chiederei anche la condivisione dello schermo perché vorrei presentare anche qualche slide anzitutto due parole su DEA DEA nasce nel 2015 in virtù della normativa europea sull'unbounding funzionale cioè sulla divisione sullo strecciamento tra chi produce energia chi la commercializza e chi la trasporta DEA trasporta energia e lo fa nell'ambito del territorio di Astea abbiamo io sono stato nominato nel giugno del 2017 quindi sono quattro anni ormai che faccio l'amministratore delegato di DEA e in questi quattro anni sono successe parecchie cose l'ultima diciamo quella più diciamo sconvolgente dal punto di vista personale oltre che professionale è stato il covid il covid ci ha impegnato me e Marchetti in maniera pregnante per mesi con riunioni periodiche continue però siamo riusciti ad evitare che ci fossero contagiati in maniera importante nelle due aziende e soprattutto siamo riusciti ad evitare la cassa integrazione noi non abbiamo messo nessuno in cassa integrazione siamo ricorsi allo smart working così come era previsto dai dpcn governativi e essendo stati nominati servizio pubblico essenziale come elettricisti tutti i ragazzi sono stati sul campo in maniera incognabile faccio vedere alcune slide si avvocato mi dicono che se vuole può può condividere cioè può può utilizzare lo schermo allora un attimo solo allora DEA significa quindi distribuzione elettrica adriatica e la composizione societaria come potete vedere prevede il 93% delle azioni in capo ad Astea e il 7% all'azienda servizi di polverici le concessioni elettriche che noi abbiamo riguardano Osimo Recanati e Polverici le concessioni elettriche costituiscono il titolo attraverso il quale noi possiamo trasportare l'energia in questi comuni poi quindi il territorio delle concessioni elettriche come ho detto sono Osimo Recanati e Polverici in questo ambito noi operiamo per quanto invece riguarda gli impianti di distribuzione elettrica noi abbiamo una rite elettrica che è di 1500 km circa due cabine primarie quelle che trasformano l'alta tensione in media e le cabine secondarie che la trasformano in bassa tensione quella che è dentro le nostre case per intenderci sono quelle piccole cabinette che si vedono in giro per quanto riguarda l'energia elettrica distribuita nell'anno 2017 in kilowattora abbiamo distribuito 284 milioni circa di kilowattora per arrivare nel 2020 a 292 milioni l'altra slide riproduce il grafico per quanto riguarda i clienti finali noi abbiamo siamo partiti nel 2017 con 32 588 km clienti finali è la stanchezza come dicevo prima per arrivare oggi a 32 590 i clienti seguono il tasso di urbanizzazione chiaramente quando ci sono periodi di flessione e di crisi è ovvio che l'incremento è minimale per quanto riguarda gli investimenti noi abbiamo investito nel 2017 2 milioni e 288 mila euro per salire a 2 milioni e 3 nel 2018 sostanzialmente uguali nel 2019 1 milione e 9 nel 2020 anche e soprattutto per l'evento covid per quanto riguarda questa è una slide importante per diciamo coloro che lavorano in idea riguarda la qualità del servizio possiamo vedere il numero medio di interruzioni per cliente nel 2010 queste erano 2,5 nel 2011 1,7 per poi per poi decrescere fino al 2017 dove siamo a 0,5 non vedo l'ultima parte perché c'è sopra la durata media in minuti di queste interruzioni nel 2010 sono era di 84 minuti virgola 2 per poi calare nel 2019 a 38 minuti virgola 9 questo è indice di un alto di investimenti che hanno poi portato ad una ottimizzazione del servizio lo stesso sotto è il numero medio delle interruzioni per per cliente con la con la durata media possiamo andare avanti ecco questo è un altro settore che io considero personalmente uno dei settori di maggiore sfruttamento anche nel piano industriale futuro direi che è la pubblica illuminazione noi gestiamo già i comuni di Osimo Recanati Montalupone Santa Marianova Agugliano e Polverigi per complessivi punti luce di oltre 15.000 questa illuminazione pubblica nasce da progetti di finanza il progetto di finanza è un istituto tipico del diritto anglosassone e noi abbiamo usato questo questo strumento per fare all'inizio Montalupone successivamente il comune di Recanati dove abbiamo fatto quello che speriamo di portare quanto prima anche ad Osimo cioè l'efficientamento energetico il cambio a led e soprattutto una illuminazione pubblica anche legata ai monumenti che possa valorizzare la città e dai progetti che ho visto per quanto riguarda la nostra città penso che l'illuminazione pubblica sarà un viso per il futuro quindi la pubblica illuminazione è cosa diversa dal trasporto dell'energia la mia volontà appunto siccome questi contratti durano per svariati anni possono costituire la base per garantire il piano industriale e il mantenimento dell'azienda e il mantenimento dei posti di lavoro questo è quel palo che è comparso per un attimo sarà il punto luce diciamo che sarà montato anche in questa città diviso per territori quindi noi attualmente gestiamo Osimo Re Canati Polverigi Santa Maria Nuova Agugliano e Polverigi abbiamo altri altri progetti per allargarci ad altre città ce l'hanno richiesto ma siccome questi questi progetti vengono fatti con i capitali della nostra società io devo pesare veramente bene tutto quello che vado a intraprendere questi la nostra società è anche legata e qui finisco da ultimo ad una ad una scadenza perché tutte le concessioni hanno una loro durata e la nostra andrà a scadere le nostre tre concessioni andranno a scadere nel 2030 stiamo cercando anche diciamo con l'apporto di altri amministratori di altre città di cercare di costituire delle unioni perché ci sono dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alle aste molto importanti e questo in questa fase appunto stiamo cercando sinergie con altre con altre società di altre città per cercare di raggiungere questo obiettivo mi sembra di avere illustrato per grosse linee un po' tutto e quindi posso rispondere a qualche a qualche domanda o formulata grazie avvocato Simani sì c'è una domanda del consigliere Gallina Fiorini prego grazie presidente saluto e ringrazio il presidente idea l'avvocato Simani visto che accennato al project financing per la sostituzione dei punti luce anche nella città di Osimo io volevo sapere se c'era qualche dettaglio cosa prevede questo progetto quanti punti luce verranno sostituiti con quali tempistiche se è possibile anche avere una stima del risparmio energetico che si otterrà perché credo che la sostituzione preveda l'installazione di punti a luce LED grazie grazie consigliere Gallina Fiorini non ci sono altre domande quindi prego avvocato se vuole rispondere sì per quanto riguarda i punti luce dovrebbero essere 7000 punti luce che diciamo sono un incremento consistente diciamo di quello che è la situazione di oggi tra il primo e il secondo straccio dei lavori quindi diciamo questi questi punti luce ci saranno nell'arco di 3-4 anni tendenzialmente perché noi dobbiamo fare una prima fase attraverso una ulteriore società che ci deve noi facciamo la manutenzione secca poi dobbiamo diciamo provvedere a pagare proprio l'energia elettrica che viene che viene consumata e appunto questa impresa che provvede per la materiale installazione del palo poi faremo un secondo straccio nell'arco come come dicevo di 3 massimo 4 anni il risparmio per fornire una una risposta è sull'ordine del 30 40% rispetto all'attuale questo si riflette un po' su su tutto altre poi dobbiamo spendere abbiamo messo in questo in questo project la somma di euro 500.000 più IVA che dobbiamo spendere per diciamo delle esigenze specifiche che già ci sono state proposte dalla giunta comunale quindi diciamo questa somma è destinata in tempi brevi ad arricchire la città come dicevo prima più che altro con una illuminazione dei vari diciamo edifici di più strategica importanza per il comune sono tutti interventi innovativi con i led e poi la sorpresa però bisognerà vederla pure perché sarà un ottimo lavoro insomma da quello che ho visto io va bene grazie grazie avvocato per la presentazione anche molto esaustiva buonasera e grazie per la pazienza bene adesso possiamo passare all'ultimo amministratore che è il professor Dario Quattrini amministratore unico della TPL eccolo qua vediamo se riusciamo ad accendere l'audio eccolo adesso la sentiamo prego eccolo eccolo qua ok buonasera a tutti buonasera buonasera prego l'ora è tarda Dulcis in fondo d'altronde sono il più anziano amministratore unico delle partecipate un po' di ironia non guasta dunque io sono stato nominato nel settembre del 2019 come amministratore unico della TPL Osimo che gestisce appunto il trasporto pubblico locale con concessioni in house e la TPL tanto per fare una piccola cronistoria è stata costituita nel dicembre del 2015 16 dicembre come ramo d'azienda della partecipata società Parco con conseguente cessione delle quote sociali al comune di Osimo che è appunto socio unico il 26 maggio del 2016 questo affidamento era già era consentito dal regolamento dalla comunità europea 1370 del 2017 pertanto per la società in questione veniva prevista l'accessione al soggetto individuato dalla gara di bacino regionale che però negli anni successivi fino ad oggi non è stata ancora espletata questa decisione appunto è stata presa tanto per ricordarci dal consiglio comunale numero 87 del 39 del 2017 allora siamo arrivati ad oggi e praticamente siamo in direttura d'arrivo praticamente con la recente delibera della giunta numero 62 del 19 4 del 2021 e si procederà appunto all'aggiudicazione definitiva del servizio tramite gara in base appunto al regolamento ex articolo 6 dalla legge regionale numero 6 del 2013 il segretario generale dottor Giulioni ha lavorato leggermente ultimamente alla stesura del bando questo bando appunto sarà gestito dalla sezione unica dalla provincia di Ancona il bando appunto garantisce tutte le salvaguardie possibili riguardanti il servizio del trasporto pubblico e considerando anche le salvaguardie dei dipendenti come previsto appunto dal famoso consiglio comunale del 39 del 2017 allora consentitemi un po' di dirvi brevemente l'utilità sociale di questa decisione di alienare appunto la società allora vi vorrei informare che nel territorio comunale noi tra virgolette abbiamo tre società che aderiscono all'ATMA e dell'elenco Conerobus Contram e SAP che gestiscono il servizio urbano extraurbano e suburbano avendo appunto come l'ATPL delle concessioni chilometriche per cui noi in questo territorio comunale vasto abbiamo praticamente questi tre concorrenti che appunto si sovrappongono al nostro servizio soprattutto sulle direttive da Ancona Macerata e da Ancona Filotrano Loreto Offagna e e a Gugliano allora il problema dove sta cioè noi avevamo chiesto anche di potenziare alcune tratte ma purtroppo siamo vincolati dalla concessione chilometrica che ammonta circa 150.000 chilometri all'anno e siamo blindati da questa concessione avremmo voluto velocizzare la tratta Osimo Centro Ospedale Regionale di Ancona ma questo non è stato possibile appunto perché queste tre società che operano nel territorio comunale anche loro hanno dei contratti chilometri blindati e questo perché la TPL Osimo è l'unica società partecipata del vaccino di Ancona che appunto deve sopportare questi tre concorrenti diciamo per cui ritengo che sia utile questa procedura di gara per migliorare il servizio ai cittadini Osimani perché una volta che appunto il nuovo acquirente vincitore della gara potrà sicuramente migliorare il servizio aumentando le tratte sulle frazioni più importanti dove noi appunto studiamo questa concorrenza dell'elenco per esempio da Aspio San Biagio Osimo Stazione Abbadia Passatempo queste praticamente noi attingiamo poco possiamo ecco i nostri corrispettivi provengono maggiormente dagli studenti delle frazioni più lontane tipo San Patrignano Case Nuove Campo Cavallo e anche appunto dei nostri abbonati carissimi pensionati noi abbiamo appunto delle tariffe agevolate per appunto per i pensionati e poi ritornando al passato io appena assunta la carica e visto un po' quattro conti diciamo dell'attività mi sono subito preoccupato di aumentare il filo bancario che ho portato a 5.000 euro a 15.000 euro e poi dopo pochi mesi siamo incappati in quel disastro della pandemia per cui ci siamo trovati con tutte le difficoltà burocratiche dell'ente comunale anche dell'ente regionale noi viviamo dei proventi in base appunto alle concessioni filometriche di 19.816 euro mensili che provengono appunto sia dalla regione che ha appunto questa concessione di 115 km circa all'anno e i restanti tramite il comune di Osimo per cui noi viviamo di questi proventi più alcune sovvenzioni che ci arrivano in base alla tipologia di di bigliettazione cosa è successo? è successo che grazie a Dio con questo aumento del giro bancario ho potuto garantire la gestione ordinate nel frattempo abbiamo avuto la fortuna di accedere subito al finanziamento garantito dallo Stato di 30.000 euro a tassi agevolatissimi per cui il buon Dio ci ha aiutato abbiamo sempre soddisfatto in questi mesi che sono andati dal marzo fino a tutt'oggi abbiamo garantito i nostri fornitori e insomma il Dio ce l'ha mandato buona se mi consentite una battuta e poi che dire per noi il bilancio del 2019 è stato un po' pesante perché abbiamo avuto una perdita di 59.550 euro ma dovuti ai grandi investimenti grazie al mio predecessore lungimirante Massimo Luna che abbiamo acquistato acquistato acquisto due pullman nuovi con tipologia adatta per questo tipo di servizio urbano uno a gasolio e un altro a metano per cui noi adesso attualmente abbiamo come società cinque dipendenti compreso il coordinatore Agostinelli Geometre Agostinelli che vanta di una lunga esperienza amministrativa e operativa e con cinque automezzi di cui tre sempre operativi uno di riserva e l'altro che ormai comincia a essere obsoleto se lo teniamo come super riserva questi di questi tre bus specifici appunto per questa tipologia di servizio urbano e superurbano due a metano e uno a gasolio euro cinque i mezzi sono ottimi abbiamo potuto sempre garantire senza interruzioni di servizio appunto garantendo sempre e rispettando sempre tutte le normative di sicurezza in base a tutti i PCM ricordo che il primo PCM che abbiamo fatto in azienda è il risale al 24 febbraio 2020 e poi ci siamo sempre adeguati con tutte le barriere antifiato tutti questi provvedimenti che ci ha costato anche non poco però la sicurezza l'abbiamo messa sempre al primo punto considerando anche che come impatto ambientale siamo un po' all'avanguardia due mezzi a metano non inquinano ci fanno risparmiare soldi sulla manitura del carburante niente la storia adesso ci aggiungiamo a questa gara sperando appunto che entro due tre anni poi la gara di bacino regionale verrà verrà conclusa e niente ci auguriamo ci auguriamo che tutto vada a buon fine sempre per il bene dei nostri cittadini perché con questa manovra noi ripeto possiamo garantire i migliori servizi ai cittadini grazie grazie professor Quattrini c'è una domanda dal consigliere Ginnetti prego prego consigliere grazie buonasera buonasera buonanotte ormai esatto bravissimo buonanotte del risultato l'esercizio negativo ha detto ha spiegato anche il motivo anche su questo da dibattere ma non è l'ora però abbiamo visto che c'è una perizia che attesta un patrimonio netto negativo sì certo come è scritto anche nella delibera che attualmente diventa la delibera è molto chiara sì appunto e come mai appunto crede che ah scusi no devo fare due domande sì prendere le quote facilmente oppure quindi ci sono trattative in corso mi augurerei di sì e se questo questo dato possa in qualche modo influire in maniera negativa sulla vicenda l'altra invece riguarda i due i due bus nuovi bus che sono stati acquistati se non erro con un contributo regionale dell'ottanta per cento con un ammortamento di dieci o dodici anni se non ricordo bene in caso venga sceduta si passa al nuovo acquirente tale chiaramente tale diciamo agevolazione oppure devono essere riconsegnate riconsegnate la cifra relativa al al contributo regionale grazie grazie consigliere Ginetti prego può rispondere la ringrazio dottore e dunque per quanto riguarda la buona notizia che l'esercizio che è provvisorio dell'anno 2020 già è positivo sarà positivo nonostante appunto la pandemia devo aggiungere anche che dopo alcuni mesi abbiamo fortunatamente per ora ricevuto 9.644 euro di ristori per quanto riguarda il finanziamento dei due bus noi stiamo pagando due motri stiamo ammortizzando complessivi di 170 milioni per tutti e due e per quanto riguarda la la cessione ma il valore diciamo è quello da considerare è il valore della concessione di questa piccola società che ambita per quanto riguarda i mezzi i mezzi verranno trasferiti ceduti normalmente al nuovo acquirente di vincitore di gara e questo nonostante passivo diciamo dovuto all'estimo fatto dal commercialista marchigiani non non precure questa vendita perché appunto noi cederemo un ottimo parco mezzi due terzi che non inquinano che consumano poco anzi le dirò di più che la gara d'appalto prevede anche tutele riguardanti l'utilizzo specifico di questi mezzi e che non possono essere adibiti ad altri servizi che non siano quelli del trasporto pubblico per cui nel bando prevede tutte le garanzie massiche tutte le salvaguardie massime ecco mi fanno sceno di stringere comunque penso di aver detto tutto vista un'ora tarda grazie mille è stato chiarissimo non ci sono altre domande quindi possiamo salutarla e congedarla e ringraziarla per la pazienza è stato un onore saluto tutti se ci sono tutti i presenti del consiglio sì sì sono ancora molti presenti buonanotte a tutti buonanotte buona salute a tutti soprattutto grazie con questo possiamo chiudere il consiglio comunale ci vediamo al prossimo consiglio comunale e buonanotte a tutti grazie a tutti